Gropp La storia della fuga di Fred e George fu ripetuta così spesso nei giorni successivi che, Harry ne era sicuro, presto sarebbe diventata leggenda a Hogwarts. Nel giro di una settimana, perfino coloro che avevano assistito alla scena erano quasi convinti di aver visto i gemelli scendere in picchiata sulla Umbridge con le loro scope e tempestarla di cacca bombe prima di sfrecciare fuori dal portone. Già molti parlavano di imitarli, Harry sentì diversi studenti fare battute del tipo «Certi giorni avrei proprio voglia di saltare sulla scopa e piantare questo posto» o «Un'altra lezione del genere e me la svigno come i Weasley». Fred e George avevano fatto in modo che nessuno potesse dimenticarli troppo presto. Per cominciare non avevano lasciato istruzioni su come disfarsi della palude che al momento riempiva il corridoio al quinto piano dell'ala est. La Umbridge e Filch tentarono in tutti i modi, ma senza successo. Alla fine la zona fu recintata e Filch, digrignando furiosamente i denti, doveva traghettare gli studenti verso le aule. Harry era sicuro che insegnanti come la McGonagall o Flitwick sarebbero stati capaci di eliminarla in un baleno, ma come nel caso dei fuochi forsennati, sembrava che preferissero stare a guardare le inutili fatiche della Umbridge. Poi c'erano i due grossi squarci a forma di scopa nella porta dell'ufficio della preside, aperti dalle tornado di Fred e George nella fretta di raggiungere i loro padroni. Filch sostituì la porta e trasportò la firebolt di Harry nei sotterranei, dove girava voce che la Umbridge avesse messo di guardia una squadra di troll armati fino ai denti. Ma i suoi guai erano appena cominciati. Ispirati dall'esempio di Fred e George, parecchi studenti, avevano deciso di entrare in lizza per la posizione da poco vacante di combina disastri in capo. Nonostante la porta nuova, qualcuno riuscì a infilare nell'ufficio della Umbridge uno snaso dal grugno peloso, che prima demolì la stanza alla ricerca di oggetti luccicanti e poi, quando lei entrò, le saltò addosso e tentò di strapparle a morsi gli anelli dalle dita tozze. Il lancio di cacabombe pallotto le puzzole nei corridoi era così frequente che per assicurarsi una provvista d'aria fresca, gli studenti presero l'abitudine di eseguire su se stessi un incantesimo testa bolla prima di uscire dalle aule, anche se così sembrava che avessero infilato la testa dentro una boccia per pesci rossi. Filch si aggirava per i corridoi brandendo una frusta, ansioso di usarla sui colpevoli, ma ce n'erano così tanti che non sapeva da chi cominciare. La squadra di inquisizione tentava di aiutarlo, ma ai suoi componenti continuavano a capitare gli incidenti più strani. Warrington, della squadra di Quidditch di Serpeverde, fu ricoverato in infermeria con un'orribile malattia della pelle, che pareva ricoperta di fiocchi d'avena, e il giorno dopo, con grande gioia di ermione, Penzi Parkinson saltò tutte le lezioni perché l'era spuntato un imponente palco di corna. Nel frattempo divenne chiaro che prima di lasciare Hogwarts, Fred e George erano riusciti a vendere una consistente provvista di merendine marinare. Appena la Umbridge entrava in classe, gli studenti cominciavano a svenire, vomitare, avvampare di febbre, perdere sangue dal naso. Strillando di rabbia e di frustrazione, lei cercò di risalire alla causa dei sintomi misteriosi, ma gli allievi continuavano a ripetere ostinati di essere afflitti da ambrigite. Alla fine, dopo aver messo in castigo quattro classi una dopo l'altra senza riuscire a scoprire il loro segreto, fu costretta a permettere agli studenti sanguinanti, vacillanti, febbricitanti o vomitanti di lasciare l'aula in blocco. Ma nemmeno i consumatori di merendine marinare potevano competere col signore del caos, Peeves, che evidentemente aveva preso a cuore le parole di congedo di Fred. Ridacchiando come un folle, sfrecciava per la scuola rovesciando tavoli, sbucando a sorpresa dalle lavagne, capovolgendo statue e vasi, e per ben due volte chiuse Mrs. Norris dentro un'armatura, dalla quale fu estratta un lulante dal custode furioso. Peeves frantumava lanterne e spegneva candele, faceva volteggiare torce fiammeggianti sulle teste degli studenti atterriti, scagliava ordinate pile di pergamene tra le fiamme o fuori dalla finestra. Aprì tutti i rubinetti dei bagni, inondando il secondo piano. Rovesciò un sacco pieno di tarantole in mezzo alla sala grande, durante la colazione, e quando aveva voglia di rilassarsi, svolazzava per ore dietro la Umbridge, facendole una pernacchia ogni volta che lei apriva bocca. Di tutto il personale, soltanto Filch sembrava intenzionato ad aiutarla. Addirittura, una settimana dopo la fuga di Fred e George, Harry vide la professoressa McGonagall passare accanto a Peeves, che trafficava intorno a un lampadario di cristallo, e poteva giurare di averla sentita sussurrare al poltergeist. «Si svita dall'altra parte!» Inoltre, Montague non si era ripreso dal suo soggiorno nel gabinetto. Era ancora confuso e disorientato, e un martedì mattina si videro i suoi genitori salire per il viale, furibondi. «Credete che dovremmo dire qualcosa?» chiese Ermione preoccupata, premendo la guancia contro la finestra dell'aula di incantesimi e guardando i signori Montague varcare il portone a passo di marcia. «Di quello che gli è successo, voglio dire, magari può aiutare Madame Pomfrey a curarlo.» «Certo che no, prima o poi guarirà», disse Ron indifferente. «E poi è un problema in più per la Umbridge, no?» aggiunse soddisfatto Harry. Lui e Ron toccarono con la punta della bacchetta le tazze da tè che avrebbero dovuto trasfigurare. A quella di Harry spuntarono quattro corte zampette, che non riuscirono a raggiungere il ripiano del tavolo e si agitarono impotenti a mezz'aria. Quella di Ron, invece, si sollevò per pochi secondi su quattro lunghe vacillanti zampe sottili, che di colpo cedettero e si afflosciarono, spaccandola in due. «Reparo!» disse svelta Ermione, rimettendola insieme con un gesto della bacchetta. «D'accordo, ma se non guarisse? E chi se ne frega!» replicò irritato Ron, mentre la sua tazza si rialzava barcollando, come ubriaca, con le ginocchia che tremavano forte. «Non avrebbe dovuto cercare di togliere punti a grifondoro. Se vuoi preoccuparti per qualcuno, Ermione, preoccupati per me!» «Per te!» Ermione riacchiappò la propria tazza, che zampettava vispa sul tavolo su piccole zampe robuste bianche e lui. «E perché dovrei?» «Quando la lettera della mamma riuscirà a superare il controllo della Umbridge», disse amaro Ron, tenendo la sua tazza mentre le fragili zampe cercavano in vano di leggerla, «sarò nei guai fino al collo. Non mi stupirebbe ricevere un'altra strillettera. Ma dirà che è colpa mia se Fred e George se ne sono andati. Dirà che avrei dovuto impedirglielo, aggrapparmi alle loro scope o qualcosa del genere. Sì, sarà tutta colpa mia. Ma sarebbe un'ingiustizia. Tu non potevi farci niente. Sono sicura che non lo dirà. Se è vero che hanno aperto un negozio a Diagonalley, devono aver progettato tutto da secoli. Già, e c'è un'altra cosa. Come si sono procurati i locali?» disse Ron, battendo la bacchetta sulla tazza con tanta energia che li si piegarono di nuovo le zampe e crollò agitandosi davanti a lui. «È un po' strano, non trovi? Servono galeoni appalate per affittare un posto a Diagonalley. E lei vorrà sapere come sono riusciti a mettere le mani su tanto oro. Sì, me lo sono chiesta anch'io», disse Ermione, facendo correre la sua tazza in piccoli cerchi precisi intorno a quella di Harry, le cui zampette tozze ancora non riuscivano a toccare la scrivania. «Magari Mandangus li ha convinti a vendere merci rubate o fare altre cose orribili. Mandangus non c'entra», intervenne brusco Harry. «Come fai a saperlo?» chiesero in coro Ron e Ermione. «Ecco...» Harry esitò, ma il momento della confessione era finalmente arrivato. Non aveva senso mantenere il segreto e lasciare che tutti sospettassero Fred e George di essere due criminali. «Glielo ho dato io, l'oro, quello che ho vinto al torneo tre maghi lo scorso giugno». Calò un silenzio sbigottito. Poi la tazza di Ermione trotterellò oltre il bordo del tavolo e si infranse sul pavimento. «Oh, Harry, non ci credo», esclamò Ermione. «Invece sì», replicò Harry in tono ribelle, «e non sono affatto pentito. A me non serviva e loro apriranno un negozio fantastico». «Ma è magnifico!» esultò Ron. «Quindi è tutta colpa tua, Harry. La mamma non potrà prendersela con me. Posso dirglielo?» «Sì, forse è meglio», borbottò Harry. «Almeno non penserà che fanno i ricettatori di calderoni rubati». Ermione non fiatò per il resto della lezione, ma Harry nutriva forti sospetti che il suo silenzio non sarebbe durato a lungo. Infatti, nell'intervallo, quando uscirono dal castello nel debole sole di maggio, lei lo fissò con sguardo penetrante e aprì la bocca con aria determinata. Harry l'anticipò, senza lasciarle il tempo di dire una sola parola. «È inutile che mi rimproveri. Ormai è cosa fatta. Fred e George hanno preso l'oro e ne hanno anche già speso un bel po' e io non posso ne voglio chiedere di restituirmelo, quindi risparmia il fiato, Ermione». «Non volevo parlare di Fred e George», protestò lei offesa. Ron sbuffò incredulo e si guadagnò un'occhiataccia. «Davvero?» insiste Ermione arrabbiata. «Volevo domandare a Harry quando pensa di tornare da Piton per chiedergli di riprendere le lezioni di occlumanzia». Harry si sentì sprofondare. Una volta esaurito il tema della teatrale partenza di Fred e George, e c'erano volute diverse ore, Ron e Ermione gli avevano chiesto notizie di Sirius. Harry non voleva parlare del vero motivo per cui lo aveva cercato e, non venendogli in mente altro, aveva finito per confessare, con onestà, che Sirius gli aveva raccomandato di riprendere le lezioni di occlumanzia. Se n'era pentito all'istante. Da allora Ermione aveva continuato a insistere, tornando sull'argomento quando lui meno se lo aspettava. «E non dirmi che hai smesso di fare sogni strani», disse, «perché Ron mi ha detto che ieri notte borbottavi di nuovo nel sonno». Harry scoccò un'occhiataccia a Ron, che ebbe il buon gusto di sentirsi un po' in colpa. «Borbottavi solo un pochino», bofonchiò in tono di scusa, «qualcosa tipo più avanti». «Sognavo di vederti giocare a Quidditch», mentì spudoratamente Harry, «e ti dicevo di sporgerti di più per prendere la pluffa». Le orecchie di Ron diventarono scarlatte e Harry provò una sorta di gioia vendicativa. La notte prima aveva percorso ancora una volta il corridoio dell'ufficio misteri. Aveva attraversato la stanza circolare, poi quella piena di ticchettii e luci danzanti, fino a trovarsi di nuovo dentro lo stanzone zeppo di scaffali ricolmi di polverose sfere di vetro. Aveva puntato deciso verso la fila numero 97 e voltato a sinistra, accelerando il passo, probabilmente era stato allora che aveva parlato a voce alta, «più avanti», perché aveva sentito che il suo io conscio si stava per svegliare, e prima di arrivare in fondo al corridoio si era ritrovato a letto, a fissare il baldacchino. «Ci provi a bloccare la mente, vero?» insiste Ermione con sguardo penetrante. «Continui a fare gli esercizi di occlumanzia?» «Ma certo!» rispose Harry, sforzandosi di sembrare offeso dalla domanda, ma evitando di guardarla negli occhi. Il fatto era che la curiosità di sapere che cosa si nascondeva nello stanzone, pieno di sfere polverose, gli faceva desiderare di proseguire i sogni. Ma un mese dagli esami, con ogni momento libero dedicato al ripasso, aveva la mente così satura di informazioni che quando andava a letto faceva molta fatica a prendere sonno. E quando ci riusciva, quasi tutte le notti, il suo cervello sovraccarico gli rifilava stupidi sogni sugli esami. In più, sospettava che quando percorreva il corridoio verso la Porta Nera, una parte della sua mente, quella che ogni tanto parlava con la voce di Ermione, si sentisse in colpa e cercasse perciò di svegliarlo prima della conclusione. «Sai», disse Ron, le orecchie ancora paonazze, «se Montague non si riprende prima della partita fra serpe verde e tassofrasso, forse abbiamo una possibilità di vincere la Coppa». «Sì, è possibile», annui Harry, lieto di cambiare argomento. «Insomma, ne abbiamo vinta una e persa un'altra. Se sabato prossimo serpe verde perde contro tassofrasso?» «Sì, hai ragione», disse Harry senza nemmeno rendersi conto di quello che diceva. Cho Chan aveva appena attraversato il cortile, evitando con cura di guardarlo. La partita conclusiva della stagione di Quidditch, Grifondoro contro Corvo Nero, si sarebbe svolta l'ultimo fine settimana di maggio. Serpe verde era stata sconfitta di misura da tassofrasso, ma Grifondoro non osava sperare in una vittoria, soprattutto per colpa, anche se naturalmente nessuno glielo diceva, delle disastrose prestazioni del suo portiere. Ron sembrava tuttavia pervaso da un insolito ottimismo. «Insomma, non posso andare peggio di così, no?» disse Torvo a Harry e a Ermione la mattina della partita, a colazione. «Non ho più niente da perdere, ecco». «Sai», disse un po' più tardi Ermione e a Harry, mentre scendevano verso il campo insieme a una folla elettrizzata. «Secondo me Ron se la caverà meglio senza Fred e George fra i piedi. Non gli hanno mai dato molta fiducia». Luna Lovegood passò accanto a loro. Sulla testa aveva qualcosa di simile a un'aquila viva. «Oh cielo, ci mancava anche questa», disse Ermione guardando l'aquila agitare le ali. Luna superò imperturbabile un gruppo di serpeverde che la additarono sghignazzando. «Gioca anche ciò, vero?» Harry, che non lo aveva dimenticato, rispose con un grugnito. Trovarono due posti nella penultima fila in alto delle tribune. Era una bella giornata limpida. Ron non avrebbe potuto desiderare di meglio e Harry sperò contro ogni ragione che non desse motivo ai serpeverde di intonare altri «Perché Weasley è il nostro re!». Il commentatore era come al solito Lee Jordan, che però, dalla partenza di Fred e George, era decisamente giù di tono. Quando le squadre scesero in campo, annunciò il nome dei giocatori senza la consueta passione. «Bradley! Davis! Chan!». Quando ciò passò, con i lucenti capelli neri mossi dalla brezza, lo stomaco di Harry fece un abbozzo di capriola, più una sorta di fiacco sussulto. Non sapeva più che cosa voleva, ma di sicuro non altri litigi. Perfino vederla chiacchierare con Roger Davis mentre si preparavano a inforcare le scope, gli provocò solo una punta di gelosia. «Partiti!» disse Lee. Davis si impadronisce della pluffa. Il capitano di Corvo Nero, Davis, ha la pluffa. Schiva Johnson, schiva Bell! Schiva anche Spinet! Vola dritto in rete! Sta per tirare e... e...» Lee imprecò sonoramente. «E segna!» Harry e Hermione gemettero insieme agli altri grifondoro. Prevedibilmente, orrendamente, sulla tribuna di fronte, gli odiosi serpeverde attaccarono in coro. «Perché Weasley è il nostro re! Ogni due ne manca tre!» «Harry!» sussurrò una voce roca all'orecchio di Harry. «Hermione!» Harry si voltò e vide il faccione barbuto di Hagrid spuntare fra i sedili. A quanto pareva, si era fatto spazio nella fila dietro di loro, perché i suoi occupanti, studenti del primo e del secondo anno, avevano un'aria vagamente scompigliata e appiattita. Per chissà quale motivo, Hagrid stava curvo come se volesse passare inosservato, ma anche così sovrastava chiunque altro di almeno un metro. «Sentite, bisbiglio, ci venite con me, ora, subito, intanto che tutti guardano la partita!» «Non si può aspettare», chiese Harry, «fino alla fine». «No, no, deve essere adesso, intanto che nessuno ci vede, per favore!» Hagrid perdeva sangue dal naso e aveva tutti e due gli occhi pesti. Harry non lo vedeva così da vicino dal suo ritorno a scuola. Era conciato proprio malissimo. «D'accordo», si affrettò a dire, «certo che veniamo». Lui e Ermione uscirono dalla fila, provocando parecchi mugugni. Quelli nella fila di Hagrid, invece, non si lamentarono. Si fecero solo più piccoli possibile. «Grazie davvero, vi ringrazio tantissimo, voi due», disse Hagrid quando raggiunsero le scale. Mentre scendevano, continuava a guardarsi attorno, nervoso. «Spero solo che quella non si accorge che ce ne andiamo». «La Umbridge?» Harry scosse il capo. «Non se ne accorgerà. Si è portata dietro la squadra d'inquisizione al completo, non hai visto? Probabilmente si aspetta qualche guaio durante la partita». «Sì, beh, un po' di confusione, mica ci starebbe male!» Hagrid si soffermò a sbilciare dietro le tribune, per accertarsi che il prato fosse deserto. «Così ci abbiamo più tempo!» «Che cosa succede, Hagrid?» chiese Ermione, fissandolo ansiosa mentre puntavano a passo rapido verso la foresta. «Lo vedete fra poco», rispose Hagrid. Voltò la testa sentendo un boato esplodere dalla tribuna dietro di loro. «Ehi, qualcuno ha segnato!» «Corvo nero, probabilmente», disse cupo a Harry. «Bene, bene», borbottò distrattamente Hagrid. «Bene». Furono costretti a correre per tenerli dietro attraverso il prato, voltandosi a ogni passo per guardarsi alle spalle. arrivati all'altezza della capanna, Ermione puntò automaticamente verso la porta, ma Hagrid proseguì, tuffandosi nell'ombra dei primi alberi, dove si fermò a recuperare un arco appoggiato a un tronco. Quando si rese conto che non lo avevano seguito, si voltò. «E' qui dentro che andiamo», disse con un cenno della testa arruffata. «Nella foresta?» chiese Ermione perplessa. «Sì, presto, prima che qualcuno ci vede!» Harry e Ermione si scambiarono un'occhiata e poi corsero per raggiungere Hagrid, che si stava già inoltrando nella penombra, con l'arco a tracolla. «Hagrid, perché sei armato?» chiese Harry. «È solo per prudenza», rispose Hagrid scrollando le spalle massicce. «Il giorno che ci hai mostrato i testral non hai portato l'arco», obiettò Ermione. «Allora mica ci siamo andati molto dentro, ed era prima che Firenze veniva via, no?» «E questo che cosa c'entra?» chiese Ermione. «C'entra che adesso i centauri ce l'hanno con me», rispose Hagrid, guardandosi attorno. «Non è che prima eravamo amici, però andavamo abbastanza d'accordo. Se ne stavano per conto loro, questo sì, ma erano sempre pronti a farsi quattro chiacchiere. Adesso no!» sospirò a fondo. «Firenze ha detto che sono furiosi perché ha accettato di lavorare per Silente», disse Harry, così intento a fissare il profilo di Hagrid che inciampò in una radice. «Sicuro?» rispose Hagrid. «Beh, furiosi e poco, lividi di rabbia. Se non ci capitavo io, scommetto che lo picchiavano a morte». «L'hanno picchiato!» Ermione era sconvolta. «Altro che...» borbottò Hagrid, facendosi strada fra i rami più bassi. «Aveva addosso mezzo branco!» «E tu li hai fermati?» chiese Harry impressionato. «Tutto da solo!» «Sicuro che li ho fermati! Mica potevo star lì a guardare che lo ammazzavano! E meno male che passavo da quelle parti! Firenze poteva anche ricordarselo prima di mandarmi messaggi scemi!» aggiunse con inaspettata veemenza. Harry e Ermione si scambiarono un'occhiata stupita, ma Hagrid si accigliò e non aggiunse altro. «Comunque», riprese dopo un po', col respiro più affannoso del solito, «adesso gli altri centauri sono arrabbiatissimi con me e il guaio è che contano parecchio nella foresta. Sono i tipi più svegli da queste parti!» «È per questo che siamo venuti?» chiese Ermione. «Per i centauri?» «No, no!» Hagrid scosse la testa. «Non per loro! Insomma, sicuro! Magari loro complicano le cose, sì! Ma fra poco lo vedete da soli cos'è che è!» Con questo commento incomprensibile si rimise in marcia. Faceva un passo ogni tre dei loro e li costrinse a correre per tenerli dietro. Via via che si addentravano, il sentiero era sempre più coperto di erbacce e gli alberi erano così fitti da avvolgerli in un'oscurità simile al crepuscolo. In breve furono molto lontani dalla radura dove avevano incontrato i Testral, ma Harry rimase tranquillo finché Hagrid non abbandonò a sorpresa il sentiero e prese a zigzagare fra gli alberi, verso il cuore tenebroso della foresta. «Hagrid!» chiamò, facendosi strada in un groviglio di rovi che Hagrid aveva scavalcato senza problemi, e ricordando fin troppo bene che cos'era successo l'ultima volta che aveva abbandonato il sentiero. «Dove andiamo?» «Ci manca poco!» rispose Hagrid voltando la testa. «Sbrigati, Harry! Dobbiamo stare vicini adesso!» Era molto faticoso perché i rami e i cespugli spinosi che Hagrid attraversava come se fossero ragnatele si avvinghiavano ai vestiti di Harry e Ermione, al punto che ogni volta ci volevano minuti per districarsi. In breve, Harry ebbe braccia e gambe coperte di graffi e tagli. Ormai la foresta era così buia che di Hagrid vedeva solo una massiccia sagoma scura davanti a sé. In quel silenzio soffocato ogni suono sembrava minaccioso. Lo schiocco di un ramo spezzato diventava un'esplosione e il più piccolo fuscio, anche se a provocarlo era un passerotto innocente, spingeva Harry a scrutare ansioso le ombre. Gli venne in mente che non si era mai spinto così all'interno della foresta senza incontrare qualche creatura e di colpo la loro assenza gli parve estremamente sospetta. «Hagrid, va bene se accendiamo le bacchette?» sussurrò Ermione. «Sì, certo!» sussurrò di rimando Hagrid. «Anzi!» Si fermò all'improvviso e si voltò. Ermione andò a sbattergli contro e sarebbe finita a terra se Harry non l'avesse sorretta. «Forse è meglio che adesso vi spiego che roba è!» disse Hagrid. «Prima che arriviamo, ecco!» «Bene!» disse Ermione. Poi lei e Harry mormorarono «Lumos!» e la punta delle bacchette si illuminò. Alla luce dei due raggi fiocchi il faccione di Hagrid parve galleggiare nella penombra e ancora una volta Harry notò quanto fosse nervoso e triste. «Bene!» disse. «Beh, vedete, il fatto è...» trasse un gran respiro. «Allora, lo sapete che è probabile che mi licenziano da un giorno all'altro!» esordì. Harry e Ermione si scambiarono un'occhiata e tornarono a guardarlo. «Ma hai resistito finora!» disse incerta Ermione. «Che cosa ti fa credere?» «La Umbridge pensa che ce l'ho messo io, quello snaso nel suo ufficio!» «Sei stato tu?» chiese Harry senza riuscire a trattenersi. «Proprio no, maledizione!» si indignò Hagrid. «Ma siccome che era una creatura magica, lei pensa che c'entro io! E poi è da quando sono tornato che cerca una scusa per farmi fuori. Non che me ne voglio andare, no, ma se non era per... beh, un motivo speciale, quello che adesso vi spiego, piantavo tutto adesso, senza darci il modo di cacciarmi davanti a tutta la scuola, come con la trelonei!» Zitti le loro proteste con un cenno della grossa mano. «Non è la fine del mondo, sapete. Una volta che sono fuori di qui posso aiutare Silente, essere utile all'ordine. E poi voi altri avete la grabliplenca, avete. Nessun problema per gli esami!» Gli si spezzò la voce. «Non vi preoccupate per me!» disse in fretta quando Ermione fece per accraezzargli un braccio. Sfilò il suo enorme fazzoletto a pallini dalla tasca del panciotto e si asciugò gli occhi. «Sentite, non ve ne parlavo se proprio non c'ero costretto. Vedete, se me ne vado... insomma, non posso andarmene senza... senza dirlo a qualcuno, perché ho bisogno che mi aiutate, voi due, e anche Ron, se vuole. «Certo che ti aiuteremo», rispose subito Harry. «Cosa vuoi che facciamo?» Hagrid tirò rumorosamente su col naso e senza parlare gli assestò una pacca così energica da scaraventarlo contro un albero. «Lo sapevo che dicevate di sì», borbottò nel fazzoletto, «ma non lo dimenticherò mai. Ecco, venite ancora un po' da questa parte, attenti alle ortiche». Proseguirono in silenzio per un altro quarto d'ora. Harry stava per chiedere quanto mancava ancora, quando Hagrid alzò il braccio destro e si fermò. «Calma», bisbigliò, «fate piano ora». Si fecero avanti cauti. Harry scorse di fronte a loro un gran cumulo di terra liscia, alto quasi quanto Hagrid, e trattenne il fiato al pensiero che fosse la tana di qualche bestia enorme. Gli alberi tutto attorno erano stati sradicati e il cumulo spiccava al centro di uno spiazzo spoglio, circondato da mucchi di tronchi e di rami che formavano una specie di barricata, dietro la quale si trovavano loro tre. «Dorme», sussurrò Hagrid. In effetti Harry sentì un rombo ritmico, lontano, che faceva pensare al lavorio di due polmoni giganteschi. Harry lanciò un'occhiata di sbieco a Hermione e la vide guardare a bocca aperta il cumulo. Era atterrita. «Hagrid?», chiese in un sussurro appena audibile al di sopra del ronfare della creatura. «Chi è?». A Harry parve una domanda strana. «Cos'è?», aveva pensato di chiedere lui. «Hagrid, ci avevi detto», riprese Hermione con la bacchetta che le tremava in mano. «Ci avevi detto che nessuno di loro era voluto venire?». Harry spostò lo sguardo da lei a Hagrid e poi, afferrando di colpo la situazione, tornò a fissare inorridito il cumulo. Perché quel cumulo di terra, su cui si sarebbero potuti sedere comodamente lui, Hermione e Hagrid, si sollevava e si abbassava piano al ritmo di quel profondo e roco respiro. Non era affatto un cumulo, ma la schiena di quello che era senza alcun dubbio... «Beh, ecco, veramente non è che lui voleva venire», disse Hagrid disperato. «Ma dovevo portarlo qui, Hermione, dovevo!» «Ma perché?», chiese lei. Sembrava sul punto di scoppiare in lacrime. «Perché?» «Oh, Hagrid!» «Perché sapevo che se lo portavo qui», rispose Hagrid, e anche lui era lì lì per mettersi a piangere, «e gli insegnavo le buone maniere. Poi potevo far vedere a tutti che non fa niente!» «Non fa niente!», strillò Hermione. Hagrid le fece freneticamente cenno di abbassare la voce, mentre la gigantesca creatura davanti a loro grugneva e si rigirava nel sonno. «È lui che continua a picchiarti, vero? Ecco perché sei sempre coperto di dividi e di ferite!» «È che non conosce la sua forza, ecco», protestò Hagrid, «e poi adesso va meglio, si agita molto meno!» «Allora è per questo che ci hai messo due mesi a tornare!» disse Hermione, sempre più agitata. «Ma Hagrid, perché te lo sei portato dietro se lui non voleva? Non sarebbe stato più felice con quelli come lui?» «Lo trattavano male, Hermione, perché è piccolo!» «Piccolo?» ripetè Hermione. «Piccolo?» Hermione, non potevo abbandonarlo. Ormai le lacrime scorrevano sulla faccia sfregiata e sulla barba di Hagrid. «Lui è mio fratello, capisci!» Hermione lo fissò a bocca aperta. «Quando dici fratello, chiese Harry lentamente, intendi dire...» «Insomma, fratellastro!» si corresse Hagrid. «Il fatto è che dopo aver lasciato il mio papà, la mamma si è messa con un altro gigante e ha avuto gropp!» «Gropp?» ripete Harry. «Sì, insomma, quando dice il suo nome suona proprio così!» continuò Hagrid ansioso. «Non sa parlare tanto bene, capite? Ci sto provando a insegnarci, però ecco, non è che ci piaceva più di quanto ci piacevo io. Per le gigantesse è importante avere dei bei cuccioli robusti e lui è sempre stato gracilino, neanche cinque metri!» «Oh sì, microscopico!» squittì Hermione con una sorta di sarcasmo isterico, proprio minuscolo. «Lo prendevano tutti a calci, non potevo lasciarlo!» «E Madame Maxim era d'accordo?» indagò Harry. «Lei ha capito che per me era importante!» Hagrid si torse le grosse mani. «Ma, beh, dopo un po' si è stancata di avercelo intorno e nel viaggio di ritorno ci siamo separati, però mi ha promesso di non dirlo a nessuno!» «Come hai fatto a portarlo qui senza farti vedere?» chiese Harry. «È per questo che ci ho messo tanto, capisci? sì! Potevo viaggiare solo di notte e dove non c'era gente. Quando vuole cammina svelto, ma lui cercava di tornare indietro!» «Ma, Hagrid, perché non lo hai lasciato?» disse Hermione, affrosciandosi su un albero sradicato e nascondendo il volto tra le mani. «Che cosa credi di fare con un gigante violento che non vuole nemmeno stare qui?» «Su, su, violento! Non esageriamo!» disse Hagrid, sempre torcendosi le mani. «Sì, ogni tanto mi dà uno schiaffone. quando ci gira storta. Ma adesso va meglio, molto meglio! Comincia ad ambientarsi!» «E quelle funi a che cosa servono allora?» chiese Harry. Aveva appena notato le funi spesse come alberelli che andavano dai tronchi più grossi ancora in piedi fino al punto dove Gropp stava raggomitolato per terra. «Devi tenerlo legato?» disse Hermione con una vocina. «Sì, ecco!» Hagrid era teso. «Come dicevo? Non è che conosce la sua forza!» Harry ora si spiegava l'assenza sospetta di creature viventi in quella parte della foresta. «E noi che cosa dovremmo fare?» chiese ansiosa Hermione. «Prendervi cura di lui», rispose Rocco Hagrid, «dopo che io sono andato via!» Harry e Hermione si scambiarono un'occhiata infelice. Harry ricordò angosciato di aver già promesso a Hagrid che l'avrebbero aiutato. «Questo prendersi cura», si informò Hermione, «in che cosa consiste esattamente?» «Mica dovete portargli da mangiare», si affrettò a rassicurarla Hagrid. «Per quello fa da solo, nessun problema. Uccelli e cervi e altro. No, no, è di compagnia che ha bisogno, di qualcuno che continua ad aiutarlo un po', che ci insegna l'inglese, no?» Harry non disse nulla, ma si voltò a guardare la sagoma gigantesca distesa a terra davanti a loro. A differenza di Hagrid, che sembrava solo un essere umano un po' troppo grosso, il suo fratellastro era stranamente deforme. Quella che Harry aveva preso per un masso coperto di muschio sulla sinistra era in realtà la testa di Gropp, molto grande rispetto al corpo, quasi perfettamente rotonda e piena di fitti capelli ricci color felce. Sulla cima era visibile il contorno di un grosso orecchio carnoso, che sembrava spuntare, un po' come le orecchie di Zeo Vernon, direttamente dalla spalla, con poco o niente collo nel mezzo. La schiena, coperta da una sorta di sudicia camicia marrone fatta di pelli ed animali cucite alla meglio, era molto vasta. I rozzi punti che tenevano insieme le pelli si tendevano a ogni respiro. Gropp dormiva su un fianco, le gambe ragomitolate sotto il corpo, mostrando le piante di enormi, sporchi piedi nudi, grossi come slittini, poggiati l'uno sull'altro. — Vuoi che gli insegniamo l'inglese? disse Harry con voce spenta. Ora capiva il messaggio di Firenze. Il suo tentativo non porta a nulla, farebbe meglio a lasciar perdere. Naturalmente gli abitanti della foresta sapevano dei vani sforzi di Hagrid di insegnare a Gropp l'inglese. — Sì, ecco, magari basta parlarci un po', proseguì speranzoso Hagrid. Secondo me, se riesce a parlare con la gente, capisce che siamo tutti come lui e magari decide di restare. Harry scoccò un'occhiata a Ermione, che ricambiò lo sguardo fra le dita che le nascondevano il viso. — Fa quasi rimpiangere Norberto, vero? le disse facendola scoppiare in una risata tremula. — Allora, lo fate, sì, chiese Hagrid, che non sembrava aver colto quello che aveva appena detto Harry. — Ci... ci proveremo, Hagrid, rispose Harry già legato alla promessa. — Lo sapevo che potevo contare su di te, Harry. Hagrid gli sorrise fra le lacrime e si asciugò di nuovo le guance col fazzoletto. — Non voglio metterti troppo in mezzo, lo so che hai gli esami, ma se magari puoi venire qui col mantello dell'invisibilità una volta alla settimana e fare una chiacchierata con Gropp. — Beh, adesso lo sveglio, così vi presento. — Che? No! strillò Ermione alzandosi di scatto. — No, Hagrid, non farlo davvero, non c'è bisogno. Ma Hagrid aveva già scavalcato il tronco che sbarrava loro la strada e avanzava verso Gropp. A tre metri di distanza prese da terra un lungo ramo spezzato, voltò la testa per lanciare un sorriso rassicurante a Harry e Ermione e colpì con forza Gropp in mezzo alla schiena. Il ruggito del gigante echeggiò nella foresta silenziosa. Gli uccelli appollaiati sugli alberi volarono via strepitando, mentre una mano enorme si abbatteva sul terreno, facendolo tremare. E l'immenso Gropp si tirava su, voltando il testone, per vedere chi o che cosa lo aveva disturbato. — Tutto bene, Groppi? chiese Hagrid in tono forzatamente allegro, indietreggiando col ramo levato pronto a usarlo di nuovo. — Ti sei fatto una bella nanna, eh? Ermione e Harry arretrarono il più possibile, senza perdere d'occhio il gigante. Quando Gropp si inginocchiò fra due alberi non ancora sradicati, la sua faccia galleggiò sulla radura e su di loro, come un'enorme grigiastra luna piena. Sembrava che i suoi lineamenti fossero stati rozzamente sbozzati in una grossa palla di pietra. Il naso era schiacciato e informe, la bocca obliqua, piena di denti storti e gialli, grandi come mattoni. Gli occhi, piccoli per quel testone, erano di un fangoso verde bruno e ancora cisposi di sonno. Gropp sollevò le nocche sudice, ognuna grossa quanto una palla da tennis. Si strofinò vigorosamente le palpebre e, di scatto, con velocità e agilità sorprendenti, si alzò. «Oh cielo!» squittì Ermione, atterrita accanto a Henry. Gli alberi ai quali erano legate le funi strette attorno alle braccia e alle gambe del gigante, scricchiolarono pericolosamente. Come aveva detto Hagrid, era alto un po' meno di cinque metri. Dopo essersi guardato attorno con occhi offuscati, tese una mano grossa quanto un ombrellone per strappare un nido dai rami più alti di un pino, e lo capovolse, con quello che parve un rugito di disappunto per l'assenza degli uccelli. Hagrid si protesse con le braccia dal bombardamento di uova. «Insomma, Gropp!» protestò alzando preoccupato lo sguardo e pronto a scansare altre uova in caduta libera. «Ho qui un paio di amici che ti vogliono conoscere. Ti ricordi che ti ho parlato di loro? Te lo ricordi quando ti ho detto che forse andavo via per un po' e venivano loro a prendersi cura di te? Ti ricordi, Gropp?» Per tutta risposta, Gropp lanciò un altro rugito. Era difficile dire se aveva ascoltato Hagrid o se almeno capiva che quei suoni erano parole. Agguantò la cima del pino, la tirò a sé e la lasciò andare di scatto, probabilmente per il semplice gusto di vedere quanto sarebbe andata lontano. «No, Gropp, da bravo, lascia stare!» urlò Hagrid. «E' così che hai tirato fuori gli altri!» In effetti, Harry vide che la terra attorno alle radici dell'albero cominciava a spaccarsi. «Ti ho portato compagnia!» gridò Hagrid. «Amici! Guarda giù, giocherellone che non sei altro! Ti ho portato degli amici!» «Oh no, Hagrid!» gemette Ermione, ma Hagrid aveva già colpito un ginocchio di Gropp con ramo. Il gigante lasciò andare il pino, che ondeggiò in modo allarmante, provocando una pioggia di aghi, e abbassò lo sguardo. «Questo?» disse Hagrid, affrettandosi a raggiungere Harry e Ermione. «Harry, Gropp! Harry Potter! Se io vado via, può darsi che ti viene a trovare lui, capito?» Solo in quel momento il gigante parve rendersi conto della presenza di Harry e Ermione. Trepidanti, lo videro abbassare il testone per scrutarli con gli occhi cisposi. «E questa è Ermione, capito?» Hagrid esitò. «Ti dispiace se ti chiama Ermi?» chiese, voltandosi verso Ermione. «Per lui il tuo è un nome difficile da ricordare!» «Ma no, figurati!» squitti Ermione. «Questa è Ermi, Gropp. Vedrai che viene a trovarti anche lei. Sei contento? Eh? Due amici per te!» «Gropp, no!» La mano di Gropp era scattata verso Ermione. Più rapido di lui, Harry la afferrò e la trascinò dietro l'albero, così che il pugno del gigante graffiò il tronco, ma si chiuse sul vuoto. «Cattivo, Gropp!» sentirono gridare Hagrid, mentre al sicuro, dietro il tronco, Ermione si aggrappava a Harry, tremando e gemendo. «Cattivo! Non si acchiappaglia!» Allungando il collo, Harry vide Hagrid disteso a terra con una mano sul naso. Gropp, che sembrava aver perso ogni interesse per loro, si era raddrizzato e aveva ricominciato a giocherellare col pino. «Va bene!» biascicò Hagrid, alzandosi con una mano ancora sul naso sanguinante e l'altra stretta intorno all'arco. «Bene, ecco fatto! L'avete conosciuto e... e così lui vi conosce quando tornate! Sì, bene!» Alzò lo sguardo su Gropp, che continuava a tirare indietro il pino con un'espressione di distaccato piacere sulla faccia rocciosa. Le radici scricchiolarono mentre le strappava dal suolo. «Bene!» disse Hagrid. «Per il primo giorno basta così. Adesso noi andiamo via. Sì?» Harry e Ermione annuirono in silenzio. Hagrid si rimise l'arco in spalla e con la mano sempre sul naso li precedette fra gli alberi. Per un po' nessuno parlò, nemmeno quando un boato lontano segnalò che Gropp aveva finalmente sradicato il pino. Ermione era pallida e tesa. Harry non riusciva a trovare una sola cosa da dire. Che cosa sarebbe successo se qualcuno avesse scoperto il segreto di Hagrid? Per giunta lui si era impegnato, anche per Ron e Ermione, a proseguire i vani sforzi per civilizzare il gigante. Come poteva Hagrid, sia pure con la sua smisurata capacità di scambiare i più orridi mostri zannuti per adorabili animaletti innocui, illudersi al punto da credere che un giorno Gropp sarebbe riuscito a mescolarsi con gli esseri umani. «Fermi!» ordinò brusco Hagrid, proprio mentre Harry e Ermione erano alle prese con un fitto cespuglio di centinodia. Estrasse una freccia dalla faretra e la incoccò. Alle sue spalle Harry e Ermione levarono le bacchette. Adesso che si erano fermati, anche loro sentivano movimenti nelle vicinanze. «Occidenti!» mormorò Hagrid. «Ti avevamo avvertito, Hagrid!» disse una profonda voce maschile. «Non sei più il benvenuto qui!» Il torso nudo di un uomo parve per un attimo fluttuare verso di loro attraverso la screziata penombra verde, ma dopo un momento videro che all'altezza della vita si univa fluido al corpo di un cavallo baio. Il centauro aveva un volto fiero, zigomi alti e lunghi capelli neri. Come Hagrid era armato, una faretra piena di frecce e un lungo arco in spalla. «Come va, Magorian?» chiese cauto Hagrid. Gli alberi dietro Magorian frusciarono e ne emersero altri quattro o cinque centauri. Harry riconobbe il bruno barbuto Bane. Lo aveva incontrato quasi quattro anni prima, la stessa notte che aveva conosciuto Firenze. Però il centauro non diede cenno di averlo mai visto. «Ma guarda!» disse Bane con un'inflessione maligna nella voce, voltandosi verso Magorian. «Mi pare che fossimo d'accordo sul da farsi se questo umano avesse mai rimesso piede nella foresta. Adesso sono questo umano?» ribattesti zito Hagrid. «Solo perché non vi ho lasciato ammazzare uno dei vostri?» «Non dovevi mischiarti, Hagrid», replicò Magorian. «Le nostre usanze e le nostre leggi non sono le vostre. Firenze ci ha tradito e disonorato. Non so proprio che cosa avete nella zucca», sbottò Hagrid, «Solo perché aiuta Albus silente! Firenze ha accettato di essere il servo degli umani!» intervenne un centauro grigio dalla dura faccia rugosa. «Servo!» esclamò aspro Hagrid, «Solo perché fa un piacere a Silente!» «Svelando agli umani i nostri segreti e le nostre conoscenze!» ribatté pacato Magorian. «Niente può compensare una tale sciagura!» «Se lo dite voi!» Hagrid scrollò alle spalle. «Ma secondo me fate un grosso errore!» «Come te, umano!» disse Bane. «Che torni nella nostra foresta dopo che ti avevamo avvertito!» «Adesso stammi un po' a sentire!» rispose Hagrid arrabbiato. «Piantiamola con questa storia della nostra foresta! Non sta a voi decidere chi entra e chi esce!» «Neanche a te, Hagrid!» replicò Magorian. «Oggi ti ho lasciato passare perché sei accompagnato dai tuoi puledri!» «Non sono suoi!» lo interruppe sprezzante Bane. «Sono studenti di quella scuola, Magorian. Probabilmente hanno già approfittato degli insegnamenti del traditore Firenze!» «In ogni caso, riprese pacato Magorian, uccidere puledri è un crimine orribile e noi non tocchiamo gli innocenti! Oggi Hagrid potrai passare, ma d'ora in poi tieniti lontano da qui! Aiutando il traditore Firenze hai perso l'amicizia dei centauri!» «Non permetto a un branco di vecchi muli di tenermi fuori dalla foresta!» gridò Hagrid. «Hagrid?» intervenne Ermione atterrita, guardando Bane e il centauro grigio che raspavano il terreno con gli zoccoli. «Andiamo via, per favore! Andiamo!» Hagrid mosse qualche passo, ma con l'arco ancora levato e gli occhi minacciosi fissi su Magorian. «Sappiamo che cosa nascondi nella foresta, Hagrid!» gli gridò Magorian, mentre i centauri sparivano tra gli alberi. «E la nostra sopportazione è agli sgoccioli!» Hagrid si voltò e fece per marciare dritto su di lui. «Voi lo sopportate finché resta qui! La foresta è sua quanto vostra!» urlò con Henry e Ermione che lo tiravano con tutte le forze per il panciotto. Ancora accigliato, Hagrid abbassò lo sguardo e li fissò con espressione di blanda sorpresa, come se soltanto allora si fosse accorto di loro. «Calmatevi voi due!» disse. Si mise in marcia e loro gli corsero dietro Ansanti. «Vecchi muli maleducati!» «Hagrid!» balbettò Ermione senza fiato, aggirando un cespuglio di ortiche che avevano già incontrato all'andata. «Se i centauri non vogliono umani nella foresta, come facciamo a...» «Hai sentito cosa hanno detto?» replicò Hagrid tranquillo. «Mica attaccano i puledri! Insomma, i ragazzi! E poi mica possiamo darcela vinta così!» «Beh, ci hai provato!» sussurrò Henry a Ermione, che sembrava proprio abbattuta. Finalmente tornarono sul sentiero. Dopo una decina di minuti gli alberi cominciarono a diradarsi. Ricomparvero sprazzi di limpido cielo azzurro e, in lontananza, sentirono echeggiare applausi e urla. «Hanno segnato un'altra volta!» chiese Hagrid, soffermandosi all'ombra degli alberi quando furono in vista del campo di Quidditch. «O è finita la partita!» «Non saprei!» rispose avvidita Ermione. Henry notò che aveva un aspetto tremendo. I capelli pieni di foglie e ramoscelli, la veste stracciata, faccia e braccia graffiate. Sapeva di non essere in condizioni migliori. «Scommetto che è finita!» esclamò Hagrid, lo sguardo ancora fisso sul campo. «Sì! Stanno venendo via! Se vi sbrigate potete mischiarvi alla folla, così nessuno sospetta che non c'eravate!» «Buona idea!» disse Henry. «Beh, ci vediamo, Hagrid!» «Non posso crederci!» mormorò Ermione con voce molto incerta quando furono a distanza di sicurezza. «Non posso crederci! Non posso proprio crederci!» «Calmati!» disse Henry. «Calmarmi! Un gigante! Un gigante nella foresta! E noi dobbiamo dargli lezioni d'inglese! Sempre che riusciamo a evitare quel branco di centauri assassini, naturalmente! Non posso crederci!» «Per adesso non dobbiamo fare niente!» le ricordò Henry mentre si univano alla rumorosa fiumana dei Tassofrasso diretti verso il castello. «Almeno finché non buttano fuori Hagrid, e potrebbe non succedere mai!» «Figuriamoci!» sbottò Ermione, fermandosi così di colpo che gli studenti dietro di lei dovettero scartare per non finirle contro. «Certo che sarà cacciato, e per essere onesta, dopo quello che abbiamo appena visto, chi potrebbe biasimare l'Humbridge?» Ci fu una pausa di silenzio. Henry la guardò furibondo, e gli occhi di Ermione si riempirono lentamente di lacrime. «Non lo pensi davvero?» disse piano Henry. «No, beh... d'accordo, non lo penso», ammise Ermione, asciugandosi gli occhi con rabbia. «Ma perché deve rendere la vita così difficile a se stesso e a noi? Non lo so». «Perché Wisley è il nostro re! Ogni due ne para tre! Così noi cantiamo perché! Perché Wisley è il nostro re!» «Perché non la piantano con quella stupida canzoncina?» si lamentò Ermione. «Non ne hanno ancora abbastanza?» Una marea di studenti risaliva il pendio erboso, allontanandosi dal campo di Quidditch. «Dai, rientriamo prima di incrociare i serpeverde!» disse Ermione. «Wisley è il nostro salvatore! Con suo gioco pien d'ardore! Grifondor, canta con me! Perché Wisley è il nostro re!» «Ermione?» balbettò Henry. Il canto crebbe di volume, però non veniva dalla folla verde e argento dei serpeverde, ma da quella rossa e oro che avanzava verso il castello, portando in trionfo una figura solitaria. «Perché Wisley è il nostro re! Ogni due ne para tre! Così noi cantiamo perché! Perché Wisley è il nostro re!» «No!» sussurrò Ermione. «Sì!» esclamò Henry. «Harry! Ermione!» strillò Ron, agitando in aria entusiasta la coppa d'argento del torneo di Quidditch. «Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo vinto!» Mentre passava, Henry e Ermione gli rivolsero un sorriso raggiante. La mischia si accalcò al portone del castello e Ron finì per sbattere la testa contro l'architrave, ma nessuno voleva metterlo giù. Sempre cantando, la folla si infilò nella sala d'ingresso e scomparve. Henry e Ermione rimasero dove erano, sorridenti, finché anche l'ultima eco di «Perché Wisley è il nostro re!» si spense. Soltanto allora si voltarono l'uno verso l'altra e il loro sorriso svanì. «Glielo diciamo domani, d'accordo?» disse Henry. «D'accordo!» annuì stancamente Ermione. «Non ho proprio fretta!» Fianco a fianco salirono le scale. Una volta davanti al portone, distinto, si voltarono a guardare la foresta proibita. Forse era frutto della sua immaginazione, ma Henry fu quasi certo di aver visto una nuvoletta di uccelli gonfiarsi sopra le cime lontane, come se l'albero che li aveva fino ad allora ospitati fosse stato appena sradicato. I GUFO L'euforia di Ron per aver contribuito alla vittoria di Grifondoro era tale che il giorno seguente gli fu impossibile applicarsi a qualunque cosa. Non faceva altro che parlare della partita, e per Henry e Ermione non fu facile trovare il momento adatto per dirgli di Gropp. Non che si sforzassero, nessuno dei due era ansioso di riportare così brutalmente Ron alla realtà. Alla fine, approfittando della bella giornata tiepida, lo convinsero a unirsi a loro per un ripasso sotto il faggio in riva al lago, dove c'erano meno possibilità che qualcuno origliasse. All'inizio Ron non fu particolarmente entusiasta dell'idea, se la godeva troppo a farsi dare pacche sulle spalle da ogni Grifondoro di passaggio, per non parlare dei cori di «Perché Weasley è il nostro re» che ancora esplodevano di tanto in tanto, ma poi ammise che l'aria fresca gli avrebbe fatto bene. Si sedettero all'ombra del faggio e aprirono i libri, mentre Ron descriveva per la decima volta la sua prima parata e come aveva salvato la partita. «Sì, insomma, avevo già incassato il tiro di Davis, quindi non ero tanto tranquillo, ma quando ho visto Bradley venirmi addosso, praticamente è sbucato dal nulla. Ho pensato, puoi farcela! Avevo sì e no un secondo per decidere da che parte volare, sapete, e sembrava che lui puntasse a destra, la mia destra, ossia la sua sinistra, ma avevo come la sensazione che fosse una finta e ho rischiato e mi sono tuffato a sinistra, alla sua destra, insomma. E beh, avete visto com'è andata!» concluse modestamente. Buttò indietro i capelli in modo che sembrassero scompigliati dal vento e si guardò attorno per controllare se le persone più vicine, un gruppo di ragazze chiacchierine del terzo anno di tassofrasso, lo avevano sentito. Così, quando cinque minuti dopo mi è venuto incontro Chambers, «Che cosa c'è?» si interruppe e fissò Harry. «Perché sorridi?» «Non sorrido», rispose in fretta Harry e abbassò lo sguardo sui suoi appunti di trasfigurazione, sforzandosi di restare serio. La verità era che Ron gli aveva appena ricordato un altro giocatore di Quidditch di Grifondoro, che un tempo si era seduto sotto quello stesso albero, arruffandosi i capelli nello stesso modo. «Sono contento che abbiamo vinto, tutto qui!» «Sì», disse Ron assaporando ogni parola. «Abbiamo vinto! Hai visto la faccia della Chan quando Ginny le ha soffiato il boccino sotto il naso?» «Si sarà messa a piangere, immagino», commentò aspro Harry. «Beh, sì, ma più che altro per la rabbia!» Ron aggrottò la fronte. «Però ti sei accorto che ha gettato lontano la scopa quando è atterrata, vero?» «Ehm», cominciò Harry. «No, Ron», disse Hermione con un sospiro. Posò il libro e lo guardò con aria di scusa. «In realtà io e Harry abbiamo visto soltanto fino a quando Davis ha segnato». I capelli accuratamente arruffati di Ron parvero afflosciarsi per la delusione. «Non avete visto la partita?» balbettò, spostando lo sguardo dall'uno all'altra. «Non mi avete visto fare nessuna di quelle parate?» «Beh, no». Hermione sollevò una mano per calmarlo. «Non volevamo andare via, però. Siamo stati costretti». «Davvero?» replicò Ron, che stava diventando paonazzo. «E come mai?» «È stato Hagrid», disse Harry. «Aveva deciso di spiegarci come mai, da quando è tornato dal suo viaggio nel Paese dei Giganti, è sempre coperto di lividi e ferite. Ha voluto che andassimo con lui nella foresta. Non abbiamo avuto scelta, lo sai com'è fatto. Insomma...» Gli raccontarono tutto in meno di cinque minuti e alla fine all'indignazione di Ron si era sostituita l'incredulità. «Se ne è portato uno dietro e lo ha nascosto nella foresta?» «Sì», rispose Cupo, Harry. «No», esalò Ron, come se negarlo bastasse a cancellare la realtà. «No, non è possibile. E invece è proprio così», disse Hermione con fermezza. «Grop è alto quasi cinque metri, si diverte a sradicare pini di sei e mi conosce», sbuffò, «come Hermi». Ron sbottò in una risatina nervosa. «E Hagrid vuole che noi gli insegniamo l'inglese, sì», concluse Harry. «È impazzito», disse Ron sgomento. «Sì», annuì Hermione, voltando una pagina di trasfigurazione e livello intermedio e fissando a cigliata una serie di disegni che mostravano una civetta trasformarsi in un binocolo da teatro. «Sì, comincio a pensarlo anch'io. Purtroppo ci ha costretto a promettere». «Allora dovete solo non mantenere la promessa», disse Ron deciso. «Insomma, su, abbiamo gli esami e ci manca tanto così», levò una mano, pollice e indice che quasi si toccavano, «a farci espellere. E poi, ve lo ricordate, Norberto? E Aragog? I mostri di Hagrid ci hanno procurato solo guai, sempre!» «Lo so, ma abbiamo preso un impegno», protestò Hermione con una vocina sottile. Ron si buttò di nuovo indietro i capelli, preoccupato. «E va bene», sospirò. «Hagrid non è ancora stato licenziato, no? È riuscito a restare finora, e forse resisterà fino alla fine della scuola, e noi non dovremo avvicinarci a Gropp». I prati intorno al castello lucicavano sotto il sole come se fossero stati verniciati di fresco. Il cielo limpido sorrideva sulla levigata scintillante superficie del lago. L'erba verde e setosa era increspata a tratti da una brezza gentile. Giugno era arrivato, ma per gli studenti del quinto anno voleva dire solo una cosa. Incombevano i GUFO. Gli insegnanti avevano smesso di assegnare compiti. Le lezioni erano dedicate a ripassare gli argomenti che probabilmente sarebbero stati tema d'esame. Quell'atmosfera, insieme febbrile e tenace, cancellò dalla mente di Harry quasi tutto, anche se a volte durante pozioni si chiedeva se Lupin avesse mai detto a Piton di riprendere le lezioni di occlumanzia. Ma se anche lo aveva fatto, Piton doveva averlo ignorato, come del resto ignorava Harry. Cosa che a lui andava benissimo. Era già abbastanza nervoso e indaffarato, senza bisogno di seguire materie supplementari, e per fortuna in quel periodo Hermione era troppo preoccupata per tormentarlo con l'occlumanzia. Passava tutto il tempo borbottando fra sé, e da giorni non lasciava più in circolazione un solo indumento per gli elfi. D'altra parte, non era l'unica a comportarsi in modo strano via via che i GUFO si avvicinavano. Ernie Macmillan, per esempio, aveva preso l'insopportabile abitudine di chiedere a tutti i loro metodi di ripasso. «Quante ore studiate al giorno?» chiese Harry e Ron mentre erano in fila per entrare a erbologia. Negli occhi gli brillava una luce maniacale. «Non saprei», rispose Ron, «parecchie». «Più o meno di otto?» «Meno, credo», rispose Ron con aria vagamente allarmata. «Io otto», annunciò Ernie gonfiando il petto. «Otto o nove. Una prima di colazione, tutti i giorni. Otto è la media. Nei fine settimana, se è una giornata sì, posso arrivare a dieci. lunedì ne ho fatte nove e mezzo. Martedì mi è andata peggio. Solo sette e un quarto. E mercoledì Harry trasse un sospiro di sollievo quando la professoressa Sprout li sospinse nella serra numero tre, costringendo Ernie a interrompere il suo elenco. Intanto Draco Malfoy aveva trovato un altro modo per seminare il panico. «Naturalmente l'importante non è quello che sai», lo sentirono dire a crebbe Goy la voce alta davanti all'aula di Pozioni pochi giorni prima degli esami. «Ma chi conosci? E mio padre è amico da anni del capo della commissione magica d'esame. La vecchia Griselda Marchbanks è venuta da noi a cena, sapete». «Sarà vero», sussurrò agitata Ermione a Harry e Ron. «Se lo è, non possiamo farci niente», rispose Ron scuro e involto. «Non penso che sia vero», intervenne la voce pacata di Neville alle loro spalle, «perché Griselda Marchbanks è amica di mia nonna e non ho mai sentita nominare i Malfoy». «Che tipo è?» chiese subito Ermione. «Severa?» «Assomiglia un po' a mia nonna», rispose Neville abbacchiato. «Beh, di sicuro conoscerla non è uno svantaggio, no?» lo incoraggiò Ron. «Oh, non credo che faccia differenza», replicò Neville ancora più abbacchiato. «La nonna non fa che ripeterle che non sono in gamba come mio papà. Insomma, l'avete vista anche voi al San Mungo». Abbassò lo sguardo, mentre Harry, Ron e Ermione si scambiavano un'occhiata senza sapere che cosa dire. Era la prima volta che Neville accennava al loro incontro all'ospedale dei maghi. Nel frattempo un fiorente mercato nero di sostanze capaci di accrescere concentrazione, agilità mentale e prontezza di riflessi fioriva tra gli studenti del quinto e del settimo anno. Harry e Ron furono molto tentati dall'Elisir Cerebro di Baruffio, offerto loro da Eddie Carmichael, uno studente del sesto anno di Corbonero, che gli attribuiva tutto il merito dei nove eccezionale ottenuti al GUFO l'estate precedente e ne offriva un'intera pinta per soli dodici galeoni. Ron assicurò a Harry che gli avrebbe restituito il denaro appena fosse uscito da Hogwarts e avesse trovato un lavoro, ma prima che potessero concludere l'affare, Hermione confiscò la bottiglia di Elisir a Carmichael e la vuotò dentro un water. «Ma Hermione, noi volevamo comprarla!» urlò Ron. «Sciocchezze!» sbuffò Hermione. «Tanto varrebbe comprare gli artigli di drago in polvere di Harold Dingle». «Dingle vende artigli di drago in polvere?» chiese interessato Ron. «Non più. Ho confiscato anche quelli. Lo sai che nessuna di queste cose funziona davvero». «L'artiglio di drago, sì!» protestò Ron. «Dicono che è incredibile, che per qualche ora ti manda il cervello a mille. Diventi svegliissimo. Fammene provare un pizzico, Hermione, dai! Non può far male!» «Quella roba sì!» rispose decisa Hermione. «Le ho dato un'occhiata, e in realtà si tratta di cacca secca di doxi». L'informazione bastò per far passare a Harry e Ron il desiderio di ricorrere a stimolanti cerebrali. Durante l'ultima ora di trasfigurazione ricevettero il programma dei GUFO e i dettagli sul loro svolgimento. «Come potete vedere», disse la professoressa McGonagall mentre copiavano, diligenti dalla lavagna, le date e gli orari degli esami, «i vostri GUFO dureranno due settimane. La mattina sosterrete il compito scritto relativo alla teoria della materia in questione, il pomeriggio quello pratico, e naturalmente l'esame pratico di astronomia si svolgerà di notte. Devo avvertirvi che ai fogli che userete sono stati applicati i più severi incantesimi antimbroglio. È proibito l'uso di penne a risposta automatica, come pure di ricordelle, polsini copiativi e inchiostro autocorrettivo. Mi dispiace dire che ogni anno sembra che ci sia almeno uno studente convinto di poter aggirare le regole fissate dalla commissione magica d'esame. Mi auguro solo che stavolta non sia nessuno di Grifondoro. La nostra nuova «preside», e pronunciò la parola con la stessa espressione di zia Petunia quando contemplava una macchia di sudiciume particolarmente resistente, ha chiesto ai direttori delle case di informare gli allievi che qualunque imbroglio sarà severamente punito, poiché ovviamente dai risultati degli esami verrà giudicato anche il nuovo regime imposto dalla preside. La professoressa McGonagall trattenne un sospiro. Harry vide fremere il suo naso a guzzo. «Tuttavia questa non è una ragione valida per non impegnarsi al massimo. dovete pensare al vostro futuro». «Scusi, professoressa», intervenne Ermione alzando la mano, «quando avremo i risultati?» «Nel mese di luglio, via Gufo», rispose la professoressa McGonagall. «Magnifico», disse Dean Thomas in un bisbiglio udibilissimo. «Così non dovremo preoccuparci fino alle vacanze». Harry si immaginò seduto nella sua stanza di private drive sei settimane dopo, in attesa dei risultati dei suoi GUFO. «Beh», pensò avvilito, «se non altro quell'estate sarebbe stato sicuro di ricevere almeno un messaggio». Il loro primo esame, teoria degli incantesimi, era in programma per lunedì mattina. La domenica Harry acconsentì a esercitarsi con Ermione, ma se ne pentì quasi subito. Era così agitata che continuava a strappargli il libro di mano per controllare di aver dato la risposta perfettamente giusta, finché non lo colpì sul naso con l'angolo di grandi incantesimi della storia. Harry disse deciso «perché non ti arrangi?» e le restituì il libro lacrimando. Nel frattempo Ron rileggeva gli appunti di due anni di incantesimi con le dita infilate nelle orecchie e le labbra che si muovevano in silenzio. Simus Finnegan era disteso a pancia in su sul pavimento e recitava la definizione di incantesimo essenziale, mentre Dean la controllava sul «manuale degli incantesimi, volume quinto». Le matite di Parvati e Lavanda, che stavano provando alcuni semplici incantesimi di locomozione, si inseguivano sul tavolo. Quella sera a cena nessuno aveva molta voglia di chiacchierare. Harry e Ron, che avevano studiato sodo tutto il giorno, mangiarono in silenzio, ma affamati. Hermione, invece, continuava a lasciare le posate e a tuffarsi sotto il tavolo per ripescare qualche libro dalla borsa e controllare qualche dato. Ron le stava proprio dicendo che avrebbe fatto meglio a mangiare tranquilla o quella notte non sarebbe riuscita a chiudere occhio, quando la forchetta le sfuggì di mano e atterrò fragorosamente sul piatto. «Santo cielo!» mormorò lei fissando la sala d'ingresso. «Sono quelli? Gli esaminatori?» Harry e Ron si voltarono di scatto. Oltre le porte della sala grande videro la Umbridge con un gruppetto di streghe e maghi dall'aria decrepita, e la preside, notò soddisfatto Harry, sembrava decisamente nervosa. «Andiamo a dare un'occhiata più da vicino», propose Ron. Harry e Hermione annuirono, e tutti e tre si diressero svelti verso le doppie porte, rallentando dopo averle varcate in modo da passare con tutta calma accanto agli esaminatori. «Probabilmente», pensò Harry, «la professoressa March Banks era la piccola strega curva con il volto così rugoso che pareva rivestito di ragnatele. La Umbridge le si rivolgeva in tono deferente. Sembrava un po' dura ad orecchi, perché rispondeva a voce troppo alta, considerato che erano a meno di mezzo metro di distanza». «Il viaggio è andato bene, benissimo, l'abbiamo già fatto molte altre volte», diceva sbrigativa. «Piuttosto, è un po' che non ho notizie di silente», aggiunse scrutando la sala come se sperasse di vederlo sbucare da uno sgabuzzino. «Nessuna idea di dove sia, suppongo». «Nessuna», rispose la Umbridge, lanciando un'occhiata malevola a Harry, Ron e Hermione che ciondolavano ai piedi delle scale, mentre Ron fingeva di allacciarsi una scarpa. «Ma presumo che il Ministero della Magia lo rintraccerà fra non molto?» «Ne dubito», strepitò la piccola professoressa Marchbanks. «A meno che lui voglia farsi trovare. Lo so bene io, l'ho esaminato personalmente in trasfigurazione e in cantesimi, quando ha sostenuto il MAGO. Mai visto fare cose simili con una bacchetta?» «Sì, beh», disse la professoressa Umbridge intanto che Harry, Ron e Hermione salivano la scala di marmo il più lentamente possibile. «Permettete che vi mostri la sala, professori? Gradirete una tazza di tè dopo il viaggio?» Fu una serata inquieta. Tutti tentavano un ripasso all'ultimo minuto, ma nessuno sembrava capace di concentrarsi. Harry andò a letto presto e poi rimase sveglio per quelle che gli parvero ore. Ricordò il colloquio di orientamento e la McGonagall, che dichiarava furibonda che l'avrebbe aiutato a diventare Auror, fosse stata l'ultima cosa che faceva. Ora che l'esame era alle porte, quasi rimpiangeva di non aver espresso un desiderio meno ambizioso. Sapeva di non essere l'unico insonne, ma nessuno dei suoi compagni aprì bocca e alla fine, uno dopo l'altro, si addormentarono tutti. Il giorno dopo, a colazione, nessuno del quinto anno era molto loquace. Parvati recitava incantesimi sottovoce, facendo sussultare la saliera che aveva davanti. Ermione rileggeva grandi incantesimi della storia, così in fretta che i suoi occhi sembravano sfocati. E Neville continuava a far cadere le posate e a rovesciare la marmellata. Poi quelli del quinto e del settimo anno si radunarono nella sala d'ingresso, mentre gli altri studenti andavano a lezione. Alle nove e mezzo furono richiamati, una classe alla volta, nella sala grande, allestita esattamente come Henry l'aveva vista nel pensatoio, quando suo padre, Sirius e Piton, avevano sostenuto il loro GUFO. I tavoli delle quattro case erano spariti, sostituiti da banchi singoli, rivolti verso il tavolo degli insegnanti, occupato dalla professoressa McGonagall. «Potete cominciare», annunciò lei quando si furono tutti seduti in silenzio e si voltò verso un'enorme clessidra, posata accanto a lei sul tavolo insieme a penne, boccette d'inchiostro e pergamene di riserva. Col cuore in gola, Henry voltò il suo foglio. Tre file a destra e quattro dietro, Ermione stava già scrivendo, e abbassò lo sguardo sulla prima domanda. A. Scrivi la formula dell'incantesimo. E. B. Descrivi il movimento della bacchetta per far volare gli oggetti. La sua mente fu attraversata dal ricordo di una mazza che volava in aria e atterrava di schianto sul duro cranio di un troll, sorridendo, chinò il capo e cominciò a scrivere. «Non era tanto difficile, vero?» chiese ansiosa Ermione nella sala d'ingresso due ore più tardi, stringendo il foglio con le domande. «Non sono sicura di essere stata precisa negli incantesimi rallegranti, ma ormai non c'era più tempo. Hai scritto il controincantesimo per il singhiozzo? Non ero sicura se dovevo, mi sembrava troppo. E la domanda ventitré, Ermione...» la interruppe Severo Ron. «Ne abbiamo già parlato. Non torniamo sopra ogni esame dopo che l'abbiamo finito. Una volta basta e avanza.» Gli studenti del quinto anno pranzarono insieme agli altri. Erano ricomparsi quattro grandi tavoli e poi si riunirono nella piccola stanza accanto alla sala grande, dove rimasero in attesa di essere chiamati per l'esame di pratica. Mentre i primi gruppetti venivano convocati in ordine alfabetico, gli altri borbottavano incantesimi e si esercitavano con la bacchetta, a volte infilandosela per sbaglio fra le costole o in un occhio. Ermione uscì tremando dalla stanza con Anthony Goldstein, Gregory Goyle e Daphne Greengrass. Una volta terminato, gli studenti non tornavano lì, perciò Harry e Ron non sapevano come se la fosse cavata. «Non avrà avuto problemi. Non ti ricordi che in un compito di incantesimi ha preso 120 su 100?» disse Ron. Dieci minuti dopo, il professor Flitwick chiamò. «Parkinson Penzi! Patil Parvati! Patil Padma! Potter Harry!» «In bocca al lupo!» sussurrò Ron. Harry entrò nella sala grande, stringendo la bacchetta così forte che gli tremava la mano. «Il professor Tofty è libero, Potter!» gracchiò Flitwick, fermo accanto alla porta, indicandogli quello che sembrava l'insegnante più vecchio e più calvo di tutti, seduto a un tavolino al capo opposto della sala, poco lontano dalla professoressa March Banks, che stava finendo di esaminare Draco Malfoy. «Potter, giusto?» chiese il professor Tofty, consultando i suoi appunti e scrutandolo al di sopra degli occhiali a Pensney. «Il celebre Potter?» Con la coda dell'occhio Harry vide Malfoy lanciargli un'occhiataccia. Il bicchiere di vino che Draco stava facendo levitare cadde a terra e si ruppe. Harry non seppe trattenere un sorriso e il professor Tofty gli sorrise incoraggiante di rimando. «Così si fa!» disse con la sua vecchia voce tremula. «Non c'è nessun bisogno di nervosirsi! Ora, se tu fossi così gentile da convincere questo porta-uovo a fare qualche capriola!» Tutto sommato, Harry pensava di essersela cavata abbastanza bene. Di sicuro il suo incantesimo levitante era andato molto meglio di quello di Malfoy, anche se avrebbe preferito non aver confuso l'incantesimo cambia colore con quello di ingrandimento. Invece di diventare arancione, il suo ratto prese sorprendentemente a gonfiarsi e raggiunse le dimensioni di un tasso prima che lui riuscisse a correggere l'errore. Per fortuna Hermione non era rimasta nella sala e in seguito evitò di parlargliene. Però lo disse a Ron, che aveva trasformato un vassoio in un fungo enorme senza avere la più remota idea di come fosse successo. Quella sera non ebbero tempo di rilassarsi. Dopo cena filarono nella sala comune e si immersero nel ripasso di trasfigurazione l'esame del giorno dopo. Quando Harry andò a letto, la testa gli ronzava di complessi modelli e teorie di incantesimo. Durante il compito scritto della mattina si scordò la definizione di incantesimo di scambio, ma l'esame pratico sarebbe potuto andare peggio. Almeno lui riuscì a fare vanescere la sua iguana, mentre al tavolo accanto la povera Anna Abbott perse la testa e chissà come moltiplicò il suo furetto in uno stormo di fenicotteri, facendo sospendere gli esami per dieci minuti finché gli uccelli non vennero catturati e trasportati fuori dalla sala. Mercoledì toccò a Erbologia e a parte il morso inflittogli da un geranio zannuto, Harry aveva l'impressione di essersela cavata piuttosto bene e giovedì a difesa contro le arti oscure. Per la prima volta Harry ebbe la certezza che sarebbe passato col massimo dei voti. Non incontrò difficoltà in nessuna delle domande scritte e durante l'esame di pratica provò un piacere particolare nell'eseguire tutte le controfatture e gli incantesimi difensivi davanti alla Umbridge, che lo osservava Gelda accanto alla porta. Ancora una volta fu il professor Tofti a esaminarlo, «Bravo!» esclamò mentre Harry lanciava un perfetto sortilegio scaccia molliccio. «Davvero ottimo! Direi che è tutto, Potter, a meno che...» si protese verso di lui. «Ho saputo dal mio caro amico Tiberius Ogden che sei in grado di evocare un patronus. Per un punto di merito...» Harry levò la bacchetta, guardò la Umbridge dritto negli occhi e immaginò che venisse licenziata da Hogwarts. «Expecto patronum!» Il suo cervo argenteo scaturì dalla punta della bacchetta e attraversò la sala al galoppo. Tutti gli esaminatori si voltarono a seguirlo con lo sguardo e, quando si dissolse in una foschia luminosa, il professor Tofti batte entusiasta alle mani nodose. «Eccellente!» disse. «Benissimo, Potter! Puoi andare!» Mentre usciva, Harry passò accanto alla Umbridge e i loro sguardi si incrociarono. Vide un sorriso maligno deformarle la larga bocca viscida, ma la cosa non lo turbò. A meno di non sbagliarsi di grosso e per scaramanzia decise di non parlarne con nessuno, si era appena guadagnato un «eccezionale!». Il venerdì Harry e Ron avevano un giorno libero, mentre Ermione sosteneva l'esame di antiche rune. Dato che c'era davanti l'intero fine settimana, si concessero una pausa. Si stiracchiavano e giocavano a scacchi magici davanti alla finestra aperta da cui entrava la tiepida aria estiva. In lontananza, Harry scorse a Hagrid che faceva lezione ai margini della foresta. Stava cercando di indovinare quali creature stessero osservando, forse unicorni, perché gli studenti maschi si tenevano alla larga. Quando il ritratto si aprì, Ermione si arrampicò dentro, di pessimo umore. «Com'è andata?», chiese Ron sbadigliando. «Ho sbagliato a tradurre Evaz», ringhiò Ermione. «Vol dire associazione, non difesa. L'ho confuso con Eivaz». «Ah beh», commentò pigramente Ron. «In fin dei conti è soltanto un errore. Prenderai comunque...» «Oh, taci!», scattò lei rabbiosa. «Potrebbe fare la differenza fra promozione e bocciatura. E peggio ancora, qualcuno ha infilato un altro snaso nell'ufficio della Umbridge. Non so come abbiano fatto ad aprire la nuova porta, ma quando sono passata ho sentito la Umbridge che strillava da spaccare i timpani. A quanto pare lo snaso stava cercando di morderle una gamba». «Bene!», dissero all'unisono Harry e Ron. «No, invece!», rispose Ermione accalorata. «È convinta che sia opera di Hagrid, ricordate? E noi non vogliamo che Hagrid venga buttato fuori. Oggi sta facendo lezione!», obiettò Harry indicando la finestra. «Non può dare la colpa a lui». «A volte sei così ingenuo! Credi davvero che a quella importino le prove?», ribatte Ermione, che sembrava decisa a restare del suo umore tempestoso, e uscì sbattendosi la porta alle spalle, diretta al dormitorio femminile. «Un carattere così amabile, così dolce!», disse Ron a voce molto bassa, spingendo avanti la sua regina per eliminare un cavallo di Harry. Il malumore di Ermione durò per la maggior parte del fine settimana, ma per Harry e Ron non fu difficile ignorarla. Passarono quasi tutto il tempo a ripassare pozioni per l'esame di lunedì, quello che Harry temeva di più, e che, ne era sicuro, avrebbe distrutto ogni sua ambizione di diventare Auror. In effetti trovò difficile l'esame scritto, anche se era convinto di aver azzeccato la risposta alla domanda sulla pozione polisucco. Visto che durante il suo secondo anno a Hogwarts l'aveva bevuta di nascosto, fu in grado di descriverne gli effetti con estrema precisione. L'esame pratico del pomeriggio fu meno terribile del previsto. In assenza di Piton scoprì di essere molto più rilassato. Anche Neville, seduto accanto a lui, sembrava più tranquillo di quanto non fosse mai stato a pozioni. Quando la professoressa Marsh Banks disse «Allontanatevi dai calderoni, prego, l'esame è finito!», Harry tappò la sua fiaschetta. Forse non avrebbe ottenuto un gran voto, ma con un po' di fortuna avrebbe evitato la bocciatura. «Solo altri quattro esami?», sospirò Parvati Patil, mentre tornavano verso la sala comune di Grifondoro. «Solo?», scattò Hermione. «Io devo fare ancora ritmanzia, probabilmente la materia più difficile che esista!». Nessuno fu tanto stupido da replicare, così lei non pote sfogarsi su di loro e dovette accontentarsi di rimproverare alcuni ragazzi del primo anno perché ridevano troppo forte. Il martedì, Harry era deciso a dare il massimo in cura delle creature magiche, in modo che Hagrid facesse bella figura. La prova pratica si svolse nel pomeriggio, sul prato ai margini della foresta proibita, dove agli studenti fu richiesto di identificare correttamente uno narl, nascosto fra una dozzina di porcospini. Il trucco stava nell'offrire loro del latte. I narl, creature estremamente sospettose, con aculei dotati di molti poteri magici, di solito si infuriano, considerandolo un tentativo di avvelenarli. Poi dovettero prendersi cura di un asticello, nutrire e pulire un fiammagranchio senza scottarsi e scegliere, tra un vasto assortimento di cibi, la dieta adatta a un unicorno malato. Harry si accorse che Hagrid li osservava ansioso dalla finestra della sua capanna. Quando l'esaminatore, una piccola strega grassoccia, lo congedò sorridendo, Harry rivolse a Hagrid un furtivo segno di vittoria. Lo scritto di astronomia il mercoledì mattina andò abbastanza bene. Harry non era sicurissimo dei nomi di tutte le lune di Giove, però era certo che nessuna fosse coperta di ghiaia. Per la pratica dovettero aspettare fino a sera, mentre il pomeriggio fu dedicato a divinazione. Anche per lo scarso livello di Harry l'esame andò malissimo. Tanto valeva cercare di vedere qualcosa sul tavolo, invece che nella sfera di cristallo, che rimase ostinatamente vuota. Harry perse del tutto la testa durante la lettura delle foglie di tè, annunciando alla professoressa Marge Banks che presto avrebbe incontrato uno straniero bruno e noioso, e coronò il fiasco confondendo la linea della vita con quella del destino, e informandola che sarebbe dovuta morire il martedì precedente. Tanto in quello eravamo destinati alla bocciatura, commentò Cupo Ron mentre scendevano la scalinata di marmo. Aveva appena tirato su di morale Harry, dicendogli che lui si era dilungato a parlare dell'orrido tipo con una verruca sul naso che vedeva nella sfera di cristallo, e quando aveva alzato lo sguardo si era reso conto di aver descritto fino all'ultimo dettaglio il riflesso del suo esaminatore. «Non avremmo mai dovuto scegliere quella materia idiota», disse Harry. «Almeno adesso possiamo mollarla. Giusto, non dovremmo più far finta che ci importi cosa succede quando Giove e Urano diventano troppo amici, e nemmeno se nelle foglie di tè c'è scritto «Muori, Ron, muori! Le butterò dove devono stare, nella spazzatura». Harry scoppiò a ridere proprio mentre Ermione li raggiungeva correndo. Smise subito, temendo che la cosa la irritasse. «Beh, credo di essere andata bene in aritmanzia», annunciò. Harry e Ron trassero un sospiro di sollievo. «Ho appena il tempo di dare un'ultima occhiata alle mappe celesti prima di cena. Arrivarono in cima alla torre di astronomia alle undici in punto di una notte perfetta per osservare le stelle. Senza un filo di vento e senza una nuvola. I prati erano inondati dalla luce argentea della luna e l'aria era frizzante. Ognuno di loro prese posto dietro un telescopio e, all'ordine della professoressa March Banks, cominciarono a completare la cartina muta che avevano davanti. La professoressa March Banks e il professor Tofty passeggiavano tra gli studenti, osservandoli mentre tracciavano la posizione di stelle e pianeti. Gli unici rumori erano il fruscio delle pergamene, il cigolio di qualche telescopio e il grattare delle penne d'oca. Passò mezz'ora, poi un'ora. A uno a uno i piccoli quadrati di luce dorata tremolanti sul prato scomparvero via via che si spegnevano le luci alle finestre. Harry stava completando la costellazione di Orione, quando il portone del castello si aprì, proprio sotto il parapetto dove si trovava lui, e un fiotto di luce si riversò sui gradini di pietra. Mentre regolava il telescopio, guardò rapido da basso e vide cinque o sei lunghe ombre spostarsi sull'erba illuminata. Poi il portone si richiuse e il prato ridiventò un mare di tenebre. Riavvicinò l'occhio al telescopio e lo mise a fuoco per individuare Venere, ma quando guardò di nuovo la mappa per segnarne la posizione, qualcosa lo distrasse. Si bloccò, la penna sospesa sulla pergamena, e scrutò nell'oscurità. Una mezza dozzina di sagome stavano attraversando il prato. Se fossero state immobili e se il chiaro di luna non avesse scintillato sulle loro teste, sarebbe stato impossibile distinguerle. Anche da lontano fu sicuro di riconoscere il modo di camminare della più tozza, che sembrava guidare il gruppetto. Non riusciva a capire come mai la Umbridge avesse deciso di fare una passeggiata dopo mezzanotte, per giunta accompagnata da altre cinque persone. Un colpetto di tosse alle sue spalle gli ricordò che era a metà di un esame e si era completamente scordato la posizione di Venere. Tornò a incollare l'occhio al telescopio, la ritrovò e di nuovo stava per riportarla sulla mappa, quando le sue orecchie, ormai pronte a cogliere ogni suono insolito, sentirono echeggiare per i prati deserti un colpo battuto a una porta lontana, subito seguito dai latrati soffocati di un grosso cane. Alzò lo sguardo col cuore in gola. Le ombre che aveva visto camminare si stagliavano contro le finestre illuminate della capanna di Hagrid. La porta si aprì, e sei figure, i contorni nitidi contro la luce, varcarono la soglia. La porta si richiuse e tornò in silenzio. Harry si sentiva a disagio. Si voltò verso Ron e Ermione per controllare se si fossero accorti di qualcosa, ma poi vide la professoressa March Banks venire verso di lui e, non volendo farle credere che stesse cercando di copiare, tornò a chinarsi sulla propria mappa e finse di scrivere qualcosa, mentre in realtà spiava al di sopra del parapetto, verso la capanna di Hagrid. C'erano sagome che passavano davanti alle finestre, bloccando a tratti la luce. Sentì gli occhi della professoressa perforargli la nuca. Si accostò di nuovo al telescopio e lo puntò sulla luna, anche se ne aveva segnato la posizione un'ora prima, ma proprio mentre la professoressa March Banks si spostava, un ruggito esplose nella capanna lontana e rimbombò nell'oscurità fino alla cima della torre. Parecchi studenti attorno a Harry tesero il collo al di sopra dei telescopi per guardare da quella parte. Il professor Tofti tossicchiò. «Cercate di concentrarvi su, ragazzi!» disse piano. La maggior parte degli studenti si rimise al lavoro, ma Harry guardò alla sua sinistra e vide che Hermione fissava ipnotizzata la capanna di Hagrid. «Ancora venti minuti!» annunciò il professor Tofti. Hermione sussultò e tornò alla sua mappa celeste. Harry abbassò lo sguardo sulla sua e scoprì di aver scritto Marte invece di Venere. Si chinò per correggere l'errore. Dal prato arrivò l'eco di un botto assordante. Parecchi studenti strellarono «Aia!» perché si erano ficcati il telescopio nell'occhio per la fretta di vedere che cosa succedeva laggiù. La porta della capanna si era spalancata e nella luce improvvisa lo distinsero perfettamente. Una figura massiccia che rugiva e agitava i pugni, circondata da sei persone, tutte a giudicare dai sottili fidi scarlatti puntati su di lui, intente a schiantarlo. «No!» gridò Hermione. «Mia cara!» esclamò il professor Tofti scandalizzato. «Questo è un esame!» Nessuno però badava più alle mappe celesti. Raggi di luce rossa continuavano a saettare contro Hagrid, ma chissà come parevano rimbalzarli addosso. Era ancora in piedi e per quel che vedeva Harry continuava a opporre una strenua resistenza. Urla e grida echeggiarono sul prato. Una voce maschile gridò «Sì, ragionevole, Hagrid!» Hagrid ruggì. «Ragionevole un accidente! Non mi prenderete, Dolish!» Harry vide stagliarsi contro la luce anche la sagoma più piccola di Zanna, che tentava di difendere il padrone slanciandosi con coraggio contro i maghi, finché uno schiantesimo lo centrò e lo abbatté. Con un ululato furibondo, Hagrid sollevò di peso il colpevole e lo scalaventò lontano, facendogli fare un volo di almeno tre metri. Il mago non si rialzò. Hermione trattenne il fiato e si portò in orridita le mani alla bocca. Harry si voltò verso Ron e vide che anche lui sembrava atterrito. Non avevano mai visto Hagrid perdere davvero il controllo. «Guardate!» strillò Parvati, sporgendosi dal parapetto indicando il portone del castello. Si era riaperto e alla luce che adesso si riversava sul prato buio, videro un'alta, solitaria figura nera marciare verso la capanna. «Insomma!» esclamò preoccupato il professor Tofti. «Mancano solo sedici minuti!» Ma nessuno lo ascoltava. Gli occhi di tutti erano incollati sulla persona che puntava a passo rapido verso la battaglia in corso davanti alla capanna. «Come osate!» la sentirono urlare. «Come osate!» «Ella McGonagall!» sussurrò Hermione. «Lasciatelo stare! Lasciatelo, ho detto!» esplose la voce della professoressa McGonagall nell'oscurità. «Su che basi lo state attaccando? Non ha fatto niente! Niente che giustifichi un simile!» Hermione, Parvati e Lavanda lanciarono un urro. Le figure attorno alla capanna avevano scagliato non meno di quattro schiantesimi contro la professoressa McGonagall. I raggi rossi la colpirono quando era ancora a metà strada fra la capanna e il castello. Per un momento fu avvolta da un alone luminoso di un rosso spettrale, poi si levò a mezz'aria, atterrò con un tonfo sulla schiena e non si mosse più. «Per tutti i gargoyle!» urlò il professor Tofti, che a sua volta pareva del tutto dimentico dell'esame. «Senza preavviso! Un comportamento vergognoso!» «Vegliacchi!» l'urlo di Hagrid raggiunse chiaro la cima della torre, e parecchie luci si riaccesero dentro il castello. «Schifosi vigliacchi! Prendete questo! E questo!» «Oh cielo!» mormorò Hermione, trattenendo il fiato. Hagrid appioppò due possenti ceffoni agli aggressori più vicini, e a giudicare da come si affrosciarono all'istante, dovevano essere perlomeno svenuti. Poi Harry lo vide chinarsi, e per un istante temette che fosse stato sopraffatto da un incantesimo, ma subito si raddrizzò con una sorta di sacco in spalla, e Harry capì che si trattava del corpo inerte di Zanna. «Prendetelo! Prendetelo!» strillò la Umbridge, ma il suo unico aiutante ancora in piedi non sembrava ansioso di avvicinarsi ai pugni di Hagrid, anzi arretrò così in fretta che inciampò su uno dei colleghi svenuti e cadde. Hagrid si voltò e si diede alla fuga, sempre con Zanna attorno al collo. La Umbridge gli lanciò contro un ultimo schiantesimo, ma lo mancò, e Hagrid, correndo a più non posso verso i cancelli lontani, sparì nelle tenebre. Tutti fissarono la scena a bocca aperta per un lungo minuto di silenzio angosciato, finché si udì la voce fioca del professor Tofti. «Ancora cinque minuti, ragazzi!» Anche se aveva riempito solo due terzi della sua mappa, Harry non vedeva l'ora che l'esame finisse. Finalmente lui, Ron e Ermione riposero rapidamente i rispettivi telescopi e scesero a precipizio la scala a chiocciola. Nessuno degli studenti aveva intenzione di andare a letto, erano tutti ai piedi della scala e discutevano della scena a cui avevano assistito. «Quella vigliacca!» ansimò Ermione, soffocata dalla rabbia. «Tentare di prendere Hagrid alla sprovvista nel cuore della notte. Chiaramente voleva evitare un'altra scena come quella della Trelonei», osservò saggio Ernie Macmillan, sgusciando tra la folla per unirsi a loro. «Però Hagrid è stato bravo», disse Ron, ma sembrava più allarmato che ammirato. «Come mai gli incantesimi gli rimbalzavano addosso? Deve essere il suo sangue di gigante», rispose Ermione con voce tremula. «È molto difficile schiantare un gigante. Sono un po' come i troll, incredibilmente resistenti. Ma la povera professoressa McGonagall, quattro schiantesimi in pieno petto e non è più una ragazzina, no?» «Spaventoso», concordò Ernie, scuotendo teatralmente la testa. «Beh, io me ne vado a letto. Buonanotte a tutti. Anche gli altri si dispersero, senza smettere di discutere dell'accaduto. Almeno non chiuderanno di nuovo Hagrid ad Azkaban», disse Ron. «Immagino che si unirà a Silente, no?» «Credo di sì», rispose Ermione, che sembrava vicina alle lacrime. «È terribile. Ero convinta che Silente sarebbe tornato presto, e adesso abbiamo perso anche Hagrid». Quando entrarono nella sala comune di Grifondoro, la trovarono affollatissima. Il fracasso aveva svegliato molti studenti, che a loro volta si erano affrettati a svegliare gli amici ancora addormentati. Simus e Dean, arrivati poco prima di loro, stavano raccontando quello che avevano visto e udito dall'alto della torre. «Ma perché prendersela con Hagrid?» chiese Angelina Johnson, scuotendo il capo. «Non è come per la Trelonei. Quest'anno insegnava molto meglio del solito. La Umbridge detesta i semi umani», spiegò Amara Ermione, abbandonandosi su una poltrona. «Ha sempre pensato di buttarlo fuori». «Ed era anche convinta che fosse Hagrid a metterle gli snasi nell'ufficio», aggiunse Katie Bell. «Oh, accidenti!» Lì Jordan si coprì la bocca con una mano. «Sono stato io. Fred e George me ne hanno lasciati un paio, e con un po' di levitazione li ho fatti entrare dalla finestra». «Lo avrebbe licenziato comunque», disse Dean. «Era troppo vicino a Silente». «È vero», concordò Harry, sprofondandone la poltrona accanto a quella di Ermione. «Spero solo che la professoressa McGonagall stia bene», mugolò Lavanda. «L'hanno riportata al castello. L'abbiamo visto dalla finestra del dormitorio», disse Colin Crivey. «Di sicuro non era in gran forma». «Madame Pomfrey la rimetterà in sesto», disse con fermezza Alicia Spinnet. «Finora i suoi rimedi non hanno mai fallito». Solo verso le quattro del mattino la sala comune si svuotò. Harry era perfettamente sveglio, tormentato dall'immagine di Hagrid, che fuggiva nell'oscurità, e così furioso con la Umbridge da non riuscire a pensare a una punizione adeguata, anche se l'idea di Ron di farle nutrire una cassa di schiopo di sparacoda aveva i suoi pregi. Si addormentò meditando tremende vendette e si svegliò tre ore dopo, sfinito. L'esame finale, storia della magia, si sarebbe svolto nel pomeriggio. Dopo colazione Harry avrebbe di gran lunga preferito tornare a letto, ma aveva deciso di utilizzare quella mattina per un ripasso dell'ultima ora, e così si sedette con la testa fra le mani vicino alla finestra della sala comune, sforzandosi di non dormire mentre scorreva gli appunti, una pila alta un metro avuti in prestito da Ermione. Alle due in punto gli studenti del quinto anno entrarono nella sala grande e si sedettero davanti ai fogli d'esame, posati a faccia in giù sui banchi. Harry era esausto. Voleva solo farla finita e andare a letto, e l'indomani sarebbe andato con Ron sul campo di Quidditch e avrebbe fatto un giro sulla scopa dell'amico per assaporare la libertà dagli esami. «Voltate i fogli!» ordinò la professoressa March Banks da dietro la cattedra, capovolgendo la grande crescidra. «Potete cominciare!» Harry fissò la prima domanda. Ci mise alcuni secondi prima di rendersi conto di non aver capito una parola, distratto com'era dal ronzio di una vespa che sbatteva contro i vetri. A fatica cominciò infine a scrivere la risposta. Incontrò molte difficoltà a ricordare i nomi e a ordinare la confusione di date. Saltò a pie pari la domanda numero quattro. «Secondo voi, la legge sulle bacchette facilitò o aiutò a controllare le rivolte dei Goblin nel XVIII secolo?» Dicendosi che se ne avesse avuto il tempo vi sarebbe tornato alla fine. Fece un tentativo con la numero cinque. «Come fu violato nel 1749 lo statuto di segretezza e quali misure furono introdotte per evitare che ciò si ripetesse?» Ma lo tormentava il sospetto di aver trascurato diversi punti essenziali. «Da qualche parte in quella storia dovevano entrarci i vampiri». Scorse la pergamena alla ricerca di una domanda alla quale rispondere con sicurezza, e i suoi occhi si illuminarono, leggendo la numero 10. «Descrivete le circostanze che condussero alla formazione della Confederazione Internazionale dei Maghi e spiegate perché gli stregoni del Liechtenstein rifiutarono di aderirvi». «Questa la so», pensò Harry, anche se il suo cervello era intorpidito e distratto. Rivide davanti agli occhi la calligrafia di Ermione. «La formazione della Confederazione Internazionale dei Maghi». L'aveva letto proprio quella mattina. Cominciò a scrivere, sbirciando di tanto in tanto la grande clessidra sulla cattedra accanto alla professoressa Marge Banks. Era seduto dietro Parvati Patil e un paio di volte si ritrovò a fissare ipnotizzato i riflessi dorati che le baluginavano fra i lunghi capelli scuri, e dovette scuotere con forza la testa per sdembiarla. Il primo supremo pezzo grosso della Confederazione Internazionale dei Maghi fu Pierre Bonacor, ma la sua nomina fu contestata dai Maghi del Liechtenstein, perché, tutto attorno, il raschiare delle penne d'oca sulle pergamene faceva venire in mente lo zampettare affannoso dei ratti. Il sole gli scottava la nuca. Che cosa aveva fatto Bonacor per offendere i Maghi del Liechtenstein? Harry aveva la sensazione che centrassero i troll. Di nuovo si incantò a fissare i capelli di Parvati. Se solo avesse potuto eseguire un incantesimo di legilimanzia e guardarle dentro la testa per vedere che cosa avevano a che fare i troll con Pierre Bonacor e il Liechtenstein. Chiuse gli occhi e affondò il viso fra le mani, finché il rosso acceso delle sue palpebre diventò oscuro e fresco. Bonacor aveva voluto fermare la caccia ai troll e concedere loro uguali diritti. Ma il Liechtenstein aveva problemi con una tribù particolarmente crudele di troll di montagna. Ecco di che cosa si trattava. Aprì gli occhi e il bianco accecante della pergamena glieli fece lacrimare. Scrisse lentamente due righe sui troll e poi rilesse il tutto. Non era molto esauriente né dettagliato, eppure era sicuro che gli appunti di Ermione sulla Confederazione fossero pagine e pagine, chiuse di nuovo gli occhi, sforzandosi di ricordare. La Confederazione si era riunita per la prima volta in Francia, sì, lo aveva già scritto. I Goblin avevano tentato di parteciparvi ma erano stati scacciati, aveva già scritto anche questo, e nessuno del Liechtenstein era voluto venire. «Pensa», si disse, il viso di nuovo fra le mani, mentre intorno a lui le penne frusciavano scrivendo senza sosta una risposta dopo l'altra, e la sabbia scorreva nella cressidra. Era di nuovo nel freddo, buio corridoio dell'ufficio misteri. Camminava a passo svelto e deciso. A tratti correva, per raggiungere infine la sua meta, come al solito. La porta nera gli si spalancò davanti. Era nella stanza circolare, con tante porte. Attraversò il pavimento di pietra e varcò anche la seconda porta. Chiazze di luce danzanti, lo strano ticchettio, ma non c'era tempo di esplorare, doveva sbrigarsi. Corse verso la terza porta, e anche quella si aprì. Ancora una volta era nella stanza grande come una cattedrale, colma di scaffali e sfere di vetro. Il cuore gli batteva fortissimo. Stavolta ce l'avrebbe fatta. Raggiunse la fila a novantasette, svoltò a sinistra e corse nel corridoio tra due file di scaffali. Ma là in fondo c'era una sagoma accasciata per terra, una sagoma nera che sussultava come una bestia ferita. Harry sentì lo stomaco contrarsi di paura, di eccitazione. E poi sentì uscire dalla propria bocca una voce acuta, gelida, disumana. «Prendila per me! Tirala giù subito! Io non posso toccarla, ma tu sì!» La sagoma nera ebbe un fremito. In fondo al proprio braccio Harry vide levarsi una mano bianca, le lunghe dita strette attorno a una bacchetta. Sentì la fredda voce acuta dire «Crucio!». L'uomo sul pavimento lanciò un urlo e tentò di alzarsi, ma poi ricadde contolcendosi. Harry rideva, levò la bacchetta, scagliò di nuovo la maledizione e la figura gemette e restò immobile. «Lord Voldemort sta aspettando!». Lentamente, facendo forza sulle braccia tremanti, l'uomo atterra alzò le spalle e la testa. Il suo volto scarno, coperto di sangue e deformato dalla sofferenza, si irrigidì in una maschera di sfida. «Prima dovrai uccidermi!» mormorò Sirius. «Lo farò senza dubbio. Alla fine. Ma prima devi prenderla per me, Black. Credi di aver provato dolore finora? Pensaci bene. Abbiamo ore davanti a noi e nessuno sentirà le tue urla. Ma qualcuno gridò mentre Voldemort calava di nuovo la bacchetta. Qualcuno gridò, scivolò su un banco arruventato e cadde sul freddo pavimento di pietra. Harry si svegliò toccando terra, urlante, la cicatrice in fiamme, mentre la sala grande sembrava esplodere attorno a lui». Fuori dal camino «No, non ho bisogno di andare in infermeria, non voglio!» farfugliava, divincolandosi dal professor Tofti, che lo fissava preoccupato, mentre lo accompagnava nella sala d'ingresso, fra gli sguardi sbigottiti degli altri studenti. «Sto bene, signore!» balbettò Harry asciugandosi il viso sudato. «Davvero, mi sono addormentato, un incubo!» «La tensione degli esami!» annui comprensivo il vecchio mago, battendogli una mano tremante sulla spalla. «Capita, ragazzo mio, capita! Corri a bere un bicchiere d'acqua fresca e forse dopo te la sentirai di rientrare, eh? L'esame è quasi finito, ma forse potrai dare un ultimo tocco alle tue risposte, vero?» «Sì!» rispose Harry frenetico. «Voglio dire, no, ho fatto quello che potevo, credo!» «Molto bene!» disse gentilmente il vecchio mago. «Adesso vado a ritirare i tuoi fogli. Ti suggerisco di andare a fare un bel riposino!» «Sì, grazie!» Harry annui con vigore. «Grazie mille!» Non appena il vecchio ebbe varcato la soglia della sala grande, Harry salì di corsa alla scala di marmo, sfrecciò nel corridoio così in fretta che i ritratti gli borbottarono rimproveri, salì un'altra rampa di scale e fece irruzione in infermeria con la violenza di un uragano, strappando un grido di spavento a Madame Pomfrey, che stava infilando un cucchiaio pieno di un liquido blu elettrico nella bocca aperta di Montague. «Potter, che cosa credi di fare? Devo vedere la professoressa McGonagall!» ansimò Harry, i polmoni in fiamme. «Subito! È urgente!» «Non è qui, Potter!» rispose mesta Madame Pomfrey. «L'hanno trasferita al San Mungo stamattina. Quattro schiantesimi in pieno petto alla sua età. C'è da stupirsi che non l'abbiano uccisa!» «Non è qui!» balbettò Harry sotto shock. L'improvviso squillo della campanella fu seguito dal rombo lontano degli studenti che si riversavano nei corridoi sopra e sotto di lui. Rimase immobile, fissando Madame Pomfrey a occhi sbarrati. Si sentì invadere dal terrore. Non gli era rimasto nessuno. Silente se n'era andato. Hagrid se n'era andato. Ma Harry credeva che la professoressa McGonagall sarebbe sempre stata lì, irascibile e inflessibile, forse, ma affidabile. «Non mi stupisce che tu sia sconvolto, Potter!» disse Madame Pomfrey con una sorta di fiera approvazione. «Nessuno di loro sarebbe mai riuscito a schiantare Minerva McGonagall faccia a faccia e alla luce del giorno. Una vigliaccheria! Ecco cos'è stata! Una vigliaccheria vergognosa! Se non temessi quello che potrebbe succedervi senza di me, mi dimetterei per protesta!» «Sì!» mormorò Harry con voce atona. Uscì alla cieca nel corridoio affollato, dove rimase inerte, sballottato dalla folla, mentre il panico lo invadeva come un gas velenoso e la sua testa sembrava galleggiare, incapace di pensare al da farsi. «Ron e Ermione!» gli disse una voce nella mente. Riprese a correre, scostando bruscamente chiunque gli bloccasse la strada senza badare alle proteste. Ridiscese a capofitto due piani ed era in cima alla scalinata di marmo quando li vide salire di corsa verso di lui. «Harry!» esclamò subito Ermione con aria spaventata. «Che cosa è successo? Stai bene? Stai male? Dove sei stato?» chiese Ron. «Venite!» disse in fretta Harry. «Devo dirvi una cosa!» Li precedette nel corridoio del primo piano, affacciandosi in tutte le aule finché ne trovò una vuota. Vi si tuffò dentro. Non appena furono entrati, chiuse la porta alle loro spalle e vi appoggiò contro la schiena. «Voldemort ha preso Sirius!» «Che cosa? Come faia? L'ho visto, poco fa, quando mi sono addormentato durante l'esame. Ma dove? Come?» domandò Ermione pallidissima. «Non lo so, però so esattamente dove si trova. Nell'ufficio misteri c'è una stanza piena di scaffali carichi di sfere di vetro e loro sono alla fine della fila 97. Sta cercando di costringere Sirius a prendere qualcosa da dentro. Lo sta torturando. Ha detto che alla fine lo ucciderà!» Scoprì che la voce gli tremava quanto le ginocchia. Si avvicinò a un banco e si sedette, tentando di controllarsi. «Come facciamo ad arrivare là?» chiese. Seguì un momento di silenzio. Poi Ron disse «A arrivare? All'ufficio misteri per salvare Sirius!» Harry alzò la voce. «Ma Harry!» balbettò Ron incerto. «Che cosa c'è? Che cosa c'è?» Non riusciva a capire perché lo fissavano tutti e due a bocca aperta, come se stesse dicendo qualcosa di assurdo. «Harry!» cominciò Hermione timorosa. «Beh, come ha fatto Voldemort a entrare al Ministero della Magia senza che nessuno se ne accorgesse? Che ne so! La domanda giusta è come facciamo a entrarci noi!» «Ma Harry rifletti!» insiste Hermione, muovendo un passo verso di lui. «Sono le cinque del pomeriggio. Il Ministero della energia deve essere pieno di impiegati. Com'è possibile che Voldemort e Sirius siano entrati senza farsi vedere? Harry! Probabilmente sono i due maghi più ricercati del mondo. Credi che possano entrare in un palazzo pieno di auror senza farsi notare?» «Non lo so. Voldemort avrà usato un mantello dell'invisibilità o roba del genere e l'ufficio misteri è sempre stato vuoto ogni volta che ci sono entrato!» «Tu non ci sei mai entrato, Harry!» disse Hermione piano. «Tu l'hai sognato! Tutto qui!» «Non sono sogni normali!» urlò Harry alzandosi e facendo un passo verso di lei. Avrebbe voluto scrollarla. «Come spieghi la faccenda del padre di Ron, eh? Come facevo a sapere che cosa gli era successo?» «Ha ragione!» bisbigliò Ron fissando Hermione. «Ma è così... così improbabile!» esclamò lei disperata. «Harry, come ha fatto Voldemort a catturare Sirius, che è sempre stato rinchiuso in Grimmaule Place? Magari era stufo di restare là dentro ed è uscito a prendere una boccata d'aria!» suggerirò un teso. «È un secolo che muore dalla voglia di mettere il naso fuori!» «Ma perché?» insiste Hermione. «Perché Voldemort vuole usare Sirius per prendere quell'arma o quello che è?» «Non lo so! Possono esserci un sacco di ragioni!» urlò Harry. «Forse Sirius è semplicemente qualcuno che Voldemort non ha problemi a torturare!» «Mi è appena venuta in mente una cosa!» disse Ron con voce soffocata. «Il fratello di Sirius era un mangiamorte, no? Avrà confidato a Sirius come fare per impadronirsi di quell'arma!» «Sì! Ecco perché Silente continuava a raccomandare a Sirius di restare chiuso in casa!» disse Harry. «Sentite, mi dispiace!» sbottò Hermione. «Ma continuate a dire assurdità! E per giunta non abbiamo una sola prova che questa cosa sia vera! Che Voldemort e Sirius siano laggiù!» «Ermione!» Ron si voltò di scatto a guardarla. «Harry li ha visti!» «E va bene!» disse lei con aria spaventata ma decisa. «Devo proprio dirlo!» «Dire che cosa?» «Tu...» «Non è una critica, Harry! Ma tu, ecco, in un certo senso, non ti sembra di avere un po' la mania di... beh... salvare la gente!» Harry la fulminò con lo sguardo. «Che cosa vorrebbe dire la mania di salvare la gente?» «Beh, ecco...» riprese Hermione, sempre più nervosa. «Sai, l'anno scorso, per esempio, nel lago, durante il torneo, non avresti dovuto... insomma, non avevi bisogno di salvare la piccola della cour. Ti sei lasciato un po'... trascinare!» Harry si sentì attraversare da un'ondata di collera bruciante. «Come poteva ricordargli quell'errore clamoroso proprio in quel momento?» «Voglio dire, è stato magnifico da parte tua, certo!» proseguì Hermione in fretta, paralizzata dal suo sguardo feroce. «Lo hanno pensato tutti!» «È buffo!» disse Harry con voce tremante. «Ricordo benissimo che Ron mi aveva accusato di aver perso tempo a fare l'eroe. È questo che pensi? Pensi che voglia fare di nuovo l'eroe?» «No, no, no!» protestò Hermione. «Non è questo che voglio dire. Allora parla chiaro, perché stiamo perdendo tempo!» urlò Harry. «Sto cercando di dire...» «Voldemort, ti conosce, Harry. È come quando ha trascinato Ginny nella camera dei segreti per attirarti. Lui fa questo genere di cose. Sa che sei il... il tipo di persona che correrebbe in aiuto di Sirius. E se in realtà volesse te nell'ufficio mister...» «Ermione, non mi importa se l'ha fatto per attirarmi oppure no. La McGonagall è al San Mungo. A Hogwarts non è rimasto nessuno dell'ordine a cui possa rivolgermi. E se non andiamo, Sirius morirà!» «Ma Harry, e se il tuo sogno fosse... beh, soltanto un sogno!» Harry esplose in un rugito di frustrazione che la fece indietreggiare. «Allora proprio non capisci!» le urlò contro. «Non sono incubi! Non sono sogni normali! A cosa credi che servissero tutte quelle lezioni di occlumanzia? Perché Silente ci teneva tanto che imparassi a bloccare la mente. Perché i miei sogni sono veri!» «Sirius è in trappola, l'ho visto! Voldemort l'ha catturato e nessun altro lo sa. E questo vuol dire che siamo i soli a poterlo salvare. E se non volete aiutarmi, d'accordo. Ma io andrò da lui, capito? E se ricordo bene, non avete avuto problemi con la mia mania di salvare la gente quando ho salvato te dai dissennatori o...» e si voltò a guardare Ron, tua sorella dal basilisco. «Non ho mai detto che avevo problemi io!» protestò ardente Ron. «Ma Harry, lo hai appena detto tu!» sbottò Hermione. «Silente voleva che tu bloccassi queste visioni! E se avesse imparato occlumanzia come si deve, non avresti mai visto questo! Se credi che possa far finta di non aver visto! Anche Sirius ha detto che dovevi assolutamente bloccare la mente! Beh, immagino che la penserebbe in un altro modo, se sapesse quello che ho appena...» La porta dell'aula si aprì, facendoli voltare di scatto tutti e tre. Ginni entrò con aria incuriosita, seguita da Luna, che come al solito sembrava essere capitata lì per caso. «Ciao!» disse Ginni esitante. «Abbiamo riconosciuto la voce di Harry. Che cos'hai da urlare?» «Non sono affari tuoi!» rispose brusco Harry. Ginni alzò le sopracciglia. «Non c'è bisogno che usi quel tono con me!» replicò Gelida. «Mi chiedevo solo se potevo aiutarti. Beh, non puoi!» «Sei davvero scortese, sai?» osservò imperturbabile Luna. Harry si voltò soffocando un'imprecazione. Ci mancava solo Luna Lovegood. «Un momento!» disse all'improvviso Hermione. «Harry, loro possono aiutarci!» Harry e Ron la fissarono. «Ascoltate!» proseguì in fretta. «Harry, dobbiamo scoprire se Sirius ha davvero lasciato il quartier generale!» «Ti ho detto che l'ho visto! Harry, ti supplico!» esclamò disperata Hermione. «Per favore, prima di scaraventarci a Londra, controlliamo se Sirius è in casa. Ti prego! Se scopriamo che non c'è, giuro che non cercherò di fermarti. Verrò con te. Farò qualunque cosa sia necessaria per salvarlo!» «Voldemort lo sta torturando ora!» urlò Harry. «Non c'è tempo da perdere!» «E se fosse tutto un trucco di Voldemort, Harry? Dobbiamo controllare! Dobbiamo!» «Ma come?» chiese Harry. «Come facciamo a controllare?» «Useremo il camino dell'Humbridge!» rispose Hermione, chiaramente atterrita al solo pensiero. «Faremo in modo di allontanarla di nuovo dal suo ufficio. Però ci serve qualcuno che faccia da palo, qualcuno come Ginny e Luna!» Anche se era evidente che stava ancora cercando di capire che cosa succedeva, Ginny accettò subito e Luna chiese. «Quando dite Sirius, vi riferite a Stubby Boardman?» Nessuno le rispose. «D'accordo!» disse Harry in tono aggressivo. «D'accordo! Se riesci a trovare un modo per farlo alla svelta, sono con te. Altrimenti andrò subito all'Ufficio Misteri!» «L'Ufficio Misteri?» domandò Luna con vaga sorpresa. «E come pensi di entrarci?» Ancora una volta Harry la ignorò. «Bene!» Hermione prese a camminare avanti e indietro fra i banchi, torcendosi le mani. «Bene, vediamo. Qualcuno di noi deve andare dall'Humbridge e... e spedirla dalla parte sbagliata, il più lontano possibile dall'ufficio. Le si potrebbe dire, non so, che Peeves sta combinando qualche disastro come al solito.» «Ci vado io», si offrì subito Ron. «Le dirò che sta distruggendo il dipartimento di trasfigurazione, che è a chilometri dal suo. Adesso che ci penso, se strada facendo incontrassi Peeves, potrei convincerlo a distruggerlo per davvero.» Il fatto che Hermione non protestasse alla proposta di fare a pezzi il dipartimento di trasfigurazione era un chiaro indizio della gravità del momento. «Bene», annuì aggrottando la fronte, senza interrompere il suon di rivieni fra i banchi, «e dobbiamo anche tenere gli altri studenti alla larga dal suo ufficio, perché non ci vedano entrare, altrimenti qualche serpe verde si precipiterà a farle una soffiata.» «Io e Luna possiamo metterci ai due capi del corridoio», propose Ginny, «e avvertire tutti di non passare, perché qualcuno lo ha riempito di gas strozzante.» Hermione sembrò sorpresa dalla prontezza di quella bugia. Ginny scrollò le spalle e disse «Prima di andarsene, Fred e George lo stavano progettando davvero.» «Bene», riprese Hermione. «Allora, Harry, noi due useremo il mantello dell'invisibilità per intrufolarci nell'ufficio. Tu parlerai con Sirius.» «Non lo troverò, Hermione. Voglio dire che potrai controllare se è a casa oppure no, mentre io monto la guardia. Non credo che dovresti entrare da solo. Lì ha già dimostrato che la finestra è un punto debole, facendoci passare gli snasi.» Per quanto furioso e impaziente, Harry dovette riconoscere che l'offerta di Hermione di entrare insieme a lui nell'ufficio della Umbridge era una prova di solidarietà e lealtà. «Io d'accordo, grazie», borbottò. «Allora, beh, in tutto non credo che avremo più di cinque minuti», disse Hermione, sollevata all'idea che Harry avesse accettato il piano. Confilce la squadra di inquisizione in giro. «Cinque minuti basteranno», disse Harry. «Muoviamoci.» «Adesso», esclamò Hermione spaventata. «Adesso sì», ribatté Harry con rabbia. «Che cosa pensavi, di aspettare dopo cena? Voldemort sta torturando Sirius in questo momento.» «Io... va bene», disse lei disperata. «Vai a prendere il mantello dell'invisibilità. Ci troviamo all'inizio del corridoio della Umbridge. D'accordo.» Senza rispondere, Harry corse fuori dall'aula e cominciò a farsi largo nella folla, che riempiva i corridoi. Due piani più sopra incrociò Simus e Dean, che lo salutarono allegramente, e gli dissero che stavano organizzando nella sala comune una festa dal tramonto all'alba per celebrare la fine degli esami. Harry quasi non li sentì. Valcò il buco del ritratto, mentre loro ancora discutevano su quanta burro birra dovevano procurarsi al mercato nero, e prima che si accorgessero che era sparito, era già di ritorno col mantello dell'invisibilità e il coltello di Sirius al sicuro nella borsa. «Ci metti un paio di galeoni anche tu, Harry? Harold Dingle ci può vendere un po' di whisky incendiario.» Ma ormai Harry era già lontano nel corridoio, e pochi minuti dopo faceva abbalzi gli ultimi gradini per raggiungere Ron, Hermione, Ginny e Luna in fondo al corridoio della Umbridge. «Ho tutto», annunciò. «Siamo pronti?» «D'accordo», sussurrò Hermione, mentre passava una banda di chiassosi studenti del sesto anno. «Allora, Ron, tu fai allontanare la Umbridge. Ginny e Luna, voi due cominciate a mandare via la gente dal corridoio. Io, Harry, ci nascondiamo sotto il mantello e aspettiamo di avere via libera.» Ron si allontanò in fretta, i capelli rossi come una macchia ardente, visibile sino alla fine del corridoio, mentre la testa altrettanto fiammante di Ginny, seguita da quella bionda di Luna, filava in direzione opposta, facendosi largo fra gli studenti accalcati. «Forza!» sussurrò Hermione, afferrò Harry per un polso e lo trascinò in una nicchia, dove il brutto busto di pietra di un mago medievale borbottava in tantesimi fra sé dall'alto di una colonna. «Sei sicuro di star bene, Harry? Sei ancora molto pallido!» «Sto benissimo!» rispose lui brusco e trasse dalla borsa il mantello dell'invisibilità. A dire il vero la cicatrice gli bruciava, ma non tanto da fargli pensare che Voldemort avesse già inferto a Sirius il colpo mortale. Era stato molto peggio quando Voldemort aveva punito Avery. «Ecco!» disse, coprendo entrambi col mantello dell'invisibilità. Rimasero immobili, le orecchie tese, sforzandosi di ignorare il borbottio in latino del busto davanti a loro. «Non potete passare di qui!» sentirono Ginny annunciare alla folla. «No, mi dispiace, ma dovrete usare la scala girevole. Qualcuno ha riempito il corridoio di gas strozzante!» Molti studenti protestarono e una voce scorbutica disse «Io non vedo nessun gas!» «È incolore!» rispose Ginny con un convincente tono esasperato. «Ma se vuoi passare lo stesso, prego, così potremo mostrare il tuo cadavere al prossimo idiota che non ci crede!» Lentamente la folla si disperse. A quanto pareva la notizia del gas strozzante doveva essersi diffusa, perché gli studenti giravano alla larga. «Credo che sia il meglio che possiamo ottenere, Harry!» bisbigliò Hermione quando la via fu abbastanza libera. «Dai, andiamo!» Avanzarono coperti dal mantello. Passarono alle spalle di Luna, immobile, al capo opposto del corridoio. «È il lavoro!» sussurrò Hermione superando Ginny. «E non dimenticare il segnale!» «Qual è il segnale?» borbottò Harry mentre si avvicinavano alla porta della Umbridge. «Se la vedono arrivare, attaccano perché Weasley è il nostro re!» rispose Hermione. Intanto Harry stava infilando la lama del coltello di Sirius nella fessura fra la porta e il muro. La serratura scattò e un attimo dopo erano dentro. I soliti micetti leziosi si crogiolavano sui piatti illuminati dal sole del tardo pomeriggio, ma per il resto l'ufficio era deserto, come l'ultima volta. Hermione trasse un sospiro di sollievo. Temevo che dopo il secondo snaso avesse aumentato le misure di sicurezza. Si torsero il mantello. Hermione si mise accanto alla finestra, tenendosi nascosta, scrutando i prati con la bacchetta pronta. Harry scattò verso il camino, afferrò la scatolina di polvere volante e ne gettò un pizzico nel fuocolare, facendovi esplodere fiamme smenaldine. Senza perdere tempo si inginocchiò, infilò la testa nel fuoco danzante e gridò, Grimmall Place numero 12! Le ginocchia rimasero saldamente piantate sul freddo pavimento dell'ufficio e la testa prese a girargli come se fosse appena sceso da una giostra. Tenne gli occhi serrati per evitare che si riempissero di cenere e quando il vortice si fermò li riaprì davanti alla lunga, fredda cucina di Grimmall Place. Non c'era nessuno, se l'era aspettato, ma non era preparato all'ondata di terrore e panico che la vista della stanza deserta gli suscitò nello stomaco. Sirius! gridò. Sirius, ci sei? La sua voce echeggiò nella cucina, ma la sola risposta fu un fruscio alla destra del camino. Chi c'è? urlò, chiedendosi se era soltanto un topo. Critcher, l'elfo domestico, si fece avanti. Era di ottimo umore, anche se a quanto pareva si era procurato da poco una brutta ferita a tutte e due le mani, coperte da grosse bende. «C'è la testa del giovane Potter nel camino!» annunciò alla cucina deserta, lanciando a Harry occhiate furtive e stranamente trionfanti. «Che cosa sarà venuto a fare?» si chiede Critcher. «Dov'è Sirius, Critcher?» chiese Harry. L'elfo sbottò in una risatina sibilante. «Il padrone è uscito, Harry Potter!» «Dov'è? Dove è andato Critcher?» Di nuovo Critcher si limitò a ridacchiare. «Ti avverto!» lo minacciò Harry, pur rendendosi conto che da dove si trovava la possibilità di infliggere una punizione a Critcher era inesistente. «Dov'è Lupin? È malocchio! C'è qualcuno di loro qui?» «Nessuno qui! Solo Critcher!» rispose Giulivo l'elfo. Voltò le spalle a Harry e si diresse lentamente verso la porta della cucina. «Adesso Critcher andrà a chiacchierare con la padrona!» «Sì, sì, è un pezzo che non lo fa! Il padrone lo teneva lontano da lei!» «Dov'è Sirius?» gli urlò dietro Harry. «Critcher! È andato all'ufficio misteri?» Critcher si fermò. Harry riusciva appena a distinguerne la testa calva attraverso la foresta di gambe di sedie davanti a lui. «Il padrone non dice al povero Critcher dove va!» rispose piano l'elfo. «Ma tu lo sai!» urlò Harry. «È vero! Tu sai dov'è!» Dopo un breve silenzio, l'elfo esplose in un chiassoso risolino. «Il padrone non torna più dall'ufficio misteri!» annunciò tutto allegro. «Critcher e la sua padrona sono di nuovo soli!» e zampettò oltre la porta, nell'ingresso. «Razzadi!» Ma prima di poter pronunciare una qualunque maledizione o insulto, Harry provò un dolore acutissimo alla testa. La cenere gli riempì i polmoni e, tossendo, fu trascinato indietro fra le fiamme per trovarsi all'improvviso di fronte alla faccia larga e pallida, della professoressa Umbridge, che lo aveva afferrato per i capelli e gli torceva il collo all'indietro, come se volesse tagliargli la gola. «Credeva forse!» sussurrò, piegandogli la testa al punto da costringerlo a fissare il soffitto. «Che dopo due snasi avrei permesso a un'altra orrenda bestiaccia di entrare nel mio ufficio!» «Ho piazzato incantesimi sensori segreti tutto attorno alla porta!» «Sciocco ragazzo!» «Gli prenda la bacchetta!» Latrò a qualcuno che Harry non poteva vedere e, subito una mano, gli frugò nella tasca interna della veste e se ne impadronì. «E anche la sua!» Un certo trambusto vicino alla porta fece capire a Harry che avevano appena strappato la bacchetta anche a Hermione. «Voglio sapere perché è entrato nel mio ufficio!» ringhiò la Umbridge, scuotendo il pugno che gli stringeva i capelli con tanta forza da farlo barcollare. «Volevo prendere la mia Firebolt!» gracchiò Harry. «Bogiardo!» gli scrollò di nuovo la testa. «Sa benissimo che la sua Firebolt è sotto chiave nei sotterranei!» «Aveva la testa nel camino! Con chi cercava di mettersi in contatto?» «Con nessuno!» Harry tentò di liberarsi e sentì parecchi capelli congedarsi dal suo cranio. «Bogiardo!» urlò la Umbridge, lo scaraventò lontano, mandandolo a cozzare contro la scrivania. Hermione, adesso Harry poteva vederla, era stata inchiodata al muro da Millicent Balstrod. Malfoy, appoggiato al davanzale, sogghignava lanciando per aria la bacchetta di Harry e riacciuffandola con una mano sola. Preceduti da un notevole parapiglia in corridoio, diversi robusti serpeverde entrarono trascinandosi dietro Ron, Ginny, Luna e, con sbalordimento di Harry, Neville, che aveva un braccio di crab stretto attorno al collo e sembrava sul punto di soffocare. Tutti e quattro erano stati imbavagliati. «Presi tutti!» annunciò Warrington, spingendo brutalmente Ron nella stanza. «Lui!» puntò un dito tozzo contro Neville. «Ha cercato di impedirmi di fermare quella!» e indicò Ginny, che tentava di prendere a calci le gambe di una grossa ragazza di serpeverde. «Così ho catturato anche lui!» «Bene, bene!» disse la Umbridge, osservando gli sforzi di Ginny. «A quanto pare fra poco a Hogwarts non resterà nemmeno un Weasley!» Malfoy scoppiò in una fragorosa risata servile. Con un gran sorriso soddisfatto, la Umbridge si sistemò in una poltrona ricoperta di cinza a fiori e guardò i suoi prigionieri sbattendo le palpebre come un rospo in una aiuola. «Allora, Potter», disse, «ha piazzato un paio di sentinelle attorno al mio ufficio e ha mandato quell'idiota?» accennò a Ron, il che fece ridere Malfoy perfino più forte, a raccontarmi che il poltergeist combinava disastri nel dipartimento di trasfigurazione, mentre sapevo benissimo che era impegnato a sparare inchiostro sulle lenti di tutti i telescopi della scuola, come mi aveva appena riferito il signore Filch. A quanto pare aveva fretta di parlare con qualcuno, con Albus Silente forse, o con quell'ibrido Hagrid. Dubito che si trattasse di Minerva McGonagall, ho sentito che sta troppo male per parlare con chiunque. Anche questo suscitò le risate di Malfoy e di alcuni compagni della squadra d'inquisizione. Harry si accorse di tremare di collera e di odio. «Non è affar suo con chi parlo», ringhiò. La faccia molliccia della Umbridge parve irrigidirsi. «Molto bene», disse con la sua voce più pericolosa e più falsamente dolce. «Molto bene, signor Potter. Le ho offerto la possibilità di confessare spontaneamente. Ha rifiutato. Non ho altra scelta. Draco, chiami il professor Piton». Malfoy si infilò la bacchetta di Harry nella veste e uscì sogginando, ma Harry quasi non vi badò. Si era appena reso conto di una cosa e non riusciva a credere di essere stato così sciocco da non pensarci. Aveva creduto che tutti i membri dell'Ordine della Fenice, tutti coloro che potevano aiutarlo a salvare Sirius, se ne fossero andati. Ma si era sbagliato. A Hogwarts ce n'era ancora uno. Piton. L'ufficio era silenzioso, a parte i suoni soffocati dei serpeverde che cercavano di tenere fermi Ron e gli altri. Ron gocciolava sangue dal labbro sul tappeto della Umbridge mentre lottava per liberarsi dalla presa di Warrington. Ginny si sforzava ancora di prendere a calci la ragazza del sesto anno, che le aveva bloccato le braccia in una morsa ferrea. Neville stava diventando sempre più paonazzo nel debole tentativo di allentare la stretta di Crabbe attorno al suo collo. Hermione cercava in vano di togliersi di dosso Millicent Balstrod. Luna, invece, era immobile al fianco della serpeverde che l'aveva catturata e guardava distrattamente fuori dalla finestra, come se la faccenda non la riguardasse. Harry tornò a fissare la Umbridge, che lo studiava con attenzione, e tentò di restare impassibile quando Draco Malfoy rientrò e tenne aperta la porta per far passare Piton. «Voleva vedermi, signora preside?» chiese Piton. Il suo sguardo scivolò indifferente sulle coppie di studenti che continuavano ad azzuffarsi. «Ah, professor Piton!» La Umbridge si alzò sorridendo. «Sì, gradirei avere al più presto un'altra bottiglia di Veritaserum». «Ha usato l'ultima che avevo per interrogare Potter», rispose lui, osservando la gelido attraverso la cortina unticcia di capelli neri. «Non l'avrà consumato tutto. Le avevo spiegato che tre gocce sarebbero bastate». L'Humbridge arrossì. «Ma può prepararne dell'altro, no?» insistè. La sua voce, come sempre quando era furibonda, diventò ancora più leziosa. «Certo», rispose Piton arricciando le labbra. «Dato che serve un intero ciclo lunare perché sia pronto, dovrei poterglielo consegnare più o meno fra un mese». «Un mese?» gracidò la Umbridge, gonfiandosi come un rospo. «Un mese? A me serve adesso, Piton! Ho appena sorpreso Potter, che usava il mio cammino per comunicare con una o più persone sconosciute». «Ma davvero?» commentò Piton, mostrando il primo vago segno di interesse, mentre si voltava a guardare Harry. «Beh, non mi stupisce. Potter non ha mai avuto un'eccessiva inclinazione a seguire le regole della scuola». I suoi freddi occhi scuri trafissero Harry, che sostenne il suo sguardo, concentrandosi sulla visione avuta in sogno, desiderando che Piton gli leggesse la mente, che capisse. «Voglio interrogarlo ora!» urlò la Umbridge e Piton distorse lo sguardo da Harry per fissarlo sulla grassa faccia tremolante di collera. «Desidero che lei mi fornisca subito una pozione che lo costringa a dire la verità!» «Glielo ho già spiegato», replicò imperturbabile Piton. «La mia provvista di verità serum è finita. A meno che non voglia avvelenare Potter, e le assicuro che in tal caso avrebbe tutta la mia simpatia, non posso aiutarla. Purtroppo la maggior parte dei veleni agisce troppo in fretta e non lascia alla vittima il tempo di dire la verità». Piton tornò a guardare Harry, che tentava disperatamente di comunicare senza parole. «Voldemort ha portato Sirius nell'ufficio misteri! Voldemort ha portato Sirius!» «Lei è in verifica, se lo ricordi!» strillò la professoressa Umbridge e Piton si voltò nuovamente verso di lei, inarcando appena le sopracciglia. «Mi sta ostacolando deliberatamente! Mi aspettavo di meglio! Lucius Malfoy parla sempre così bene di lei! Ora esca dal mio ufficio!» Piton le rivolse un inchino ironico e fece per andarsene, e con lui, Harry lo sapeva, se ne sarebbe andata all'ultima possibilità di far sapere all'ordine che cos'era successo. «Ha preso Felpato!» urlò. «Ha portato Felpato nel posto dov'è nascosta!» Piton si bloccò, le dita già sulla maniglia della porta. «Felpato?» esclamò la professoressa Umbridge, lo sguardo avido che scorreva da Harry a Piton. «Che cos'è Felpato? Dove è nascosta che cosa? Che cosa significa Piton?» Piton si voltò. La sua espressione era imperscrutabile. Harry non sapeva se avesse capito oppure no, ma non osò parlare più chiaro davanti alla Umbridge. «Non ne ho la minima idea», rispose gelido Piton. «Potter, se mai mi venisse voglia di sentirmi urlare delle assurdità, ti somministrerò una pozione tartagliante. Crabbe, per favore, allenta quella presa. Se Longbottom soffoca, ci toccherà riempire una montagna di noiose scartoffie, e temo che dovrei farne cenno nelle tue referenze, se mai tu cercassi lavoro». Uscì, chiudendosi la porta alle spalle, e lasciando Harry in preda un'angoscia ancora più acuta. Piton era stato la sua ultima speranza. Guardò la Umbridge, che pareva pensarla allo stesso modo, ansante per la rabbia e la delusione. «Benissimo», disse lei ed estrasse la bacchetta. «Benissimo. Non ho scelta. Non è una mera questione di disciplina scolastica. Qui è in gioco la sicurezza del ministero. Sì, sì». Sembrava che si volesse convincere a fare qualcosa. Passò nervosamente il peso da un piede all'altro, fissando Harry e picchiando la bacchetta contro il palmo vuoto, il respiro affannoso. Harry si sentì orribilmente impotente, senza la propria bacchetta. «E' lei che mi costringe, Potter. Io non vorrei», continuò a borbottare, dimenandosi inquieta. «Ma a volte le circostanze giustificano i mezzi. Il ministro capirà che non avevo scelta». Malfoy la fissava esaltato. «La maledizione Cruciatus dovrebbe scioglierle la lingua», sussurrò la Umbridge. «No!» gridò Ermione. «Professoressa Umbridge, è illegale!» Ma la Umbridge non le badò. Aveva un'espressione eccitata, avida e maligna, che Harry non le aveva mai visto. Levò la bacchetta. «Professoressa!» gridò ancora Ermione. «Il ministro non vuole che lei infranga la legge!» «Se Cornelius non saprà, non soffrirà», replicò la Umbridge, puntando ansante la bacchetta contro diversi punti del corpo di Harry, come per decidere dove gli avrebbe fatto più male. Per esempio, non ha mai saputo che aveva ordinato ai dissennatori di attaccare Potter l'estate scorsa, ma è stato ben felice di cogliere al volo l'opportunità di espellerla. «È stata lei!» esclamò Harry. «Lei ha mandato i dissennatori contro di me!» «Qualcuno doveva agire», esalò la Umbridge, puntandogli decisa la bacchetta contro la fronte. «Continuavano a belare che bisognava chiudere la bocca a Harry Potter, screditarlo, ma io sono stata l'unica a fare qualcosa. Quella volta è riuscito a scamparla, vero Potter? Ma non oggi, non ora!» prese fiato e gridò. «Crew, no!» urrò Ermione con voce rotta, ancora bloccata da Millicent Balstrod. «No, Harry, dobbiamo dirglielo!» «No!» urrò di rimando Harry, fissando quel poco di Ermione che riusciva a vedere. «Ma, Harry, te lo tirerà fuori comunque! A che cosa serve resistere?» Di colpo, Ermione scoppiò a piangere sulle spalle di Millicent Balstrod, che smise di tenerla spiaccicata contro il muro e si allontanò di scatto, con aria disgustata. «Bene, bene, bene!» gongolò la Umbridge. «La nostra saputella ci darà qualche risposta. Su, ragazza, parli!» «E-mi-one, no!» biascicò Ron attraverso il bavaglio. Ginni fissava Ermione all'ibita, e così Neville, che ancora tossiva per riprendere fiato. Ma Harry aveva appena notato qualcosa. Benché Ermione si inghiozzasse disperata col viso nascosto nelle mani, fra le sue dita non si vedeva traccia di lacrime. «Mi-mi dispiace tanto!» disse lei. «Ma proprio non posso sopportarlo!» «Va bene, va bene, ragazza!» La Umbridge la prese per le spalle, la scaraventò sulla poltrona di Cins vuota e si chinò su di lei. «Allora, con chi parlava Potter poco fa?» «Ecco!» balbettò Ermione, sempre con il volto tra le mani. «Beh, tentava di parlare col professor Silente!» Ron si immobilizzò e sgranò gli occhi. Ginni smise lì a tentare ai piedi della serpeverde, e perfino Luna parve vagamente stupita. Per fortuna la Umbridge e i suoi compari erano troppo concentrati su Ermione per notare quei segni sospetti. «Silente!» sussurrò avida l'Umbridge. «Sapete dove si trova, allora?» «Beh, no!» singhiozzò Ermione. «Abbiamo provato al paiolo magico e ai tre manici di scopa e anche alla testa di porco!» «Piccola idiota!» «Silente non può stare in un locale pubblico con tutto il ministero sulle sue tracce!» urlò l'Umbridge, la delusione incisa in ogni piega del viso flaccido. «Ma dovevamo dirgli una cosa importante!» balbettò Ermione, le mani ancor più serrate sul viso. Non capì Erri per nascondere le lacrime, ma la loro mancanza. «Che cosa?» chiese l'Umbridge con un repentino guizzo di interesse. «Cos'è che volevate dirgli?» «Volevamo dirgli che è pronta!» singhiozzò Ermione. «Che cosa?» l'Umbridge la afferrò di nuovo per le spalle e la rollò. «Cos'è che è pronto, ragazza?» «La... l'arma segreta!» «Arma?» Gli occhi dell'Umbridge sembravano pronti a schizzarle fuori dalle orbite. «Avete costruito un'arma? Da usare contro il ministero? Su ordine di Silente, giusto?» «S... sì!» ansimò Ermione. «Ma lui se n'è andato prima che fosse pronta e... ora che l'abbiamo finita non... non riusciamo a trovarlo!» «Che arma è?» chiese brusca l'Umbridge, le dita tozze affondate nelle spalle di Ermione. «Non... non capiamo bene come funziona!» rispose Ermione, tirando su col naso fragorosamente. «Abbiamo... abbiamo solo fatto quello che il professore ci ha... detto!» l'Umbridge si raddrizzò, esultante. «Mi accompagni subito nel posto dove è nascosta quest'arma!» ordinò. «A loro non la faccio vedere!» strillò Ermione, sbirciando i serpe verde fra le dita socchiuse. «Non sta a lei fissare le condizioni!» le ricordò secca l'Umbridge. «E va bene!» disse Ermione e riprese a piangere. «Va bene! Li lasci venire! Spero che la usino contro di lei! Anzi, porti pure tutti a vederla! Le starebbe bene! Sì, vorrei proprio che tutta... tutta la scuola sapesse dov'è e come usarla! Così, se lei darà fastidio a qualcuno la sistemeranno al dovere!» Questo parve colpire l'Umbridge, che passò un rapido sguardo sospettoso sulla squadra d'inquisizione. I suoi occhi sporgenti si soffermarono su Malfoy, troppo lento a mascherare l'espressione bramosa che gli era comparsa sul viso. Per un altro lungo istante l'Umbridge contemplò Ermione. «Va bene, mia cara», disse infine in quello che secondo lei era un tono materno. «Andremo soltanto lei e io e anche Potter, eh? In piedi! Professoressa!» intervenne pronto Malfoy. «Qualcuno della squadra dovrebbe venire con lei per sorvegliare!» «Sono un funzionario abilitato dal ministero, Malfoy. Crede che non sappia badare da sola a due ragazzini privi di bacchetta?» replicò secca l'Umbridge. «E per giunta non mi pare consigliabile che quest'arma sia vista da semplici studenti. Restate qui fino al mio ritorno e assicuratevi che nessuno di costoro, accennò a Ron, Ginny, Neville e Luna, riesca a svignarsela. Va bene, a noi Malfoy, immusonito e deluso. «Voi due, andate avanti e fatemi strada!» ordinò l'Umbridge, puntando la bacchetta contro Harry e Ermione. «Muovetevi!» Lotta e fuga Harry non riusciva a capire il piano di Ermione, sempre che ne avesse uno. In corridoio si tenne mezzo passo dietro di lei, sapendo che sarebbe parso alquanto sospetto se avesse avuto l'aria di ignorare dove andavano. Non osava nemmeno tentare di parlarle. La Umbridge li seguiva così da vicino che sentivano il suo ansito sul collo. Ermione li precedette sulle scale e nella sala d'ingresso. Dalle porte chiuse della sala grande filtrava l'eco di un frastuono di voci allegre e a ciottolio di posate. A Harry parve incredibile che a pochi metri da loro ci fossero persone che si godevano la cena e festeggiavano la fine degli esami senza un pensiero al mondo. Ermione varcò decisa il portone di quercia e scese i gradini di pietra, inoltrandosi nell'aria fragrante della sera. Ormai il sole calava, oltre le cime degli alberi della foresta proibita, e mentre Ermione marciava decisa sul prato, costringendo la Umbridge a trottare per tenerle dietro, le loro lunghe ombre scure li seguirono increspandosi sull'erba, come mantelli. «È nascosta nella capanna di Hagrid?» sussurrò impaziente la Umbridge all'orecchio di Harry. «Certo che no!» rispose Ermione severa. «Hagrid avrebbe potuto azionarla per sbaglio». «Sì, giusto!» La Umbridge annuì con crescente eccitazione. «Sì, avrebbe potuto farlo benissimo, quel babbeo ibrido!» Scoppiò a ridere. Harry controllò a stento l'impulso di voltarsi di scatto e prenderla per la gola. Sentiva la cicatrice pulsare nell'aria dolce della sera, ma il dolore non era ancora lacerante come sarebbe stato se Voldemort avesse sferrato il colpo mortale. «Allora, dov'è?» chiese la Umbridge con una nota di incertezza nella voce quando Ermione puntò verso la foresta. «Là dentro, naturalmente!» rispose Ermione indicando gli alberi avvolti dall'oscurità. Dovevamo tenerla in un posto dove gli studenti non potessero trovarla per caso. «Sì, giusto!» ripetè la Umbridge, ma nella sua voce c'era ansia. «Giusto! Benissimo! Dunque, voi due camminate davanti a me!» «Possiamo avere la sua bacchetta allora, visto che dobbiamo andare per primi!» le chiese Henry. «Questo è fuori discussione, signor Potter!» replicò mielata la Umbridge, conficcandogliela nella schiena. «Temo che per il ministero la mia vita abbia molto più valore della vostra!» Quando raggiunsero la frescura umbrosa dei primi alberi, Henry tentò di intercettare lo sguardo di Ermione. Addentrarsi nella foresta, senza bacchetta, gli sembrava più temerario di qualunque altra cosa avessero fatto quella sera. Ma Ermione si limitò a scoccare alla preside un'occhiata sprezzante e si inoltrò fra gli alberi così svelta che le gambe corte della Umbridge facevano fatica a tenere il passo. «È molto lontano?» chiese la Umbridge mentre i rovi le strappavano la veste. «Naturalmente!» rispose Ermione. «L'abbiamo nascosta bene!» I timori di Henry aumentarono. Ermione non aveva preso il sentiero che portava da Gropp, ma quello che tre anni prima lo aveva condotto alla tana del mostruoso Aragog. Quella volta Ermione non c'era e Henry era sicuro che ignorasse verso quale pericolo li stava guidando. «Sei sicura che sia la strada giusta?» le chiese in modo esplicito. «Altro che!» rispose Ermione decisa, aprendosi un varco nel sottobosco e facendo una quantità di rumore che a lui parve superflua. Dietro di loro sentirono la Umbridge inciampare su un alberello caduto. Nessuno dei due si fermò ad aiutarla. Ermione continuò a camminare, voltando appena la testa per gridare «Ancora un po' più avanti!» «Abbassa la voce!» le sussurrò Henry, accelerando il passo per tenerle dietro. «Potrebbe esserci qualunque creatura in ascolto!» «Voglio che ci sentano!» replicò lei a voce bassa, mentre la Umbridge arrancava rumorosamente alle loro spalle. «Vedrai!» Proseguirono per quella che parve un'eternità, finché si trovarono così immersi nella foresta che il folto baldacchino di foglie bloccava completamente la luce. E ancora una volta Henry provò la sensazione di essere osservato da occhi invisibili. «Quanto manca ancora?» domandò rabbiosa la Umbridge alle sue spalle. «Non molto!» gridò Ermione, emergendo in una radura umida e buia. «Ormai siamo vicini!» Una freccia attraversò l'aria sibilando per conficcarsi con un suono sordo e minaccioso in un tronco sopra la sua testa. Un improvviso scalpitare di zoccoli fece rimbombare l'aria e tremare il terreno. La Umbridge lanciò un grido e spinse Henry davanti a sé come scudo. Con uno strattone lui si liberò e si guardò attorno. Erano circondati da una cinquantina di centauri, tutti con l'arco levato e puntato su di loro. Lentamente i tre indietreggiarono verso il centro della radura. La Umbridge farfugliava cose strane e piagnucolava atterrita. Henry lanciò un'occhiata a Ermione. La vide sorridere trionfante. «Chi sei?» chiese una voce. Henry guardò a sinistra. Magorian, il centauro Bruno, era uscito dal cerchio e veniva verso di loro, anche lui con l'arco teso. Alla destra di Henry, la Umbridge alzò con mano tremante la bacchetta contro il centauro, senza smettere di piagnucolare. «Ti ho chiesto chi sei, umana!» ripetè Brusco Magorian. «Sono Dolores Umbridge!» La voce della Umbridge era acuta, terrorizzata. «Sotto segretario anziano del ministro della magia, preside e inquisitore supremo di Hogwarts!» «Sei del ministero della magia?» ripetè Magorian, mentre parecchi centauri scalpitavano inquieti. «Proprio così!» disse la Umbridge con voce ancora più acuta. «Perciò dovete stare molto attenti. Secondo le leggi emanate dall'ufficio regolazione e controllo delle creature magiche, ogni attacco di ibrido a un umano...» «Come ci hai chiamato?» gridò un centauro nero dall'aspetto selvaggio che Henry riconobbe subito per Bane. Si levarono mormorii rabbiosi e molti archi si tesero ancora di più. «Non li chiami così!» sussurrò furiosa Ermione, ma la Umbridge non le diede ascolto. Sempre puntando con mano tremante la bacchetta su Magorian, continuò. «La legge 15b recita chiaramente che ogni attacco di creature magiche, di presumibile intelligenza quasi umana, perciò considerate responsabili delle proprie azioni...» «Intelligenza quasi umana!» urlò Magorian, mentre Bane e molti altri gridavano e scalpitavano rabbiosi. «Non insultarci, umana! La nostra intelligenza, e di questo siamo grati, è di gran lunga superiore alla vostra! Che cosa ci fate nella nostra foresta?» tuonò il centauro grigio dal viso duro che Henry e Ermione avevano già incontrato nella loro ultima visita. «Perché siete venuti?» «La vostra foresta?» sbottò la Umbridge, tremando ora non solo di paura, ma anche, così pareva, di indignazione. «Vi ricordo che vivete qui solo perché il Ministero della Magia vi ha concesso alcune aree!» Una freccia le volò così vicino che si impigliò nei suoi capelli color topo. Con un urlo lacerante, la Umbridge si portò di scatto le mani alla testa, e i centauri esplosero in grida di approvazione e risate rauche, il suono delle loro selvagge risate, simile a nitriti, e cheggiò nella penombra della radura, e la vista degli zoccoli scalpitanti, era davvero terribile. «Allora, umana, di chi è questa foresta?» urlò Bane. «Sudici ibridi!» urlò dirimando la Umbridge, le mani ancora strette attorno alla testa. «Animali! Bestie! Stia zitta!» strillò Ermione, ma troppo tardi. La Umbridge aveva già puntato la bacchetta contro Magorian, gridando «Incarceramos!». Improvvisamente, funi simili a grossi serpenti scaturirono dal nulla e si avvolsero attorno al centauro, bloccandogli le braccia. Magorian lanciò un verso rabbioso e si impennò, tentando di liberarsi, e i suoi compagni si buttarono alla carica. Harry agguantò Ermione e la scaraventò giù, premendole il viso a terra. Conobbe un momento di puro terrore, mentre gli zoccoli rimbombavano attorno a lui, ma i centauri, lanciando urla furiose, li aggirarono o li scavalcarono con un balzo. «No!» sentì strillare la Umbridge. «No! Sono sottosegretario anziano! Non potete! Lasciatemi! Bestie! No!» Harry vide un lampo di luce rossa e capì che lei doveva aver tentato di schiantarne qualcuno. Poi la sentì gridare ancora più forte. Alzando di poco la testa, vide che Bain l'aveva presa alle spalle, sollevandola di peso, e lei si contorceva, urlando atterrita. La bacchetta le sfuggì di mano e cadde. Il cuore di Harry fece un balzo. «Se fosse riuscito a prenderla!» Ma mentre tendeva la mano per afferrarla, uno zoccolo calò sulla bacchetta e la spezzò di netto. «Ora!» ruggì una voce all'orecchio di Harry, e un attimo dopo un robusto braccio peloso lo afferrò e lo rimise in piedi. Anche Ermione era stata tirata su. Al di sopra dei dorsi e delle teste sussultanti e multicolori dei centauri, Harry vide Bain sparire fra gli alberi trascinando con sé la Umbridge, le cui urla risuonarono sempre più attutite e lontane, finché furono sommerse dal tambureggiare degli zoccoli attorno a loro. «E questi?» chiese il severo centauro grigio che teneva stretta Ermione. «Sono giovani!» disse una lenta voce triste alle spalle di Harry. «Noi non attacchiamo i puledri!» «Sono stati loro a portarla qui, Ronan!» replicò il centauro che bloccava Harry. «E non sono tanto giovani! Questo è quasi un uomo!» scrollò Harry tenendolo per il colletto. «Per piacere!» disse Ermione senza fiato. «Vi prego, non fateci del male! Noi non la pensiamo come lei! Non lavoriamo per il Ministero della Magia! Siamo venuti qui perché speravamo che ci avreste liberato di lei!» Harry capì all'istante che Ermione aveva appena commesso un errore fatale. Il centauro grigio che la teneva stretta gettò indietro la testa e scalpitò furioso urlando. «Vedi, Ronan, hanno già tutta l'arroganza della loro specie! Dunque speravi che avremmo fatto il lavoro sporco per voi, giovane e umana? Che vi avremmo fatto da servi, scacciando i vostri nemici come cani obbedienti?» «No!» strillò inorridita Ermione. «Vi prego, non volevo dire questo. speravo solo che ci aiutaste!» «Di male in peggio! Noi non aiutiamo gli umani!» ringhiò il centauro che teneva Harry, impennandosi al punto che i piedi del ragazzo si staccarono per un attimo da terra. «Noi siamo una razza a parte e fieri di esserlo! Non vi permetteremo di andare via di qui a vantarvi di averci fatto eseguire i vostri ordini!» «Non diremmo mai una cosa del genere!» urlò Harry. «Sappiamo che non l'avete fatto perché lo volevamo noi!» ma nessuno gli diede ascolto. «Sono venuti senza essere invitati!» urlò un centauro barbuto in fondo al branco. «Devono pagare le conseguenze!» Un coro di approvazione accolse le sue parole e un esemplare dal manto bigio gridò. «Che raggiungono la donna!» «Avete detto che non avreste attaccato gli innocenti!» urlò Hermione, adesso piangendo sul serio. «Non vi abbiamo fatto niente di male! Non vi abbiamo minacciato e non abbiamo usato la bacchetta! Vogliamo solo tornare a scuola! Vi prego! Lasciateci andare!» «Non siamo tutti come il traditore Firenze, giovane e umana!» sbraitò il centauro grigio, suscitando ruggenti nitriti di approvazione. «Forse ci credete graziosi cavalli parlanti? Noi siamo un popolo antico! Non sopportiamo le invasioni e gli insulti dei maghi! Non accettiamo le vostre leggi! Non riconosciamo la vostra superiorità! Noi siamo!» Ma che cos'altro fossero i centauri non lo sentirono, perché in quel momento, ai margini della radura risuonò uno schianto così fragoroso che tutti, Harry, Hermione e i cinquante e più centauri, si voltarono di scatto. Le mani che stringevano Harry lo lasciarono ricadere a terra e scattarono verso l'arco e la faretra. Anche Hermione era finita a terra e Harry si affrettò a raggiungerla, mentre due tronchi massicci si scostavano con lentezza minacciosa e nel varco compariva la figura mostruosa, Tigrop il gigante. I centauri più vicini indietreggiarono e urtarono contro quelli dietro di loro. In un istante la radura si trasformò in una foresta di archi e frecce, tutti puntati in alto contro l'enorme faccia grigiastra che incombeva su di loro sotto il fitto baldacchino di rami. La bocca storta di Gropp era stolidamente aperta. Nella luce incerta videro baluginare i denti giallastri grossi come mattoni. Gli ottusi occhi color fango si socchiusero, scrutando le creature ai suoi piedi. Una scia di funi spezzate gli partiva dalle caviglie. La bocca del gigante si aprì ancora di più. «Hugger!» Harry non sapeva che cosa volesse dire Hugger, né che lingua fosse, e nemmeno gliene importava. Stava fissando i piedi di Gropp, grossi praticamente quanto lui. Hermione gli si aggrappò a un braccio. I centauri tacevano e osservavano l'enorme testa rotonda girare prima da una parte e poi dall'altra, come se cercasse qualcosa che gli era caduto. «Hugger!» ripetè a voce più alta. «Vattene, gigante!» gridò Magorian. «Non sei il benvenuto fra noi!» Ma queste parole non parvero impressionare Gropp. Si curvò, gli archi dei centauri tornarono a tendersi e urlò. «Hugger!» Qualche centauro aveva l'aria preoccupata. Hermione trattenne il fiato. «Hugger!» sussurrò. «Credo che voglia dire Hagrid!» In quel momento Gropp li vide. I soli due umani in un mare di centauri. Calò la testa di un'altra trentina di centimetri e li fissò assorto. Henry sentì Hermione tremare mentre il gigante spalancava di nuovo la bocca e tuonava «Hermi!» «Santo cielo!» gemette Hermione che sembrava lì lì per svenire, stringendo il braccio di Henry con tanta forza da fermargli il sangue. «Se l'è ricordato!» «Hermi!» ruggì Gropp. «Dove?» «Hugger!» «Non lo so!» squittì lei atterrita. «Mi dispiace Gropp, non lo so!» «Gropp vuole!» «Hugger!» Una mano immensa calò verso terra. Hermione urlò, indietreggiò di scatto e finì lunga distesa. Privo com'era di bacchetta, Henry si preparò a usare pugni, calci e morsi o qualunque altra cosa, mentre la mano si abbassava verso di lui e strada facendo stendeva un centauro candido come la neve. Era quello che gli altri stavano aspettando. Le dita tese di Gropp erano a meno di mezzo metro da Henry, quando più di cinquanta frecce si bilarono verso il gigante e gli si conficcarono nella faccia, facendolo ululare di dolore e di rabbia. Si raddrizzò di scatto, strofinandosi il volto con le mani enormi, spezzando le frecce, ma spingendo le punte ancora più in profondità. Urlò di dolore e pestò i piedi, e i centauri si dispersero, portandosi fuori tiro. Gocce di sangue grosse come ciottoli piovero su Henry mentre aiutava Hermione a rimettersi in piedi, e tutti e due correvano a perdifiato al riparo degli alberi. Una volta al sicuro si voltarono a guardare. Gropp, accecato dal sangue che gli scorreva sulla faccia, brancolava in direzione dei centauri che arretravano disordinati, galoppando verso gli alberi dall'altra parte della radura. Henry e Hermione videro il gigante lanciarsi al loro inseguimento con un altro ruggito furioso, abbattendo un altro po' di piante. «Oh no!» disse Hermione, tremando tanto che le cedettero le ginocchia. «Oh, è stato terribile, e potrebbe ucciderli tutti!» «Non mi turberebbe più di tanto, a essere sincero», commentò Henry amareggiato. Lo scalpitare dei centauri e i tonfi del gigante diventarono sempre più deboli, mentre Henry tendeva l'orecchio sentì una fitta lancinante attraversargli la cicatrice, e un'ondata di terrore lo sommerse. Avevano perso tanto tempo, e ora salvare Sirius era ancora più difficile di quando aveva avuto la visione. Non solo aveva perso la bacchetta, ma erano bloccati e per giunta a piedi in mezzo alla foresta proibita. «Un piano fantastico!» si bilò a Hermione, più che altro per sfogare la collera. «Proprio eccezionale! E adesso che cosa facciamo? Dobbiamo tornare al castello!» mormorò esausta Hermione. «Quando arriveremo, Sirius probabilmente sarà morto!» sbottò Henry, tirando un calcio a un albero vicino. Sopra di lui esplose un cinguettio acuto, e alzando lo sguardo vide un asticello furioso agitare le lunghe dita al rametto. «Beh, non possiamo fare niente senza bacchette!» disse avvilita Hermione, rialzandosi a fatica. «E comunque, Henry, come pensavi di arrivare fino a Londra esattamente?» «Proprio quello che ci chiedevamo anche noi!» disse una voce familiare alle sue spalle. Distinto, Henry e Hermione si avvicinarono l'uno all'altra e scrutarono fra gli alberi. Ron uscì dall'ombra, con Ginny, Neville e Luna, che si affrettavano alle sue spalle. Avevano tutti l'aria un po' sciupata. Su una guancia di Ginny spiccavano diversi lunghi graffi. L'occhio destro di Neville era diventato un bozzo purpureo. Il labbro di Ron sanguinava più che mai, ma anche piuttosto soddisfatta. «Allora», disse Ron, scostando un ramo che gli bloccava la strada e restituendo a Henry la bacchetta, «che cosa avevi in mente?» «Come avete fatto a liberarvi?» chiese sballordito a Henry, riprendendola. «Un paio di schiantesimi, un incantesimo di disarmo, e Neville ha tirato fuori una fattura impediente niente male», rispose Ron disinvolto e rese la bacchetta anche a Ermione. «Ma Ginny è stata il massimo. Ha sistemato Malfoy con un maleficio muco volante, assolutamente superbo. Aveva la faccia coperta di grossi cosi svolazzanti. Comunque vi abbiamo visto entrare nella foresta e vi abbiamo seguito. Che fine ha fatto l'Humbridge? L'hanno portata via», disse Henry, «un branco di centauri. E vi hanno lasciato andare?» chiese Ginny sballordita. «Non volevano, ma poi è arrivato Gropp e li ha inseguiti», rispose Henry. «Chi è Gropp?» chiese l'una interessata. «Il fratellino di Hagrid», rispose pronto Ron. «Ma lasciamo perdere adesso. Henry, cosa hai scoperto nel camino? Tu sai chi? Ha preso Sirius o...» «Sì», rispose Henry, mentre la cicatrice tornava a bruciare di dolore. «Sono sicuro che è ancora vivo, ma non so come fare a raggiungerlo in tempo». «Tutti tacquero, preoccupati. Il problema sembrava insormontabile». «Beh, dovremo volare, no?» disse l'una col tono più pratico che Henry le avesse mai sentito. «Allora», la interruppe lui irritato, «prima di tutto non dovremo fare un bel niente. Se in quel dovremo, ti ci metti anche tu. Secondo, Ron è l'unico ad avere una scopa che non sia sorvegliata da un troll. Quindi...» «Io ce l'ho una scopa», disse Ginny. «Sì, ma tu rimani qui», ribatté Ron. «Chiedo scusa, ma quello che succede a Sirius mi sta a cuore quanto a te», esclamò lei, sporgendo la mascella in un modo che ricordò straordinariamente Fred e George. «Tu sei troppo...» cominciò Henry, ma Ginny lo interruppe decisa. «Avevi tre anni meno di me, quando hai lottato contro tu sai chi per la pietra filosofale. Ed è grazie a me che Malfoy è bloccato nell'ufficio della Umbridge da enormi caccole volanti». «Sì, ma facciamo tutti parte dell'Es», gli ricordò a voce bassa Neville. «Era per prepararci a combattere tu sai chi, no? E questa è la prima occasione di fare davvero qualcosa. O era solo un gioco?» «No, certo che no», rispose Henry nervoso. «Allora verremo anche noi», concluse Neville con semplicità. «Vogliamo aiutarti». «Giusto», annuì Luna sorridendo allegra. Henry scambiò un'occhiata con Ron. Sapeva che l'amico la pensava esattamente come lui. Se per tentare di salvare Sirius avesse dovuto farsi accompagnare da un qualsiasi altro membro dell'Es, non avrebbe scelto né Ginny né Neville né Luna. «Eh va bene, non ha importanza comunque», disse scoraggiato. «Tanto non sappiamo come arrivare a Londra». «Mi pareva che questo punto fosse risolto», lo interruppe Luna con la sua calma esasperante. «Volando!» «Senti», disse Ron controllandosi a stento, «forse tu sei capace di volare senza una scopa, ma noi non possiamo farci spuntare le ali». «Si possono usare altri mezzi oltre la scopa?» replicò tranquilla Luna. «Sì, magari il riccio cornuto o come diavolo si chiama», sbottò Ron. «Il riccio corno schiattoso non vola», rispose Luna con tutta la sua dignità. «Ma loro sì, e secondo Hagrid sono abilissimi nel portare a destinazione i loro cavalieri». Henry si voltò di scatto. Immobili fra gli alberi, gli occhi bianchi che lucicavano spettrali, due testral sembravano seguire la conversazione, come se capissero ogni parola. «Sì!» bisbigliò Henry avanzando verso di loro. I testral scossero la testa da rettili, scrollando la lunga criniera nera, e Henry tese una mano per accarezzare il collo lucente di quello più vicino, come aveva fatto a trovarli brutti. «Sono quelle bestie pazzesche che assomigliano a cavalli», chiese incerto Ron, fissando un punto appena a sinistra del testral che Henry stava accarezzando. «Queli che non puoi vedere se prima non hai visto morire qualcuno?» «Sì», rispose Henry. «Quanti sono?» «Soltanto due». «Beh, ce ne servono tre», disse Hermione ancora piuttosto scossa, ma comunque decisa. «Quattro», la corresse Ginni accigliata. «Credo che siamo in sei, veramente», osservò calma Luna. «Non dire sciocchezze, non possiamo andare tutti», protestò Henry. «Sentite, voi...» e indicò Neville, Ginni e Luna. «Voi tre non siete coinvolti, non...» Esplosero altre proteste, e la cicatrice gli diede una nuova fitta, più dolorosa. Ogni momento perduto era prezioso, non aveva tempo per discutere. «Va bene, fate come volete», disse Brusco, «ma se non arrivano altri testral non potrete...» «Oh, arriveranno», gli assicurò Ginni, rivolta come Ron nella direzione sbagliata, a quel che pareva convinta di guardare i cavalli. «Cosa te lo fa credere?» «Nel caso non te ne sia accorto, tu e Hermione siete coperti di sangue, e sappiamo che per attirarli Hagrid usa la carne cruda. Probabilmente è per questo che sono arrivati». Henry sentì qualcosa tirargli delicatamente una manica, e abbassando lo sguardo vide il testral più vicino leccare il sangue di Gropp, che la inzuppava. «D'accordo», disse colpito da un'idea luminosa. «Intanto io e Ron prendiamo questi due e andiamo avanti, mentre Hermione rimane qui con voi per richiamare altri testral». «Io non resto qui», protestò Hermione furiosa. «Non ce n'è bisogno», disse Luna sorridendo. «Guardate, ecco che ne arrivano altri. Dovete puzzare davvero». Henry si voltò. Almeno sei o sette testral avanzavano fra gli alberi, le grandi ali coriacee, chiuse e strette accanto al corpo, gli occhi lucenti nell'oscurità. Ormai non aveva più scuse. «E va bene», si arrese furibondo. «Sceglietene uno e salite!» L'Ufficio Misteri Henry affondò le mani nella criniera del testral più vicino, salì su un ceppo lì accanto e montò goffamente sul dorso setoso dell'animale. Questo non si lamentò, ma voltò la testa, mostrando i denti e tentando di continuare a leccargli avidamente la veste. Dopo aver scoperto che era possibile assicurare le ginocchia dietro la giuntura dell'ala, si girò a controllare come se la cavavano gli altri. Neville si era issato sul testral accanto al suo e cercava di passare una delle sue corte gambe sul dorso della creatura. Luna era già pronta, seduta all'amazzone, e si rassettava la veste come se cavalcasse testral tutti i giorni. Invece Ron, Ermione e Ginny se ne stavano ancora impalati, a bocca aperta. «Che cosa c'è?» chiese Henry. «Come facciamo a salirci?» balbettò Ron. «Se non possiamo vederli!» «Oh, è facile!» disse Luna, smontò servizievole dal suo testral e andò verso di loro. «Coraggio!» Uno alla volta li condusse verso gli altri testral e li aiutò a salire in groppa. Avevano tutti e tre un'aria estremamente nervosa, mentre Luna guidava le loro mani e le faceva affondare nella criniera con la raccomandazione di tenersi forte, prima di tornare sulla sua cavalcatura. «È pazzesco!» mormorò Ron, muovendo cauto la mano libera sul collo del testral. «Pazzesco! Se almeno potessi vederlo!» «Meglio per te che rimanga invisibile!» commentò cupo Henry. «Pronti?» Tutti annuirono e irrigidirono le ginocchia sotto le vesti. «Bene!» abbassò lo sguardo sulla lucida testa nera del suo testral e deglutì. «Ministero della magia, ingresso dei visitatori, Londra allora!» disse incerto. «Se sai dov'è!» Per un attimo l'animale rimase immobile. Poi, con un movimento sinuoso che per poco non disalcionò Henry, le ali si spalancarono. Il testral si acquattò lentamente per scattare verso l'alto, quasi in verticale, costringendo Henry ad aggrapparsi con braccia e gambe per non scivolare all'indietro sulla groppa ossuta. Quando emersero d'impeto oltre i rami più alti e si librarono nel tramonto rosso sangue, chiuse gli occhi e premette il viso contro la morbida criniera. Non aveva mai viaggiato a una tale velocità. Il testral sfrecciò sopra il castello battendo appena le grandi ali. L'aria ormai fresca schiaffeggiava il viso di Henry. Stringendo gli occhi contro il vento impetuoso, si voltò indietro e vide i suoi cinque compagni curvi sul collo delle loro cavalcature per proteggersi dalla sua scia. In un baleno si lasciarono alle spalle Hogwarts e Hogsmeade. Sotto di loro scorrevano montagne e burroni. Mentre la luce del giorno svaniva, Henry scorse i piccoli grappoli di luce dei villaggi e poi una strada tortuosa sulla quale una sola auto arrancava tra le colline. «È proprio strano!» Astento sentì il grido di Ron da qualche parte dietro di lui e si chiese che effetto facesse sfrecciare a quell'altezza a cavallo del nulla. Calò il crepuscolo. Il cielo aveva assunto uno sfumato colore violetto, trapunto di piccole stelle d'argento, e ormai solo le luci delle città babbane davano il senso dell'altezza e della velocità a cui viaggiavano. Le braccia strette attorno al collo del testral, Henry avrebbe voluto fare ancora più presto. Quanto tempo era passato da quando aveva visto Sirius nell'ufficio misteri? Quanto ancora sarebbe riuscito a resistere? Sapeva soltanto che il suo padrino non aveva ancora obbedito a Voldemort e non era morto, perché di sicuro entrambi questi eventi gli avrebbero trasmesso in corpo l'esultanza o la furia di Voldemort, facendo bruciare di dolore la cicatrice come la notte dell'attacco al signor Weasley. Continuarono a volare nell'oscurità sempre più fitta. Henry aveva il volto congelato e stringeva così forte i fianchi del testral da avere le gambe intorpidite, ma non osava allentare la presa per paura di scivolare. Il rombo dell'aria lo assordava e il freddo vento notturno gli aveva seccato e ghiacciato la bocca. Non sapeva quanta strada avessero percorso, poteva solo affidarsi alla sua cavalcatura, che continuava a sfrecciare a folle velocità nella notte, muovendo appena le ali. «Se fossero arrivati troppo tardi! È ancora vivo! Sta ancora lottando! Lo sento! Se Voldemort avesse capito che Sirius non si sarebbe piegato! Lo saprei!» Lo stomaco di Henry sussultò. Il testral aveva puntato di colpo il muso verso terra, facendolo scivolare in avanti sul lungo collo. finalmente scendevano. Gli parve di sentire uno strillo alle sue spalle e si voltò sfidando il pericolo, ma non vide precipitare nessuno. Probabilmente il brusco cambiamento di direzione li aveva spaventati quanto lui. Ed ecco che brillanti luci arancioni, sempre più grandi, li circondavano da ogni lato. Videro alti palazzi, fiumi di lampioni accesi simili a luminosi occhi di insetto, i riquadri giallo pallido delle finestre. D'un tratto, o così parve, il marciapiede balzò verso di loro. Henry si aggrappò al testral con tutte le sue forze, preparandosi all'impatto. Ma l'animale toccò terra con la leggerezza di un'ombra, e lui scivolò giù dal suo dorso e scrutò la strada, dove il cassonetto traboccante stava ancora accanto alla malridotta cabina telefonica, entrambi scoloriti dalla piatta luce arancione dei lampioni. Ron atterrò poco lontano e russolò giù dalla cavalcatura. Mai più, disse rialzandosi a fatica. Fece per allontanarsi dal testral, ma non sapendo dov'era, andò a urtare contro il suo posteriore, rischiando di cadere di nuovo. Mai, mai più! È stata la peggiore! Ermione e Ginni arrivarono al suo fianco. Entrambe smontarono con più grazia di Ron, ma con la stessa espressione di sollievo nel trovarsi di nuovo sulla terraferma. Neville saltò giù tremando, e Luna scivolò lungo il fianco del testral con fluida eleganza. «E adesso dove andiamo?» chiese a Harry con educato interesse, come se si trattasse di una gita di piacere. «Da questa parte!» rispose lui. Dopo aver assestato al suo testral una rapida pacca di conoscente, Harry precedette i compagni verso la vecchia cabina telefonica e la aprì. «Dentro!» li incitò, vedendoli esitare. Ron e Ginni obbedirono. Ermione, Neville e Luna si strizzarono dietro di loro. Harry lanciò un'ultima occhiata ai testral, impegnati a rovistare nel cassonetto, in cerca di cibo putrefatto, e poi anche lui si infilò nella cabina. «Il più vicino al ricevitore, faccia il numero 62442!» gridò. Ron esegui, e per riuscirci dovette torcere il braccio. Mentre il disco del telefono tornava a posto ronzando, nella cabina risuonò la solita fredda voce femminile. «Benvenuti al Ministero della Magia. Per favore, dichiarate il vostro nome e il motivo della visita. Harry Potter, Ron Weasley, Ermione Granger, elencò rapido Harry, Ginny Weasley, Neville Longbottom, Luna Lovegood. Siamo qui per salvare qualcuno, a meno che il Ministero ci riesca prima di noi!» «Grazie», disse la fredda voce femminile. «Il visitatore è pregato di raccogliere la targhetta e assicurarla sul vestito». Mezza dozzina di spille rotolarono fuori dalla fessura di metallo, che di solito sputava le monete di resto. Ermione le prese e le passò in silenzio a Harry sopra la testa di Ginny. Lui guardò la prima. Sopra c'era scritto «Harry Potter, missione di salvataggio». «Il visitatore del Ministero ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione e di presentare la bacchetta perché sia registrata al Banco della Sorveglianza, all'estremità dell'atrio». «Bene», gridò Harry mentre la cicatrice ricominciava a pulsare. «Adesso possiamo muoverci?». Il pavimento della cabina vibrò e il marciapiede scivolò al di sopra delle pareti di vetro. I test tra la spazzini sparirono dalla vista. Le tenebre si chiusero sopra le teste dei ragazzi, mentre con un sordo rumore raschiante calavano nelle viscere del Ministero della Magia. Una fessura di soffusa luce dorata toccò i loro piedi e si allargò, alzandosi fino a illuminarli completamente. Harry piegò le ginocchia e, levando la bacchetta per quanto poteva, stretto com'era, scrutò attraverso il vetro per vedere se qualcuno li stava aspettando. L'atrio, però, sembrava deserto. La luce era più tenue che di giorno. I camini incassati nei muri erano spenti, ma quando l'ascensore si fermò, senza un sussulto, Harry vide che i simboli dorati continuavano a muoversi sinuosi sul soffitto blu scuro. «Il Ministero della Magia vi augura una piacevole serata», disse la voce femminile. La porta della cabina si spalancò. Harry russolò fuori, seguito a ruota da Neville e Luna. L'unico suono era lo scroscio della fontana dorata, dove l'acqua zampillava dalle bacchette della strega e del mago, dalla freccia del centauro, dal cappello del goblin e dalle orecchie dell'elfo domestico, ricadendo nella vasca. «Venite!» sussurrò Harry, precedendoli di corsa oltre la fontana e verso la scrivania, ora vuota, dove l'ultima volta era seduto il guardiamago che aveva pesato la sua bacchetta. Era sicuro che ci dovesse essere qualcuno di guardia e altrettanto sicuro che la sua assenza fosse un brutto segno. L'inquietudine crebbe quando varcarono i cancelli dorati e raggiunsero gli ascensori. Chiamò il più vicino, premendo il pulsante «giù». Arrivò quasi subito e la grata si aprì con un gran fragore. Harry schiacciò il pulsante numero nove. La grata si richiuse con un tonfo e l'ascensore cominciò a scendere stridendo e sferragliando. Il giorno che l'ha venuto col signor Weasley non si era reso conto di tutto quel rumore. Era certo che avrebbe messo in allarme gli addetti alla sorveglianza nell'edificio. Eppure, quando si fermarono, la fredda voce femminile annunciò «Ufficio misteri!» e la grata mostrò loro un corridoio deserto. L'unica cosa a muoversi erano le fiamme delle torce più vicine, che baluginavano nella corrente d'aria provocata dall'ascensore. Harry guardò la nuda porta nera davanti a lui. Finalmente, dopo averla sognata per tanti mesi, era lì. «Andiamo!» bisbigliò. Si inoltrò nel corridoio, seguito da luna che si guardava attorno a bocca aperta. «Ora sentite!» disse Harry, fermandosi a un paio di metri dalla porta. «Forse... beh, qualcuno dovrebbe restare qui, di guardia.» «E come facciamo ad avvertirti in caso di pericolo?» chiese Ginny, inarcando le sopracciglia. «Potresti essere chissà dove!» «Noi veniamo con te, Harry!» disse Neville. «Avanti!» esclamò Ron. Harry non avrebbe voluto portarli tutti con sé, ma a quanto pareva non c'era scelta. Si voltò di nuovo verso la porta e la raggiunse, proprio come nel sogno. Quella si spalancò al solo sfiorarla, e lui avanzò, guidando gli altri oltre la soglia. Si trovavano in una grande stanza circolare, tutto era nero, pavimento e soffitto compresi. Nelle pareti nere si susseguivano a intervalli regolari porte nere tutte uguali, prive di contrassegne e di maniglie, e fra l'una e l'altra ardevano grappoli di candele dalle fiammelle azzurrine. La fredda luce tremolante, riflessa nel lucido pavimento di marmo, dava l'impressione di camminare su una pozza di acqua scura. «Qualcuno chiuda la porta!» borbottò Harry. Neville obbedì e Harry subito rimpianse d'averlo detto. Senza la striscia di luce delle torce nel corridoio dietro di loro, la stanza diventò così buia che per un momento le uniche cose visibili furono i gruppi di frementi fiammelle azzurre sulle pareti e il loro spettrare riflesso sul pavimento. In sogno, una volta là dentro, si era sempre diretto verso la porta che aveva di fronte, ma ora ce n'erano almeno una dozzina. Mentre tentava di decidere quale fosse quella giusta, udì un forte rombo e le candele cominciarono a muoversi. La stanza circolare stava ruotando. Hermione gli si aggrappò a un braccio come temendo che anche il pavimento si mettesse a girare. Invece non fu così. Per qualche istante, mentre il moto accelerava, le fiammelle azzurre attorno a loro si confusero fino a somigliare a lunghi tubi al neon. Finché, di colpo com'era iniziato, il rombo si spense e la stanza si fermò. Per un istante Harry non riuscì a vedere altro che le striature azzurre rimaste impresse nelle sue pupille. «Che cosa succede?» chiese Ron spaventato. «Credo che serva non farci ritrovare la porta da dove siamo entrati», rispose Ginny con voce sommessa. Aveva ragione. Ormai riconoscere la porta per tornare indietro era impossibile quanto scorgere una formica sul pavimento nero. E quella che avrebbero dovuto varcare poteva essere una qualunque delle tante attorno a loro. «Come faremo a tornare indietro?» chiese inquieto Neville. «Per ora non ha importanza. replicò Harry, battendo le palpebre nel tentativo di cancellare le striature azzurrine e stringendo con più forza la bacchetta. Prima dobbiamo trovare Sirius». «Non chiamarlo però!» esclamò ansiosa Ermione. Ma Harry non aveva mai avuto meno bisogno del suo consiglio. L'istinto gli suggeriva di fare meno rumore possibile. «Da che parte andiamo allora?» chiese Ron. «Non lo so». Harry deglutì. Nei sogni varcavo la porta in fondo al corridoio degli ascensori ed entravo in una stanza buia. «È questa!» Poi la attraversavo ed entravo in una stanza che scintilla, tipo. «Dobbiamo provarne un po', aggiunse in fretta. Riconoscerò la strada giusta quando la vedrò. Muoviamoci!» Seguito dagli altri andò verso la porta che aveva di fronte. Posò la mano contro la fredda superficie levigata e la spinse, tenendo la bacchetta levata, pronta a colpire. Il battente girò silenzioso sui cardini. Dopo il buio dell'altra stanza, le lampade appese a catene dorate fissate al soffitto facevano sembrare la lunga camera rettangolare molto più luminosa, però non c'erano le luci guizzanti e mobili che Harry aveva visto in sogno. La stanza era vuota, a parte qualche scrivania e un'enorme vasca di cristallo al centro, piena di un liquido verde scuro, abbastanza grande perché potessero nuotarci dentro tutti quanti. Vi galleggiavano pigramente diversi oggetti di un bianco perlaceo. «Che roba è?» sussurrò Ron. «Non saprei», rispose Harry. «Pesci?» mormorò Ginny. «Larve di acquavirius!» esclamò l'una eccitata. «Lo diceva, papà, che il ministero stava allevando...» «No!» disse Hermione. Si fece avanti per scrutare nella vasca attraverso la fiancata. «Sono cervelli!» «Cervelli?» «Sì! Chissà che cosa servono!» Harry le si avvicinò. «Sì! A quella distanza non c'erano dubbi. Luccitavano sinistri, fluttuando nel liquido verde, vagamente simili a cavolfiori viscidi. «Usciamo di qui!» disse Harry. «Non è la stanza giusta! Dobbiamo provare un'altra porta!» «Ma ci sono altre porte anche qui!» obiettò Ron indicando le pareti. Harry si sentì mancare. «Quanto era grande quel posto!» «Nel mio sogno passavo direttamente dalla stanza buia nella seconda!» ribatté. «Meglio tornare lì e riprovarci!» Rientrarono in fretta nella stanza circolare. Adesso, invece delle fiammelle azzurre, negli occhi di Harry erano stampate le forme spettrali dei cervelli. «Aspetta!» ordinò Brusca Ermione a Luna, che stava per chiudere la porta. «Flagramus!» mosse la bacchetta e sul battente si impresse una X fiammeggiante. Appena la porta fu chiusa, si levò di nuovo il boato e di nuovo la parete cominciò a ruotare. Ma fra le strie azzurrine ora spiccava una chiazza rosso-oro, e quando la stanza si fermò la croce fiammeggiante ardeva ancora, indicando la porta che avevano già tentato. «Buona idea!» disse Harry. «Dai, proviamo questa!» Ancora una volta raggiunse la porta che aveva di fronte e la spinse, la bacchetta pronta e gli altri alle calcagna. Quella stanza, illuminata da una luce fioca, era più grande dell'altra e anch'essa rettangolare, però il centro era concavo e formava una cavità rocciosa profonda poco più di sei metri. Si trovavano sulla fila superiore di una serie di panche di pietra che correvano tutt'attorno alle pareti e scendevano sino in fondo alla cavità, ripide come i gradini di un anfiteatro o dell'aula di tribunale dove Harry era stato giudicato dal Wiesengamot. Invece di una sedia con le catene, però, al centro si trovava una piattaforma di roccia sulla quale si ergeva un arco di pietra così antico, rovinato e pieno di crepe che Harry si meravigliò che fosse ancora in piedi. Privo di pareti che lo leggessero, l'arco era chiuso da una logora tenda nera, una specie di velo che, nonostante l'assoluta immobilità dell'aria fredda tutto intorno, fluttuava come se qualcuno l'avesse appena toccato. «Chi è là?» fece Harry scendendo con un salto sulla panca di sotto. Non ebbe risposta, ma il velo continuò a ondeggiare. «Attento!» sussurrò Hermione. Saltando da una panca all'altra, Harry continuò a scendere finché non ebbe raggiunto il fondo della cavità e avanzò piano verso la piattaforma, il suono dei suoi passi che rimbombava nella stanza. Visto dalla sotto, l'arco ogivale sembrava molto più imponente e il velo continuava a muoversi, come se qualcuno fosse appena passato. «Sirius!» disse, ma a bassa voce, adesso che era più vicino. Aveva la stranissima sensazione che dietro il velo ci fosse qualcuno. Stringendo la bacchetta, girò attorno alla piattaforma, ma non c'era nessuno. Vide soltanto l'altro lato del logoro velo nero. «Andiamo!» lo chiamò Hermione, che era scesa fino a metà delle panche. «Questo posto non mi piace, Harry. Vieni!» sembrava spaventata, molto più che nella stanza dei cervelli, ma per Harry l'arco, pur vecchio com'era, aveva una sua bellezza. E quel velo, che continuava a incresparsi, lo incuriosiva. Provava l'impulso sempre più forte di salire sulla piattaforma e attraversarlo. «Andiamo, Harry!» ripeté Hermione, più decisa. «D'accordo!» le rispose, ma senza muoversi. Aveva sentito qualcosa. Dall'altra parte del velo provenivano sussurri fiocchi. Mormorì i sommessi. «Che cosa dite?» chiese, e la sua voce echeggiò contro i sedili di pietra. «Nessuno ha detto niente!» rispose Hermione avvicinandosi. «C'è qualcuno che mormora là dietro?» disse Harry. Si scostò da lei e continuò a fissare accigliato il velo. «Sei tu, Ron? Sono qui, Harry!» disse Ron, sbucando da dietro la piattaforma. «Nessun altro li sente?» insistè Harry, perché i sussurri e i mormorì erano diventati più forti. Senza rendersene conto, aveva messo un piede sulla piattaforma. «Li sento anch'io!» bisbigliò Luna, riraggiunse e fissò la stoffa fluttuante. «C'è qualcuno là dentro!» «Come sarebbe là dentro?» sbottò Hermione in tono più irritato del necessario, saltando giù dall'ultima panca. «Non c'è nessun dentro! È solo un arco! Non c'è spazio per nessuno! Dai, Harry, smettila! Andiamo via!» Lo afferrò per un braccio, ma Harry oppose resistenza. «Harry, siamo venuti qui per Sirius!» esclamò Hermione con voce acuta, esasperata. «Sirius!» ripetè lui, senza staccare lo sguardo ipnotizzato dal velo fluttuante. «Sì!» qualcosa gli scattò nel cervello. «Sirius!» catturato, legato, torturato, e lui stava lì a fissare quell'arco. Arretrò di colpo, distogliendo a fatica gli occhi dal velo. «Andiamo!» disse. «È proprio quello che...» «Oh, insomma, muoviamoci!» tagliò corto Hermione, girando attorno alla piattaforma. Dall'altro lato anche Ginny e Neville erano immobili, gli occhi puntati sul velo. Senza una parola, Hermione prese Ginny per un braccio, Ron acciuffò Neville e insieme li trascinarono verso la panca più bassa, poi si arrampicarono su fino alla porta. «Che cosa credi che fosse?» chiese Harry a Hermione mentre rientravano nella stanza circolare. «Non lo so, ma di sicuro era pericoloso», rispose lei decisa, tracciando una croce fiammeggiante sulla porta che avevano appena attraversato. Ancora una volta la stanza ruotò e si fermò. Harry si avvicinò a un'altra porta a caso e la spinse. Non si mosse. «Che cosa c'è?» chiese Hermione. «È chiusa a chiave», spiegò a Harry, spingendo in vano la porta con tutte le sue forze. «Deve essere questa allora, no?» esclamò Ron eccitato, unendosi a lui nel tentativo di forzarla. «Di sicuro! Allontanatevi!» ordinò Hermione, puntò la bacchetta contro il punto dove sarebbe dovuta esserci la serratura e disse «Allò, mora!» «Niente». «Il coltello di Sirius!» esclamò Harry. Lo cavò da sotto la veste e lo infilò nella fessura fra la porta e la parete. Sotto lo sguardo attento degli altri lo fece scorrere, lo ritrasse e colpì di nuovo la porta con la spalla. Quella rimase chiusa. Harry guardò il coltello e vide che la lama si era fusa. «D'accordo, questa stanza la lasciamo perdere», concluse Hermione. «Ma se fosse quella giusta?» obiettò Ron, fissando la porta con un misto di timore e desiderio. «Impossibile! Nel sogno Harry apriva tutte le porte!» ribatte Hermione, tracciando anche su quella una croce fiammeggiante, mentre Harry si rimetteva in tasca il manico del coltello di Sirius ormai inutile. «Hai idea di che cosa potesse esserci dentro?» chiese Luna curiosa mentre la parete riprendeva a ruotare. «Qualcosa di schiattoso, senza dubbio», rispose Hermione a mezza voce, strappando a Neville una risatina nervosa. La parete si fermò e Harry, con un senso di disperazione crescente, spinse un'altra porta. «È questa!» riconobbe subito la bella luce danzante che brillava diamantina. Mentre i suoi occhi si abituavano allo sfaviglio, vide orologi luccicare da ogni parte, grandi e piccoli, pendole e sveglie, appesi fra le librerie o posati sui tavoli allineati. Un ticchettio costante, ritmico, riempiva la stanza come il suono di migliaia di piccoli piedi in marcia. La luce danzante, simile a uno scintillio di pietre preziose, proveniva da una gigantesca campana di vetro posta su un tavolo al capo opposto della stanza. «Da questa parte!» col cuore in gola, sicuro d'essere sulla pista giusta, li guidò nello stretto corridoio fra i tavoli e puntò, come già in sogno, verso la sorgente della luce, la campana di vetro, alta quasi quanto lui, che sembrava piena di un turbinoso vento luccicante. «Guardate!» esclamò Ginni mentre si avvicinavano, indicando il centro della campana. Un uovo minuscolo, luminoso come una gemma, era sospinto in alto dal vortice di luce. Salendo si dischiuse e ne emerse un colibri, che fu trascinato fino all'imbuccatura del vaso, e quando ridiscese con la corrente, le piume tornarono rade e fradice, e una volta che ebbe raggiunto il fondo della campana era ancora un uovo. «Muovetevi!» ordinò Brusco Henry, perché Ginni sembrava decisa a fermarsi per vedere l'uovo che tornava a trasformarsi in uccello. «Tu ti sei preso tutto il tempo che hai voluto con quello stupido arco!» replicò lei stizzita, ma lo seguì verso la porta, dietro la campana di vetro. «È questa!» disse Henry di nuovo, il cuore che gli batteva così forte e rapido da impedirgli quasi di parlare. «È di qua!» Si voltò a guardarli. Avevano tutti la bacchetta pronta e l'espressione seria, ansiosa. Tornò a fissare la porta e la spinse. Si spalancò. Erano arrivati. Avevano trovato il posto giusto. Una stanza alta come una cattedrale, piena di enormi scaffali, zeppi di piccole polverose sfere di vetro che luccicavano scialbe nella luce diffusa dai candelieri fissati in testa agli scaffali. Come quelle della stanza circolare, anche queste fiammelle ardevano azzurrine. Faceva molto freddo. Henry mosse qualche passo e sbirciò nel corridoio buio che separava due file di scaffali. Non sentì alcun rumore e nemmeno scorse la minima traccia di movimento. «Hai detto che era la fila 97!» sussurrò Ermione. «Sì!» alzò lo sguardo all'inizio della fila più vicina. Sotto le fiammelle azzurre di un braccio carico di candele scintillava un numero argenteo. 53. «Dobbiamo andare a destra, credo!» bisbigliò Ermione strizzando gli occhi verso quello successivo. «Sì, 54!» «Tenete le bacchette pronte!» disse Henry. Avanzarono cauti, guardandosi alle spalle, superando una dopo l'altra file di scaffali, le cui estremità lontane svanivano nell'oscurità quasi totale. Piccole etichette ingiallite erano fissate sotto ogni sfera di vetro. Alcune sfere emanavano uno strano bagliore liquido, altre erano opache e scure, come lampadine fulminate. Superarono la fila 84, 85. Henry aveva le orecchie tese, pronto a cogliere il minimo movimento, ma Sirius poteva essere imbavagliato, svenuto o, disse una voce non richiesta dentro la sua mente, «già morto!» «Lo avrei sentito!» replicò in silenzio, il cuore che gli pulsava in gola. «Lo si raggrupparono all'inizio del corridoio, scrutando l'oscurità. Nessuno!» «E' laggiù in fondo!» disse Henry, la bocca arida. «Da qui non si vede!» Li precedette tra le file torreggianti di sfere di vetro. Alcune brillarono fioche al loro passaggio. «Dovrebbe essere qui vicino!» sussurrò, certo che da un momento all'altro avrebbero visto Sirius accasciato sul pavimento oscuro. «Qui, molto vicino!» «Harry!» disse Hermione esitante, ma lui non le rispose. Aveva la bocca completamente asciutta. «Da qualche parte! Qui!» ripeté. Arrivarono in fondo al corridoio ed emersero nella luce velata di altre candele. Non c'era nessuno, solo polveroso eccheggiante silenzio. «Potrebbe essere...» bisbigliò Henry con voce roca, scrutando il corridoio accanto. «O forse...» controllò quello ancora dopo. «Harry!» ripeté Hermione. «Che cosa c'è?» ringhiò lui. «Non... non credo che Sirius sia qui!» Nessuno parlò. Harry non aveva il coraggio di guardarli. Aveva la nausea. Non capiva perché Sirius non fosse lì. Doveva esserci. Era lì che lui, Harry, lo aveva visto. Percorse in fretta lo spazio in fondo alle file, controllandole una dopo l'altra, superando un corridoio vuoto dopo l'altro. Rifece la strada di corsa in senso inverso, fino a raggiungere i compagni, che lo fissavano a occhi sgranati. Nessun segno di Sirius e nemmeno tracce di lotta. «Harry!» chiamò Ron. «Che cosa c'è?» Non voleva ascoltarlo. Non voleva sentirsi dire che era stato uno sciocco o che era meglio tornare a Hogwarts. Ma una vampa rovente si diffondeva sul suo viso e avrebbe voluto rintanarsi là sotto, al buio, per un bel po', prima di affrontare la luce dell'atrio e gli sguardi di rimprovero degli altri. «Hai visto questa?» disse Ron. «Che cosa c'è?» chiese Harry, ora di nuovo ansioso. Forse era un segno della presenza di Sirius, un indizio. Ma quando ebbe raggiunto Ron a metà della fila 97, lo trovò intento a fissare una delle tante polverose sfere di vetro sullo scaffale. «Che cosa c'è?» ripeté per la quarta volta deluso. «C'è... c'è il tuo nome scritto qui», disse Ron. Harry si avvicinò. Ron indicava una sfera che emanava una luce smorzata, anche se era coperta di polvere e non sembrava fosse stata toccata da anni. «Il mio nome», disse Harry con espressione evacua. «Si avvicinò. Era meno alto di Ron, perciò dovette allungare il collo per leggere l'etichetta sullo scaffale sotto la piccola sfera impolverata. Una calligrafia spigolosa vi aveva scritto una data di più o meno sedici anni prima e subito sotto «S-P-T-A-A-P-V-B-S, signore oscuro e, punto interrogativo, Harry Potter». Harry la fissò perplesso. «Che roba è?» chiese Ron teso. «Che cosa ci fa il tuo nome qua giù?» Lanciò un'occhiata alle altre targhette sullo stesso scaffale. «Il mio non c'è», osservò perplesso, «e nemmeno quello degli altri». «Harry, non credo che dovresti toccarla», disse brusca Hermione, mentre lui tendeva una mano verso la sfera. «Perché no? C'è il mio nome, giusto? È qualcosa che mi riguarda». «Non farlo, Harry», disse all'improvviso Neville. Harry lo guardò. Aveva il viso tondo, lucido di sudore. Pareva che non fosse più in grado di sostenere altre emozioni. «C'è il mio nome», ripeté Harry. Cedendo a un impulso avventato, chiuse le dita sulla superficie polverosa della sfera. Immaginava che fosse fredda. Invece no. Anzi, sembrava che fosse rimasta al sole per ore, come se la tenue luce interna la riscaldasse. Aspettandosi, quasi sperando che succedesse qualcosa di drammatico, qualcosa di eccitante, che dopotutto giustificasse il loro lungo, pericoloso viaggio, tolse la sfera di vetro dallo scaffale e la fissò. Non accadde niente di niente. Gli altri gli si strinsero attorno, fissando la sfera mentre lui la strofinava per liberarla dalla polvere. Poi, proprio alle loro spalle, risuonò una voce strascicata. «Molto bene, Potter. Adesso voltati lentamente, da bravo, e dammela!» Oltre il velo. Forme nere affioravano dal nulla circondandoli, bloccando ogni via di fuga, gli occhi scintillanti attraverso le fessure dei cappucci, dodici bacchette puntate contro di loro. A Ginny sfuggì un gemito di terrore. «Dammela, Potter!» ripeté la voce strascicata di Lucius Malfoy, tendendo la mano, il palmo rivolto verso l'alto. Harry si sentì sprofondare dentro, nauseato. Erano in trappola e per giunta in netto svantaggio numerico. «Dammela!» ripeté per la terza volta Malfoy. «Dov'è Sirius?» chiese Harry. Alcuni mangiamorte scoppiarono a ridere. Una sferzante voce femminile si alzò tra le figure nell'ombra a sinistra di Harry per esclamare trionfante «Il Signore Oscuro sa sempre tutto!» «Sempre!» le fece Ecom Malfoy a voce bassa. «Dammi la profezia, Potter!» «Voglio sapere dov'è Sirius!» «Voglio sapere dov'è Sirius!» gli fece il verso la donna alla sua sinistra. Il cerchio dei mangiamorte si strinse. Ormai erano a meno di un metro da Harry e dei suoi amici. La luce delle loro bacchette quasi lo accecava. «Lo avete catturato!» insiste Harry, ignorando il panico crescente, il terrore contro il quale lottava da quando erano entrati nel corridoio a 97. «È qui! Lo so!» «Il piccino si è svegliato e scoperto che il fogno era velo!» cinguettò la donna, nella parodia disgustosa di una vocetta infantile. Harry sentì Ron muoversi accanto a lui. «Fermo!» gli sussurrò. «Non ancora!» La voce di donna esplose in una risata rauca. «Ma lo sentite! Lo sentite! Dà ordine agli altri marmocchi, come se si illudesse di poter lottare contro di noi!» «Ah, tu non conosci Potter, Bellatrix!» replicò Malfoy dolcemente. «Ha un debole per gli atti eroici. Il Signore oscuro lo sa bene. Adesso dammi la profezia, Potter!» «Lo so che Sirius è qui!» si ostinò Harry, anche se ormai il panico gli serrava il petto e gli toglieva il respiro. «L'avete preso voi!» Altri mangio a morte risero, la donna più di tutti. «È giunta l'ora che tu impari la differenza tra la realtà e i sogni, Potter!» disse Malfoy. «E ora dammi la profezia, o dovremo usare le bacchette!» «Allora usatele!» lo sfidò Harry, levandola su all'altezza del petto. Nello stesso istante le bacchette di Ron, Ermione, Neville, Ginny e Luna si alzarono attorno a lui. La morsa che stringeva lo stomaco di Harry si serrò. Se davvero Sirius non era lì, allora aveva condotto i suoi amici a morte certa, senza motivo, ma i mangiamorte non colpirono. «Dammi la profezia e nessuno si farà del male!» disse gelido Malfoy. Toccò a Harry ridere. «Certo! Io ti consegno questa profezia, giusto? E voi ci lasciate tornare a casa come niente fosse, vero?» Non aveva ancora finito la frase quando la mangiamorte strillò. «Accio profe!» Ma Harry era pronto. «Protego!» urlò prima che lei terminasse e riuscì a non farsi sfuggire la sfera di vetro, bloccandola con la punta delle dita. «Oh, sa come giocare, il piccolo piccolo Potter!» disse la donna, fissandolo con occhi folli attraverso le fessure del cappuccio. «Benissimo, allora!» «Ti ho detto di no!» ruggì Lucius Malfoy. «Se la rompi!» La mente di Harry lavorava spedita. I mangiamorte volevano quella polverosa sfera di vetro di cui a lui non importava nulla. A lui interessava soltanto portare fuori di lì gli amici sani e salvi, evitando che pagassero un prezzo terribile per la sua stupidità. La donna si fece avanti e spinse indietro il cappuccio. Azkaban aveva scavato il viso di Bellatrix Lestrange. Lo aveva smagrito come un teschio, ma era vivo di un bagliore febbrile, fanatico. «Hai bisogno di farti convincere?» chiese il petto che si sollevava e si abbassava rapido. «Benissimo! Prendete la più piccola!» ordinò ai mangiamorte accanto a lei. «Che guardi mentre la torturiamo! Ci penso io!» Harry sentì gli altri stringersi attorno a Ginny e si parò davanti a lei, la sfera stretta al petto. «Se vuoi attaccare uno qualunque di noi!» disse a Bellatrix. «Prima dovrai spaccare questa! E non credo che il tuo capo farà salti di gioia se torni da lui a mani vuote, vero?» La donna rimase immobile, gli occhi inchiodati su di lui, passandosi la punta della lingua sulle labbra sottili. «Allora», proseguì Harry, «di che profezia si tratta?» Non sapeva che altro fare, a parte continuare a parlare. Sentiva tremare il braccio di Neville premuto contro il suo. Sentiva dietro la nuca il respiro affannoso di un altro dei suoi compagni. Poteva solo augurarsi che si stessero spremendo il cervello alla ricerca di un modo per venirne fuori, perché il suo era completamente vuoto. «Di che profezia?» ripete Bellatrix, mentre il ghigno le spariva dal viso. «Stai scherzando, Harry Potter?» «Nient'affatto», rispose Harry, gli occhi che andavano rapidi da un mangiamorte all'altro, cercando un anello debole, una via di fuga. «Perché, Voldemort, ci tiene tanto?» Molti mangiamorte si bilarono. «Tu osi pronunciare il suo nome?» sussurrò Bellatrix. «Certo», rispose Harry, tenendo ben salda la sfera di vetro, aspettandosi da un momento all'altro un nuovo tentativo di strappargela con la magia. «Non ho problemi a dire, Voldemort!» «Ciudi la bocca!» strillò Bellatrix. «Osi pronunciare il suo nome con le tue labbra indegne! Osi profanarlo con la tua lingua da mezzosangue! Osi! Non lo sapevi che è un mezzosangue anche lui?» ribatté Harry, irrefrenabile. Corse un gemito sommesso di Ermione. «Voldemort? Sì, sua madre era una strega, ma il suo papà era un babbano, o vi ha raccontato l'essere un puro sangue?» «Stupefi! No!» Un getto di luce rossa scaturì dalla bacchetta di Bellatrix Lestrange, ma Malfoy lo bloccò e glielo rispedì contro, mandandolo a cozzare contro lo scaffale alla sinistra di Harry. Parecchie sfere di vetro caddero sul pavimento e si rupperò. Due sagome, perlacee come fantasmi, fluide come fumo, sgorgarono dai frammenti di vetro e cominciarono a parlare, le voci che si sovrapponevano l'una all'altra. Si udirono solo brandelli di frasi, mischiarsi alle urla di Malfoy e Bellatrix. «Al solstizio giungerà una nuova!» disse la sagoma evanescente di un vecchio barbuto. «Non attaccate! Abbiamo bisogno della profezia! Ha osato! Osa!» strillò Bellatrix farneticante. «Quel sudicio mezzo sangue!» «Prima dobbiamo prendere la profezia!» latrò Malfoy. «E nessuno verrà dopo!» disse la sagoma di una giovane donna. Le due figure emerse dalle sfere spezzate si dissolsero nell'aria, lasciandosi dietro soltanto le schegge di vetro sul pavimento. Però avevano fatto venire a Henry un'idea. Il problema era comunicarla agli altri. «Non mi avete ancora spiegato che cos'ha di tanto speciale questa profezia?» insisté per guadagnare tempo. Mosse lentamente un piede di lato, cercando quello di uno dei compagni. «Non giocare con noi, Potter!» lo minacciò Malfoy. «Non sto giocando!» replicò Henry, metà del cervello concentrata sulla conversazione, metà sul piede in movimento. Finalmente trovò un altro piede e lo pestò. Alle sue spalle sentì qualcuno trattenere bruscamente il fiato. «Ermione! Che cosa c'è?» bisbigliò lei. «Silente non ti ha mai detto che il motivo per cui hai quella cicatrice era nascosto nelle viscere dell'ufficio misteri!» soghignò Malfoy. «Io cosa?» Per un momento Henry dimenticò completamente il suo piano. «Che cosa c'entra la mia cicatrice?» «Che cosa c'è?» ripeté ansiosa Ermione in un sussurro. «Possibile?» disse Malfoy malignamente divertito. Alcuni mangiamorte scoppiarono di nuovo a ridere. Henry approfittò del chiasso per bisbigliare a Ermione, muovendo appena le labbra. «Spacca gli scaffali!» «Silente non te l'ha mai detto?» continuò Malfoy. «Allora è per questo che non sei arrivato prima, Potter!» Il signore oscuro si chiedeva «Quando dico ora?» «Perché non ti sei precipitato qui non appena ti ha mostrato il posto dove era nascosta? Pensava che la curiosità ti avrebbe spinto a volerla ascoltare con le tue stesse orecchie. Ma davvero?» chiese Henry. Dietro di lui intuì più che sentire Ermione trasmettere il messaggio agli altri e continuò a parlare per distrarre i mangiamorte. «Voleva che venissi a prenderla. E perché?» «Perché?» rise Malfoy, incredulo e insieme deliziato. «Perché, Potter, le uniche persone alle quali è permesso ritirare una profezia dall'ufficio misteri sono coloro che ne sono l'oggetto, come il signore oscuro ha scoperto quando ha tentato di usare altri per impadronirsene. E perché voleva rubare una profezia su di me?» «Su entrambi, Potter, su di te e su di lui. Non ti sei mai chiesto perché ha tentato di ucciderti quando eri solo un bambinetto?» Henry fissò gli occhi grigi di Malfoy, scintillanti attraverso le fessure del cappuccio. Era per quella profezia che i suoi genitori erano morti e lui aveva la cicatrice a forma di saetta. Teneva fra le mani la risposta? «Qualcuno ha fatto una profezia su Voldemort e me?» chiese piano, gli occhi fissi su Lucius Malfoy, le dita ancora più strette sulla tiepida sfera di vetro. Era poco più grande di un boccino e ancora incrostata di polvere. «E ha fatto in modo che venissi a prenderla per lui? Perché non l'ha presa lui stesso!» «Prenderla lui stesso?» strillò Bellatrix, scoppiando in una risata folle. «Il signore oscuro che entra nel ministero della magia quando loro continuano così gentilmente a ignorarne il ritorno? Il signore oscuro mostrarsi agli Auror che insistono a sprecare il loro tempo dando la caccia al mio caro cugino?» «Perciò ha mandato voi a fare il lavoro sporco, eh?» disse Harry. «E prima ha tentato di costringere Sturgis a rubarla e anche Bode!» «Molto bene, Potter, molto bene!» disse lentamente Malfoy. «Il signore oscuro sa che non sei uno sciocco!» «Ora!» urlò Harry. Alle sue spalle cinque voci diverse gridarono «Reducto!» Cinque maledizioni volarono in cinque direzioni differenti. Gli scaffali davanti a loro esplosero e l'intera torre di ripiani ondeggiò mentre un centinaio di sfere si infrangevano, liberando fluttuanti figure opalescenti, le cui voci giunsero da chissà quale remoto passato, sommerse dal fragore di vetri e pezzi di legno che crollavano sul pavimento. «Correte!» urlò Harry mentre gli scaffali oscillavano minacciosi e altre sfere di vetro cadevano in pezzi. Agguantò Hermione e la vino via, proteggendosi la testa con un braccio, mentre scaffali e sfere rovinavano a terra. Dal polverone emerse un mangiamorte che si lanciò su di lui, ma Harry gli tirò una gomitata sul volto mascherato. Tutto attorno era un coro di urla, gemiti di dolore e schianti, mentre gli scaffali cadevano e le voci spettrali di veggenti sgorgavano dalle sfere. Harry si rese conto che la via di fuga era sgombra e vide Ron, Ginny e Luna superarlo di corsa, coprendosi la testa con le braccia. Qualcosa di pesante lo colpì a una guancia, ma lui chinò il capo e continuò a correre. Poi sentì una mano calargli sulla spalla. Hermione gridare «Stupeficium!» e la presa subito allentarsi. Avevano raggiunto l'inizio della fila 97. Harry svolto a destra e continuò a scappare. Sentì uno scalpiccio alle sue spalle e la voce di Hermione che incitava Neville. Davanti a loro la porta da dove erano entrati era spalancata e al di là poteva scorgere lo scintillio della campana di vetro. La superò sfrecciando, la profezia ancora ben stretta in pugno, e attese che gli altri lo raggiungessero prima di chiudere il battente alle loro spalle. «Colloportus!» ansimò Hermione e la porta si autosigillò con uno strano squittio. «Dove sono gli altri?» rantolò Harry. Aveva pensato che Ron, Ginny e Luna fossero davanti a loro, che li aspettassero in quella stanza, ma non c'era nessuno. «Devono essere andati dalla parte sbagliata!» bisbigliò atterrita Hermione. «Ascoltate!» sussurrò Neville. Passi e grida risuonavano dietro la porta che avevano appena sigillato. Harry vi accostò l'orecchio e sentì Lucius Malfoy ruggire. «Lascialo, Nott! Lascialo, ho detto! Le sue ferite sono nulla per il Signore Oscuro, nulla in confronto a perdere quella profezia. Jackson, vieni qui, dobbiamo organizzarci. Ci divideremo in coppie e frugheremo questo posto da cima a fondo. E non dimenticate, siate gentili con Potter fino a che ha in mano la profezia. Potete uccidere gli altri se necessario. Bellatrix, Rodolphus a sinistra. Crab, Rabastan, a destra. Jackson, Dolohov, la porta davanti a voi. McNair e Avery, da questa parte. Rookwood, laggiù. Marciber, con me. «Che cosa facciamo?» chiese Hermione tremando da capo a piedi. «Beh, di sicuro non resteremo ad aspettare che ci trovino», rispose Harry. «Via di qui!» Sforzandosi di fare meno rumore possibile, corsero oltre la scintillante campana di vetro, dove il piccolo uovo continuava a schiudersi e a richiudersi, verso la porta che dava nella stanza circolare. L'avevano quasi raggiunta, quando Harry sentì qualcosa di grosso e pesante urtare contro quella che Hermione aveva bloccato. «Fatevi da parte!» ordinò una voce rauca. «Allò, mora!» Mentre la porta si spalancava, Harry, Hermione e Neville si tuffarono sotto i tavoli e da lì videro l'orlo della veste di due mangiamorte avvicinarsi rapidamente. «Forse sono già nell'ingresso!» disse la voce rauca. «Controlliamo sotto i tavoli!» suggerì il suo compagno. Non appena Harry vide piegarsi le ginocchia dei due mangiamorte, puntò la bacchetta e gridò «Stupeficium!» Uno zampillo di luce rossa colpì il mangiamorte più vicino, che barcollò all'indietro e urtò contro una pendola, facendola cadere. Il secondo però riuscì a schivare l'incantesimo con un balzo e puntò la bacchetta contro Hermione, che stava uscendo allo scoperto per prendere meglio la mira. «Avada!» Harry si tuffò sul pavimento e gli agguantò le gambe, atterrandolo e facendogli sbagliare la mira. Nell'ansia di aiutarlo, Neville rovesciò un tavolo e puntò tremando la bacchetta contro i due, che si rotolavano sul pavimento gridando «Expelliarmus!». Le bacchette di Harry e del mangiamorte schizzarono via verso la porta della sala delle profezie. Un attimo dopo stavano correndo tutti, il mangiamorte in testa, Harry alle calcagna e Neville dietro, chiaramente inorridito dal risultato del suo incantesimo. «Levati di mezzo, Harry!» gridò Neville, deciso a riparare il danno. Harry si tuffò di lato, mentre Neville prendeva di nuovo la mira e urlava «Stupeficium!». Uno zampillo di luce rossa volò oltre il mangiamorte per centrare una vetrinetta appesa al muro, piena di clessidre di varie forme, che cadde e si infranse in un torrente di vetro. Poi tornò sulla parete, perfettamente riparata, poi ricadde e si frantumò. Il mangiamorte aveva recuperato la bacchetta, finita sul pavimento accanto alla scintillante campana di vetro. Harry si tuffò dietro un altro tavolo. Il suo avversario si voltò, ma il cappuccio gli era scivolato sugli occhi, impedendogli di vedere. Se lo strappò con la mano libera e gridò «Stupeficium!» lo precedette Hermione, che li aveva raggiunti. Lo zampillo di luce rossa centrò in pieno il mangiamorte, che si bloccò col braccio ancora sollevato. La bacchetta cadde tintinnando e lui barcollò all'indietro, contro la campana di vetro. Harry si aspettava di sentire uno schianto. Invece la testa del mangiamorte attraversò la campana come se fosse una bolla di sapone, e l'uomo si afflosciò con la schiena sul tavolo e la testa immersa nel turbinoso pulviscolo scintillante. «Accio bacchetta!» gridò Hermione. Prese al volo la bacchetta di sbucata da un angolo buio e gliela lanciò. «Grazie!» disse lui. «E ora usciamo di... Guardate!» esclamò Neville, fissando inorridito la testa del mangiamorte dentro la campana di vetro. Distinto, sollevarono tutti e tre le bacchette e si bloccarono, sbarrando gli occhi. La testa dell'uomo si rimpiccioliva a grande velocità, la corta barba si ritraeva nelle guance sempre più lisce. I capelli neri rientravano nel cranio, che si arrotondava e si copriva di peluria vellutata. Sul tozzo collo muscoloso del mangiamorte c'era la testa grottesca di un neonato. E poi, mentre sbalorditi lo guardavano rialzarsi, la testa si ingrandì, tornando alle dimensioni originali, e cranio e guance si ricoprirono di fitti peli neri. «È il tempo!» sussurrò sgomente Hermione. «Il tempo!» Il mangiamorte scosse la testa tentando di schiarirsi le idee, ma prima che riuscisse a riprendersi, quella tornò a rimpicciolirsi. Da una stanza vicina venne un urlo, seguito da un tonfo e un grido. «Ron!» chiamò Harry, voltando le spalle alla mostruosa trasformazione in corso davanti ai loro occhi. «Ginny! Luna! Harry!» gridò Hermione. Il mangiamorte aveva estratto la testa dalla campana di vetro. Aveva un aspetto assurdo, con la testa di neonato che strillava disperatamente e le braccia robuste che mulinavano in tutte le direzioni, mancando Harry per un pelo. Harry levò la bacchetta, ma Hermione gli bloccò il braccio. «Non puoi attaccare un bambino!» Non c'era tempo per discutere. Altri passi si avvicinavano veloci dalla sala delle profezie, e Harry capì troppo tardi che avrebbero fatto meglio attacere per non svelare la loro posizione. «Venite!» ordinò, lasciando il mostruoso mangiamorte con la testa da neonato abbrancolare dietro di loro. Corsero verso la porta aperta all'altro capo della stanza, quella che conduceva nell'oscuro atrio circolare. Erano a metà strada, quando Harry vide altri due mangiamorte attraversare la stanza nera. Subito scartò a sinistra, si infilò in un piccolo ufficio buio e ingombro, e si richiuse la porta alle spalle. «Colla!» cominciò Hermione, ma prima che potesse completare l'incantesimo, la porta si era spalancata, e i due mangiamorte. Avevano fatto irruzione. Trionfanti urlarono «Impedimenta!» Harry, Hermione e Neville furono scaraventati all'indietro. Neville volò oltre la scrivania e sparì. Hermione finì contro uno scaffale e fu sommersa da una valanga di grossi libri. Harry sbatte il capo contro la parete alle sue spalle, e per un momento fu troppo stordito e confuso per reagire. «Lo abbiamo preso!» urlò il mangiamorte più vicino. «In un ufficio!» «Silenzio!» gridò Hermione, e la voce dell'uomo si spense. La sua bocca continuò a muoversi dietro il foro del cappuccio, senza emettere alcun suono. Il suo compagno lo scostò bruscamente. «Petrificus totalus!» urlò Harry, mentre il secondo mangiamorte alzava la bacchetta. Braccia e gambe dell'incappucciato si bloccarono di colpo, facendolo cadere faccia in giù sul pavimento, rigido come un pezzo di legno. «Ben fatto, Harry!» La bacchetta del mangiamorte ammutolito da Hermione eseguì un brusco movimento di frusta, e una fiammeggiante stria purpurea colpì il petto della ragazza, che lanciò un sommesso «Oh!» e crollò a terra, dove rimase immobile. «Ermione!» Harry cadde in ginocchio accanto a lei, mentre Neville strisciava in fretta verso di loro, sotto la scrivania, la bacchetta tesa davanti a sé. Il mangiamorte gli tirò un calcio violento, spezzandogli la bacchetta e centrandogli il naso. Con un ululato di dolore, Neville si ritrasse, premendosi una mano sul viso. Harry si voltò di scatto, levando la bacchetta, e vide che il mangiamorte si era strappato il cappuccio e aveva la bacchetta puntata su di lui. Harry riconobbe la lunga, pallida faccia storta già vista sulla gazzetta del profeta Antonin Dolohov, il mago che aveva assassinato i Pruet. Soghignando, Dolohov indicò con la mano libera la sfera di vetro che Harry stringeva ancora, e poi Ermione. Anche senza parole, il significato era chiaro. «Consegnami la profezia, o farai la stessa fine». «Tanto dopo ci ammazzerete comunque», replicò Harry. Un lamento atterrito dentro la sua testa gli impediva di pensare con chiarezza. Aveva una mano posata sulla spalla ancora calda di Ermione, ma non osava abbassare lo sguardo per controllare come stava. «Fa che non sia morta! Fa che non sia morta! È colpa mia se muore!» «Non dagliela, Harry!» biascicò coraggioso Neville da sotto la scrivania, abbassando le mani e mostrando il naso rotto da cui gocciolava sangue sulla bocca e sul mento. «Non dagliela!» Uno schianto fuori dalla porta e Dolohov si voltò. Il mangiamorte con la testa da neonato era apparso sulla soglia, strillando e agitando alla cieca i grossi pugni. Harry colse l'occasione al volo. «Petrificus totalus!» L'incantesimo colpì Dolohov prima che riuscisse a bloccarlo e lo fece cadere addosso al compagno. Entrambi rimasero a terra, rigidi come pezzi di legno, incapaci di muoversi. «Ermione!» Harry la scrollò, mentre il mangiamorte con la testa da neonato balcollava via di nuovo. «Ermione, svegliati! Che cosa le affanno?» chiese Neville, uscì da sotto il tavolo e si inginocchiò al fianco di Ermione. Continuava a perdere sangue dal naso, sempre più gonfio. «Non lo so!» Neville le cercò il polso. «Badda ancora, Harry, sono sicuro!» L'improvvisa ondata di sollievo lasciò Harry stordito per un attimo. «Evviva!» «Sì! Penso di sì!» Per un po' rimasero in silenzio. Harry tese l'orecchio, ma sentì solo i mugolì e i tonfi del mangiamorte dalla testa di neonato, nella stanza accanto. «Neville, non siamo lontani dall'uscita!» bisbigliò dopo qualche istante. «La stanza rotonda è qui accanto. Se tu riuscissi a raggiungerla e a trovare la porta giusta prima dei mangiamorte, potresti portare Ermione nel corridoio e nell'ascensore, poi trovare qualcuno, dare l'allarme!» «E in anno dunque cosa fai?» chiese Neville asciugandosi il naso sanguinante sulla manica e fissandolo accigliato. «Io devo trovare gli altri!» «Beh, li doremo insieme!» disse Neville deciso. «Ma Ermione!» «La potiamo con noi! La potto io! A combattere! C'è meglio dudimi!» Si rialzò, prese Ermione per un braccio e fissò Harry, che dopo una breve esitazione la prese per l'altro braccio e lo aiutò a caricarsi il corpo inerte sulle spalle. «Aspetta!» disse, raccogliendo da terra la bacchetta di Ermione e consegnandola a Neville. «Meglio che prendi questa!» Neville allontanò con un piede i pezzi della sua bacchetta e insieme si avvicinarono alla porta. «Mia nonna mi uccidea!» biascicò Neville gocciolando sangue a ogni parola. «Era la vecchia bacchetta di papà!» Harry sbirciò cauto fuori. Il mangiamorte con la testa da neonato continuava a urlare e agitarsi, rovesciando pendole e tavoli, frignante e confuso, mentre la vetrinetta, che Harry sospettava fosse stata piena di giratempo, continuava a cadere, rompersi e aggiustarsi. «Non si accorgerà di noi!» sussurrò. «Vieni, stammi vicino!» Sgusciarono fuori dall'ufficio e puntarono verso la stanza buia, in apparenza deserta. Non appena ebbero varcato la soglia, Neville vacillante sotto il peso di Ermione, la porta della stanza del tempo si richiuse alle loro spalle e le pareti cominciarono a ruotare. Un po' stordito dal recente colpo alla testa, Harry socchiuse gli occhi barcollando finché la stanza si fermò. Con un tuffo al cuore scoprì che le croci fiammeggianti tracciate da Ermione erano svanite. «Da che parte credi che...» Ma prima che potessero prendere una decisione, una porta alla loro destra si spalancò e ne rotolarono fuori tre persone. «Ron!» gridò Harry correndo verso di loro. «Ginny! State tutti...» «Harry!» Ridacchiando piano, Ron fece un balzo in avanti, gli afferrò la veste e lo fissò con sguardo annebbiato. «Eccoti qua! Come sei buffo, Harry! Tutto in disordine!» Ron era pallidissimo e qualcosa di scuro gli colava da un angolo della bocca. Dopo un attimo le ginocchia gli cedettero e, dato che era ancora aggrappato all'amico, lo trascinò con sé, costringendolo a chinarsi. «Ginny!» disse spaventato Harry. «Cosa è successo?» Ma Ginny scosse il capo senza parlare e si lasciò scivolare lungo il muro fino a sedersi per terra, ansimando e stringendosi la caviglia. «Se l'è rotta, credo!» sussurrò Luna, evidentemente l'unica a non avere riportato danni, chinandosi su di lei. «Erano i quattro. Ci hanno inseguiti dentro una stanza buia piena di pianeti. Un posto stranissimo. Ci siamo ritrovati a galleggiare nel buio.» «Abbiamo visto Urano da vicino, Harry!» disse Ron, sempre ridacchiando. «Capisci? Abbiamo visto Urano! Ha 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 ha!» Una bolla di sangue gli si gonfiò all'angolo della bocca ed esplose. «Poi uno ha afferrato Ginny per un piede», riprese Luna, «e io ho usato la maledizione Reductor per fargli esplodere Plutone in faccia, ma...» accennò a Ginny, che respirava affannosamente, gli occhi ancora chiusi. «E Ron?» sussurrò Harry, mentre l'amico continuava a sghignazzare senza mollargli la veste. «Non so con che cosa l'hanno colpito», rispose desolata Luna, «ma è diventato un po' strano e ho fatto fatica a portarmelo dietro.» «Harry!» disse Ron, avvicinandogli le labbra a un orecchio senza smettere di ridere. «Sai chi è quella ragazza? È Lunatica! Lunatica Lovegood! Ha 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 ha!» «Dobbiamo andare via di qui», decise Harry. «Luna, puoi aiutare Ginny?» «Sì!» Luna infilò la bacchetta dietro l'orecchio e passò un braccio attorno alla vita di Ginny per tirarla su. «È solo la caviglia! Ce la faccio da sola!» protestò Ginny, ma un momento dopo barcollò e dovete aggrapparsi a Luna per non cadere. Harry si tirò sulle spalle un braccio di Ron, proprio come tanti mesi prima aveva fatto con Dudley. Si guardò attorno. Avevano una possibilità su dodici di trovare l'uscita giusta al primo tentativo. Trascinò Ron verso una porta, ma l'avevano quasi raggiunta, quando se ne spalancò un'altra e irruppero tre mangiamorte guidati da Bellatrix l'estrange. «Eccoli!» strillò lei. Diversi schiantesimi attraversarono la stanza. Harry si tuffò oltre la porta che aveva davanti, scaricò Ron senza troppi complimenti e tornò indietro per aiutare Neville a trarre in salvo Ermione, appena in tempo per riuscire a sbattere la porta in faccia a Bellatrix. «Colloportus!» gridò, mentre tre corpi cozzavano violentemente contro la porta, dall'altra parte. «Non importa!» sentì gridare una voce d'uomo. «Ci sono altri modi per entrare! Li abbiamo in pugno! Sono qui!» Harry si voltò. Erano tornati nella stanza dei cervelli, dove tante altre porte si aprivano in ogni parete. Sentì molti passi affrettati nell'atrio alle loro spalle. A quanto pareva, altri mangiamorte. Si erano uniti ai primi. «Luna! Neville! Aiutatemi!» Corsero affannati da una porta all'altra, sigillandole. Nella fretta, Harry finì contro un tavolo e lo superò, rotolandoci sopra. «Colloportus!» Passi rapidi risuonavano dietro le porte, e a tratti qualcuna tremava e scricchiolava, sotto l'impatto di un corpo pesante. Luna e Neville stavano bloccando quelle sulla parete opposta, ma quando Harry arrivò in fondo alla stanza, sentì Luna gridare «Colloportus!» Si voltò in tempo per vederla volare all'indietro. Cinque mangiamorte avevano fatto irruzione. Luna urtò un tavolo, viscivolò sopra e atterrò dall'altro lato, affrosciandosi sul pavimento, immobile, come Ermione. «Prendete Potter!» strillò bella Trix, lanciandosi verso di lui. Harry la schivò e attraversò di corsa la stanza, sapendo di essere al sicuro, finché loro rischiavano di colpire la profezia. «Ehi!» disse Ron, che si era rialzato e trotterellava verso di lui, con passo incerto, ridacchiando. «Ehi, Harry! Qui dentro è pieno di cervelli! Non è buffo, Harry!» «Levati di mezzo, Ron! Sta giù!» Ma Ron aveva già puntato la bacchetta contro la vasca. «Davvero, Harry? Sono cervelli! Guarda! Accio cervello!» Per un momento ogni cosa sembrò raggelarsi. Quasi senza volerlo, Harry, Ginny, Neville e tutti i mangiamorte si voltarono a guardare la vasca. Simile a un pesce volante, un cervello schizzava fuori dal liquido verde. Rimase sospeso un attimo a mezz'aria. Poi volò roteando verso Ron, mentre nastri di immagini in movimento se ne staccavano, srotolandosi come la pellicola di un film. «Ah ah ah! Harry, guarda!» rise Ron, osservando il cervello vomitare le sue viscere sgargianti. «Viene a toccarlo, Harry! Certo che è strano! Ron, no!» Harry non sapeva che cosa sarebbe successo se Ron avesse toccato i tentacoli di pensiero fluttuanti, ma era certo che non fosse niente di buono. Si slanciò verso di lui, ma il cervello era già atterrato fra le mani tese dell'amico. Al contatto con la sua pelle, i tentacoli cominciarono ad avvolgersi come funi attorno alle sue braccia. «Harry, guarda qui! No, no, non mi piace! No, ferma! Basta!» I nastri sottili si stavano arrotolando attorno al petto di Ron, che tentò inutilmente di liberarsi, mentre il cervello aderiva al suo corpo come un polipo. «Diffindo!» gridò Harry, cercando in vano di tagliare i tentacoli che si avvolgevano attorno agli occhi dell'amico. Ron cadde a terra, contorcendosi. «Soffocherà!» urlò Ginny, bloccata a terra dalla caviglia rotta. Poi uno zampillo di luce rossa esplose dalla bacchetta di un mangiamorte e la centrò in pieno viso. Ginny si affrosciò da un lato e restò immobile. «Stumeficium!» urlò Neville, ruotando su se stesso e agitando la bacchetta di Ermione contro i mangiamorte sempre più vicini. «Stumeficium! Stumeficium!» Ma non successe niente. Un mangiamorte gli lanciò uno schiantesimo che non lo colpì per un soffio. Ormai erano rimasti soltanto lui e Harry contro i cinque mangiamorte. Due di loro scagliarono fiotti di luce argentea, che partirono come frecce e li mancarono, ma aprirono un cratere nella parete. Inseguito da Bellatrix Lestrange, Harry corse verso il centro della stanza, tenendo la sfera di vetro alta sopra la testa, con l'unico pensiero di allontanare i mangiamorte dagli amici. Parve funzionare, perché lo inseguirono tutti, rovesciando sedie e tavoli, ma non osarono lanciare incantesimi per paura di colpire la sfera. Harry si tuffò oltre l'unica porta aperta, quella da dove erano entrati i mangiamorte, pregando in cuor suo che Neville restasse insieme a Ron e trovasse un modo per liberarlo. Ma aveva fatto solo pochi passi quando sentì il pavimento svanire sotto i suoi piedi. Stava cadendo, rimbalzava da un ripido gradino di pietra all'altro, finché, con un tonfo mozzafiato, atterrò di schiena nella cavità dove si trovava la piattaforma con l'arco di pietra. Le risate dei mangiamorte che girarono nella stanza, e alzando lo sguardo, Harry vide scendere verso di lui i cinque che li avevano attaccati nella stanza dei cervelli, mentre altrettanti sbucavano da varie porte e cominciavano a scendere agilmente la gradinata. Si alzò a fatica sulle gambe, così tremanti da reggerlo a stento, la sfera ancora miracolosamente intatta nella mano sinistra, la bacchetta nella destra. Indietreggiò, guardandosi attorno, cercando di tenere sotto tiro tutti i mangiamorte. Le sue caviglie urtarono qualcosa di solido. Aveva raggiunto la piattaforma. Vi salì a ritroso. I mangiamorte si fermarono e lo fissarono. Alcuni ansimavano quanto lui. Uno era coperto di sangue. Dolohov, liberato dalla maledizione Petrificus, sogghignava puntandogli la bacchetta dritto in faccia. «La corsa è finita, Potter», disse con voce strascicata a Lucius Malfoy, togliendosi il cappuccio. «Adesso dammi la profezia, da bravo». «Lasciate andare gli altri e ve la darò», urlò disperato Ernie. Alcuni mangiamorte risero. «Non sei nella posizione di trattare, Potter», ribatté Malfoy, il volto pallido arrossato di piacere. «A quanto pare, noi siamo dieci e tu uno. Ossilente non ti ha insegnato a contare». «Non è sciolo», gridò una voce sopra di loro. «Ci sono anch'io!» Ernie provò un tuffo al cuore. Neville stava scendendo goffamente i gradini di pietra, la bacchetta di Ermione stretta nella mano tremante. «Neville, no! Tornata, non!» «Slubeficium!» gridò Neville, puntando la bacchetta su un mangiamorte dopo l'altro. «Slubeficium!» Uno dei mangiamorte più robusti gli arrivò alle spalle e gli bloccò le braccia lungo i fianchi. Neville si divincolò e tirò calci disperatamente, suscitando molte risate. «È Longbottom, vero?» ghignò Lucius Malfoy. «Beh, tua nonna è abituata a perdere familiari per la nostra causa. La tua morte non dovrebbe sconvolgerla!» «Longbottom?» ripeté Bellatrix, e un sorriso di pura malvagità le illuminò il viso scarno. «Ho avuto il piacere di incontrare i tuoi genitori, ragazzo!» «Lo so!» ruggì Neville, divincolandosi con tanta forza dalla presa soffocante del mangiamorte che questi urlò. «Qualcuno lo schianti!» «No, no, no!» disse Bellatrix. Sembrava invasata, fremente di eccitazione, mentre il suo sguardo andava da Harry a Neville. «No, vediamo quanto resiste Longbottom prima di crollare come i suoi genitori, a meno che Potter decida di consegnarci la profezia!» «Non dagli niente!» urlò Neville, che sembrava fuori di sé. Scalciò e si divincolò, mentre Bellatrix gli si avvicinava levando la bacchetta. «Non dagliela, Annie!» Bellatrix levò la bacchetta. «Crucio!» Neville urlò e ritrasse così bruscamente le gambe contro il petto, che per un attimo il mangiamorte sostenne tutto il suo peso. Lo lasciò cadere sul pavimento, dove rimase a contorcersi, urlando di dolore. «Questo era solo un assaggio!» disse Bellatrix. A un gesto della sua bacchetta le urla di Neville si placarono, e il ragazzo rimase disteso, singhiozzando ai suoi piedi. La donna si voltò a fissare Harry. «Allora, Potter, o ci consegni la profezia, o vedrai il tuo amichetto morire nel peggiore dei modi!» Harry non dovette riflettere, non aveva scelta. La sfera sembrava aver assorbito il calore della sua mano, mentre la tendeva verso i mangiamorte, e Malfoy si faceva avanti per rafferrarla. Poi, sopra di loro, altre due porte si spalancarono, e cinque persone irruppero nella stanza. Sirius, Lupin, Moody, Tonks e Kingsley. Malfoy si voltò, la bacchetta levata, ma Tonks gli aveva già spedito contro uno schiantesimo. Senza aspettare di scoprire se lo avesse centrato, Harry salto giù dalla piattaforma, fuori tiro. I mangiamorte erano concentrati sui membri dell'ordine, che scendevano in fretta ai gradini di pietra, facendo piovere su di loro un incantesimo dopo l'altro. Attraverso i corpi in corsa e i lampi di luce, Harry vide Neville strisciare lontano dalla mischia, e schivando un raggio di luce rossa, si tuffò sul pavimento per raggiungerlo. «Stai bene?» urlò, mentre un altro incantesimo passava a pochi centimetri dalla loro testa. «Sì!» disse Neville, tentando di rialzarsi. «E Ron?» «Bene, penso! L'ottavangone con quel cembello quando l'ho lasciato!» Il pavimento sotto di loro esplose, colpito da un incantesimo, e un cratere si aprì laddove pochi secondi prima c'era la mano di Neville. Stavano strisciando rapidi al riparo quando un braccio robusto scaturì da nulla. Afferrò Harry per il collo e lo tirò su di peso, con i piedi che gli pensolavano a mezz'aria. «Dammela!» gli ringhiò una voce all'orecchio. «Dammi la profezia!» Il Mangiamorte premeva così forte sulla gola di Harry da levargli il fiato. Lacrimando, Harry si guardò intorno. Sirius duellava con un Mangiamorte a tre metri di distanza. Kingsley ne stava affrontando due. Tonks, ancora a metà discesa, sparava incantesimi contro Bellatrix, e nessuno di loro sembrava rendersi conto che lui stava per morire. Puntò la bacchetta all'indietro, al fianco del Mangiamorte, ma non aveva abbastanza fiato per pronunciare un incantesimo. La mano libera dell'uomo si protese verso la sfera. «Aaaaaaah!» Neville, incapace di pronunciare correttamente gli incantesimi, aveva infilato la bacchetta di Ermione in una fessura del cappuccio, dritto in un occhio del Mangiamorte. Urlando di dolore, l'uomo lasciò andare Harry, che ruotò su se stesso e Ansimon, «Stupeficium!» Il Mangiamorte crollò all'indietro e perse il cappuccio. Era McNair, l'aspirante boia di Fierobecco, e aveva un occhio gonfio, insanguinato. «Grazie», disse Harry a Neville, scostandolo quando Sirius e il Mangiamorte passarono accanto a loro, duellando con tale accanimento che non si vedevano quasi le loro bacchette. All'improvviso il piede di Harry calpestò qualcosa di tondo e duro che per poco non lo fece scivolare. Dapprima temette che gli fosse caduta la sfera, ma poi vide l'occhio magico di Moody rotolare sul pavimento. Il proprietario era disteso a terra con la testa sanguinante, e il suo aggressore stava già calando su Harry e Neville. Dolohov, la lunga faccia pallida, contorta dalla gioia. «Taranta allegra!» urlò, puntando la bacchetta contro Neville, le cui gambe iniziarono immediatamente una specie di frenetico tip-tap, sbilanciandolo e facendolo cadere di nuovo a terra. «Ora, Potter!» ripeté lo stesso movimento di frusta usato contro Hermione, proprio mentre Harry urlava «Protego!» sentì qualcosa di simile a una lama smussata sfiorargli il viso con tanta forza da farlo barcollare e urtare contro le gambe fuori controllo di Neville, ma l'incantesimo scudo aveva attutito il peggio. Dolohov alzò di nuovo la bacchetta. «Accioprop!» Sirius sbucò da nulla, lo colpì con una spallata e lo mandò lungo disteso a terra. Di nuovo Harry riuscì a trattenere la sfera con la punta delle dita. Sirius e Dolohov presero a duellare le scintille che sprizzavano dalle bacchette guizzanti come spade. Dolohov ritrasse la bacchetta per compiere il solito movimento di frusta. Harry scattò in piedi urlando «Petrificus totalus!» Ancora una volta le braccia e le gambe di Dolohov si irrigidirono e il Mangiamorte cadde a terra con un tonfo. «Bravo!» gridò Sirius spingendo giù la testa di Harry mentre un paio di schiantesimi volavano verso di loro. «E adesso esci di qui!» Si chinarono entrambi di scatto e un getto di luce verde mancò Sirius per un soffio. All'altro capo della stanza Harry vide Tonks rotolare rimbalzando sui gradini di pietra e Bellatrix che tornava trionfante nella mischia. «Harry! Prendi la profezia! Agguanta Neville! Vattene!» urlò Sirius correndo verso Bellatrix. Harry non vide che cosa accadde dopo perché Kingsley attraversò il suo campo visivo duellando col butterato e non più mascherato Rookwood. Un altro raggio verde gli passò sopra la testa mentre si tuffava verso Neville. «Riesci ad alzarti?» gli urlò all'orecchio. Le gambe dell'amico continuavano a muoversi, incontrollabili. «Passami un braccio attorno al collo!» Neville obbedì. Harry lo sollevò. Le gambe di Neville non smettevano di scattare qua e là, rifiutandosi di sorreggerlo. E poi qualcuno all'improvviso fu loro addosso. Caddero entrambi all'indietro. Neville che dimenava le gambe come uno scarabeo rovesciato. Harry col braccio sinistro sollevato per evitare che la sfera si frantumasse. «La profezia! Dammi la profezia, Potter!» ringhiò Lucius Malfoy conficcandogli la punta della bacchetta nelle costole. «No! Mi lasci! Neville! Neville! Prendila!» Harry lanciò la profezia sul pavimento. Neville rotolò sulla schiena, la acciuffò e la strinse al petto. Subito Malfoy gli rivolse contro la bacchetta, ma Harry puntò la propria alle spalle e urlò «impedimenta!» Malfoy fu colpito in pieno e ribaltato. Rialzandosi a fatica, Harry lo vide cozzare contro la piattaforma sulla quale stavano duellando Sirius e Bellatrix. Ancora una volta Malfoy levò la bacchetta contro Harry e Neville, ma prima che riuscisse ad aprire bocca, Lupin era balzato fra loro. «Harry! Raduna gli altri e vattene!» Harry afferrò per le spalle Neville, ancora incapace di leggersi, e lo trasse di peso sul primo gradino. Radunando tutte le sue forze, Harry lo sollevò sul gradino successivo. Un incantesimo colpì il sedile di pietra a pochi centimetri dai piedi di Harry, sbriciolandolo. Lui ricadde su quello sotto. Neville tornò ad afflosciarsi su quello superiore, le gambe sempre in preda alle convulsioni, e si infilò la profezia in tasca. «Coraggio!» lo incitò Harry disperato, strattonandogli la veste. «Cerca di stare in piedi!» Lo tirò su con un altro sforzo sovrumano, ma una cucitura della veste cedette. La piccola sfera di vetro rotolò fuori dalla tasca, e prima che potessero recuperarla, Neville la colpì con un piede, fece un volo di tre metri alla loro destra e andò a schiantarsi sul gradino di sotto. Fissarono a occhi sgranati il punto dove si era rotta, sconvolti, e una sagoma perlacea, con gli occhi enormi, si srotolò davanti a loro. Furono i soli ad accorgersene. Harry la vide muovere le labbra, ma tutte le urre e gli schianti attorno gli impedirono di sentire una sola parola. La sagoma tacque e si dissolse. «Harry, mi dispiace!» gridò Neville addolorato, le gambe sempre in agitazione. «Mi dispiace, Harry, non volevo!» «Non importa!» gridò Harry. «Cerca di stare in piedi! Andiamocene!» «Cilente!» esclamò Neville, lo sguardo fisso oltre le spalle di Harry, il viso sudato di colpo raggiante. «Che cosa?» «Cilente!» Harry si voltò. Albus Silente era comparso sopra di loro, stagliato sulla soglia della stanza dei cervelli, la bacchetta levata, il volto pallido e furente. Harry si sentì attraversare da una sorta di scarica elettrica. Erano salvi. Silente era già sceso oltrepassando Neville e Harry, che ormai non avevano più alcuna intenzione di andarsene. Quando i Mangiamorte più vicini si accorsero della sua presenza e urlarono un avvertimento. Uno tentò di scappare, arrampicandosi come una scimmia sui gradini di pietra. L'incantesimo di Silente lo trasse indietro senza sforzo, come se lo avesse agganciato con una lenza invisibile. Soltanto due continuavano a combattere, a quel che pareva ignari del nuovo arrivo. Harry vide Sirius schivare il fiotto di luce rossa di Bellatrix e deriderla. «Avanti! Puoi fare di meglio!» le gridò, la voce echeggiante nella vastissima sala. Il secondo getto luminoso lo colpì in pieno petto. La risata non gli si era ancora spenta sul viso, ma il colpo gli fece sgranare gli occhi. Senza rendersene conto, Harry lasciò andare Neville, saltò ai piedi della gradinata ed estrasse la bacchetta, mentre anche Silente si voltava verso la piattaforma. Sembrò che la caduta di Sirius durasse un'eternità. Il suo corpo si piegò con grazia e cadde all'indietro oltre il velo logoro appeso all'arco. Harry colse un misto di paura e stupore sul suo volto sciupato, un tempo così attraente, mentre varcava l'antica soglia e spariva dietro il velo, che per un momento ondeggiò come scosso da un forte vento, poi ricadde immobile. Udì l'urlo di trionfo di Bellatrix Lestrange, ma sapeva che non significava niente. Sirius era solo caduto al di là dell'arco. Da un momento all'altro sarebbe ricomparso. Ma Sirius non ricomparve. «Sirius!» urlò Harry. «Sirius!» Harry aveva il fiato mozzo, i polmoni in fiamme. Di sicuro Sirius era dietro la tenda. Lui, Harry, l'avrebbe tirato fuori. Fece per lanciarsi verso la piattaforma, ma Lupin lo bloccò, circondandolo con le braccia, e lo trattenne. «Non puoi fare niente, Harry!» «Fermalo! Salvalo! È appena passato!» «È troppo tardi, Harry!» «Possiamo ancora raggiungerlo!» Harry si divincolò con violenza, ma Lupin non lo lasciò andare. «Non puoi fare più niente, Harry!» «Niente!» «Se n'è andato!» L'unico che abbia mai temuto. «Non se n'è andato!» urlò Harry. Non ci credeva. Non ci voleva credere. Si divincolò con tutte le sue forze. Lupin non capiva. C'era gente nascosta dietro quella tenda. Harry gli aveva sentiti bisbigliare la prima volta che era entrato nella stanza. Sirius si stava nascondendo per tendere un agguato. «Sirius!» urlò. «Sirius!» «Non può tornare, Harry!» disse Lupin con voce spezzata, mentre lottava per trattenerlo. «Non può tornare perché...» «Non è morto!» ruggì Harry. «Sirius!» Attorno a loro c'era il caos, un tumulto vano, i lampi di altri incantesimi. Per Harry quel fracasso era privo di senso, inutili le maledizioni che sfrecciavano tutto attorno. L'importante era solo che Lupin smettesse di fingere che Sirius, Sirius, che si trovava a pochi centimetri da loro, dietro quella vecchia tenda, non sarebbe ricomparso da un momento all'altro, scostando dal viso i capelli scuri, ansioso di riprendere a combattere. Lupin lo trascinò lontano dalla piattaforma. Harry, ancora con gli occhi incollati all'arco, era furioso con Sirius, perché si faceva aspettare. Ma anche mentre continuava a divincolarsi, una parte di lui si rese conto che fino ad allora Sirius non lo aveva mai fatto aspettare. Sirius aveva rischiato futto, sempre per vederlo, per aiutarlo. Se non era riapparso quando Harry aveva urlato il suo nome, come se la sua vita ne dipendesse, la sola spiegazione possibile era che non poteva, che era davvero. Silente aveva raggruppato la maggior parte dei restanti mangiamorte al centro della stanza, immobilizzandoli a quel che pareva con corde invisibili. Soppicando, malocchio Moody aveva raggiunto Tonks e tentava di farla rinvenire. Dietro la piattaforma ancora esplodevano lampi di luce, grugniti e grida. Kingsley si era sostituito a Sirius nel duello con Bellatrix. —Harry! Neville era arrivato scivolando da un gradino di pietra all'altro. Harry aveva smesso di lottare con Lupin, che però continuava a stringergli il braccio. —Harry, mi mi piace! Le gambe di Neville continuavano a sussultare con vulse. —Quello! Black! È l'amico nuovo! —Harry annui. —Aspetta! —mormorò Lupin e, puntando la bacchetta contro le gambe di Neville, disse —Finite! L'incantesimo cessò. Le gambe di Neville si fermarono. Lupin era pallido. —Andiamo! Andiamo a cercare gli altri. Dove sono, Neville? Parlando, voltò le spalle all'arco. Sembrava che ogni parola lo facesse soffrire. —Dutti là dentro! —Rispose Neville. —Un ce bello a Daganoron, ma adesso penso che stia bene. E Bione è venuta, ma le abbiamo tendito il polso. Dietro la pedana risuonarono uno schianto e un grido. Harry vide Kingsley cadere urlando di dolore. Bellatrix Lestrange girò sui tacchi e fuggì. Silente si voltò subito per lanciarle un incantesimo, che però lei riuscì a parare. Ormai era a metà dei gradini. —Harry! No! gridò Lupin, ma Harry si era già liberato della sua stretta. —Ha ucciso Sirius! urrò. Lo ha ucciso! E io ucciderò lei! E scattò. Risalì a balzi le panche di pietra, incurante, delle urla alle sue spalle. L'orlo della veste di Bellatrix scomparve con un guizzo davanti a lui, e di nuovo furono nella stanza dove nuotavano i cervelli. Lei scagliò una maledizione al di sopra della spalla. La vasca si sollevò e si inclinò. Harry fu inondato dal liquido puzzolente. I cervelli gli caddero addosso, srotolando i lunghi tentacoli colorati, ma gli bastò urlare VINGARDIUM LEVIOSA! per farli volare via. Scivolando e sbandando, corse verso la porta. Superò con un balzo luna che gemeva sul pavimento. Ginny che gridò, Harry, cosa? Ron che ridacchiava piano e Ermione, ancora svenuta, spalancò la porta che dava nel nero atrio circolare e vide Bellatrix sparire in quella di fronte. Davanti a lei c'era il corridoio che portava gli ascensori. Corse, ma lei si chiuse con violenza la porta alle spalle e le pareti ripresero a ruotare. Ancora una volta i candelabri roteanti tracciarono strisce di luce azzurra tutt'attorno. Dov'è l'uscita? urlò disperato, quando la parete si fermò rombando. Da che parte si esce? Come se avesse atteso solo quella domanda, la porta di fronte si spalancò, mostrando il corridoio degli ascensori, illuminato dalle torce, vuoto. Corse. Davanti a sé sentì lo sferragliare di un ascensore, sfrecciò nel corridoio, svoltò l'angolo e schiacciò col pugno il pulsante per chiamarne un altro, che arrivò traballando e cigolando. La grata si aprì e Harry si tuffò dentro, premendo il pulsante con la scritta Atrio. La grata si richiuse e l'ascensore prese a salire. Ne uscì prima ancora che si fosse completamente riaperto e si guardò attorno. Bellatrix aveva quasi raggiunto la cabina telefonica all'altro capo dell'ingresso, ma mentre lui si lanciava all'inseguimento, lei si voltò e gli scagliò un'altra maledizione. Harry si tuffò dietro la fontana della fratellanza magica e l'incantesimo colpì sibilando i cancelli d'oro battuto, facendoli rintoccare come campane. Il suono di passi cessò. Bellatrix si era fermata. Harry si rannicchiò dietro le statue, in ascolto. «Vieni fuori, vieni fuori, piccolo Harry», lo chiamò lei con la solita beffarda voce infantile. «Perché mi hai seguito, altrimenti? Credevo che volessi vendicare il mio caro cugino!» «E lo farò!» urlò Harry, e una serie di Harry spettrali parvero ripetere in coro. «Lo farò, lo farò, lo farò!» «Ah, mi volevi bene, vero potterino?» Un odio mai provato sommersa Harry, spingendolo a lasciare il riparo della fontana. «Crucio!» gridò. Bellatrix strillò e cadde, ma non si contorse, né urlò di dolore come Neville. «Eccola di nuovo in piedi, ansante, senza più ridere!» Harry tornò dietro la fontana dorata, proprio mentre il controincantesimo di Bellatrix colpiva la testa del mago, che volò via e atterrò sei metri più in là, scavando lunghi solchi nel pavimento di legno. «Non avevi mai usato una maledizione senza perdono, vero, ragazzo?» sbraitò. Aveva abbandonato la vocetta infantile. «Devi volerlo, potter! Devi voler provocare dolore, goderne! Una giusta collera non può farmi male per molto, ma ti insegnerò io come si fa, d'accordo? Ti darò una lezione!» Harry stava girando cauto intorno alla fontana, quando Bellatrix urlò «Crucio!» costringendolo a tuffarsi di nuovo al riparo, mentre il braccio del centauro, quello che reggeva all'arco, schizzava via e atterrava con uno schianto poco lontano dalla testa dorata del mago. «Potter, non puoi vincere contro di me!» gridò Bellatrix. Harry la sentì muoversi sulla destra per cercare un punto da dove tenerlo sottotiro. Girò attorno alla statua, lontano da lei, e si rannicchiò dietro le gambe del centauro, la testa all'altezza di quella dell'elfo domestico. «Io ero, e sono la serva più fedele del Signore Oscuro! Da lui ho appreso le arti oscure e incantesimi tanto potenti che tu, patetico ragazzino, nemmeno puoi sognarti di affrontare!» «Stupeficium!» Harry si era spostato dietro il goblin che sorrideva estatico, all'ormai decapitato mago, e le aveva puntato la bacchetta alla schiena, mentre lei tendeva il collo per guardare dietro la fontana. Bellatrix reagì così rapidamente che Harry ebbe astento il tempo di schivare il colpo. «Protego!» il getto di luce rossa del suo stesso schiantesimo gli rimbalzò contro, costringendolo a buttarsi ancora dietro la fontana. Un orecchio del goblin attraversò al volo la stanza. «Potter, ti darò una possibilità!» urlò Bellatrix. «Dammi la profezia! Fai rotolare la sfera verso di me e forse ti risparmierò la vita!» «Beh, allora dovrai uccidermi, perché la profezia non c'è più!» urlò di rimando Harry e in quell'istante un dolore acutissimo dilacerò la fronte. La cicatrice era di nuovo in fiamme e per un attimo si sentì soffocare da una collera non sua. «E lui lo sa!» esclamò con una risata folle, simile a quella di Bellatrix. «Il tuo caro vecchio amico Voldemort sa che non c'è più e la cosa non gli farà piacere! Non trovi?» «Cosa? Che vuoi dire?» gridò lei. Per la prima volta nella sua voce c'era una nota di paura. «La sfera si è rotta quando tentavo di trascinare Neville su per i gradini! Come credi che la prenderà Voldemort?» La cicatrice scottava, bruciava un male atroce che gli fece salire le lacrime agli occhi. «Bucciardo!» strillò Bellatrix, ma ormai dietro la collera si sentiva il terrore. «Ce l'hai tu, Potter, e me la consegnerai! Accio profezia! Accio profezia!» Lottando contro il dolore terribile che quasi gli spaccava il cranio, Harry rise di nuovo perché sapeva che questo l'avrebbe fatta infuriare ancora di più. Rimase al riparo del goblin con l'orecchio mozzato, agitò la mano vuota e la ritrasse in fretta quando lei gli scagliò contro un altro getto di luce verde. «Niente!» le gridò. «Niente di niente! Si è rotta e nessuno ha sentito che cosa diceva! Vallo a raccontare al tuo capo!» «No!» urrò lei. «Non è vero! Tu menti! Padrone, ci ho provato! Ho tentato! Non punitemi!» «Non sprecare il fiato!» gridò Harry, stringendo gli occhi nello sforzo di resistere alla fitta lancinante. «Qui non ti può sentire!» «Non posso, Potter!» disse una voce acuta e gelida. Harry sbarrò gli occhi impietrito, alto e maciato, avvolto in un manto nero col cappuccio, l'orri da faccia da rettile bianca e scarna, gli occhi scarlatti dalle pupille verticali, fissi su di lui. Lord Voldemort era apparso nell'ingresso, la bacchetta puntata contro Harry, che rimase paralizzato. «E così hai rotto la mia profezia?» chiese a voce bassa, scrutandolo con gli spietati occhi rossi. «No, Bella, non dice il falso. Vedo la verità nella sua mente indegna. Mesi di preparativi, mesi di sforzi. E ancora una volta i miei mangiamorte hanno permesso a Harry Potter di tagliarmi la strada.» «Padrone, mi dispiace, non sapevo! Stavo combattendo l'anima Agus Black!» singhiozzò Bellatrix, gettandosi ai piedi di Voldemort, che avanzava lentamente. «Padrone, voi lo sapete!» «Taci!» ordinò minaccioso Voldemort. «Con te farò i conti fra poco. Credi che sia venuto al Ministero della Magia per ascoltare le tue scuse e i tuoi piagnistei?» «Ma, padrone, lui è qui... è sotto...» Voldemort non le badò. «Non ho altro da dirti, Potter!» disse piano. «Mi ha infastidito anche troppo, e per troppo tempo!» «Avada che davrà!» Harry non tentò nemmeno di difendersi. Aveva la mente vuota, la bacchetta inerte rivolta contro il pavimento. Ma ad un tratto la statua d'oro decapitata del mago prese vita e balzò giù dal piedistallo per atterrare fra Harry e Voldemort. La maledizione rimbalzò sul suo petto, respinta, mentre la statua spalancava le braccia per proteggere Harry. «Che cosa?» urlò Voldemort guardandosi attorno e poi sussurrò. «Silente!» Harry si voltò, il cuore in gola. Silente era comparso davanti ai cancelli dorati. Voldemort levò la bacchetta e un altro getto di luce verde sfrecciò contro Silente, che si voltò e svanì con un guizzo del mantello. Un attimo dopo riapparve dietro Voldemort e agitò la bacchetta verso i resti della fontana. Le altre statue prese lo vita. Quella della strega corse verso Bellatrix, che urlando le lanciò in vano un incantesimo dopo l'altro e le saltò addosso, bloccandola sul pavimento. Il goblin e l'elfo domestico zampettarono vicino ai camini lungo la parete e il centauro con un braccio solo galoppò verso Voldemort, che svanì per ricomparire accanto alla vasca. La statua senza testa spinse indietro Harry, lontano dalla battaglia, mentre Silente si avvicinava a Voldemort e il centauro dorato galoppava loro intorno. «Sei stato uno sciocco a venire qui stanotte, Tom», disse calmo Silente. «Gli Auror stanno per arrivare». «Per allora io me ne sarò andato, e tu sarai morto», sibilò Voldemort. Sparò contro Silente un'altra maledizione mortale, ma lo mancò e colpì invece il tavolo del guardiamago che prese fuoco. Silente mosse appena la bacchetta, ne scaturì un incantesimo così forte che al suo passaggio Harry, benché protetto dal suo guardiano dorato, si sentì rizzare i capelli. Stavolta per respingerlo, Voldemort fu costretto a evocare dal nulla uno scintillante scudo argenteo. L'incantesimo, quale che fosse, non provocò danni visibili allo scudo, ma ne trasse un rintocco profondo simile a un gong, un suono stranamente agghiacciante. «Non vuoi uccidermi, Silente?», gridò Voldemort, gli occhi scarlatti socchiusi, appena visibili oltre il bordo dello scudo. «Sei superiore a tanta brutalità, vero?». «Sappiamo entrambi che ci sono altri modi per distruggere un uomo, Tom», replicò tranquillo Silente, e avanzò verso di lui come se non avesse paura alcuna, come se nulla fosse successo a interrompere la sua passeggiata nell'atrio. «Ammetto che non mi darebbe soddisfazione toglierti soltanto la vita». «Niente peggio della morte, Silente!», ringhiò Voldemort. «Ti sbagli!», replicò Silente, continuando ad avvicinarsi e parlando in tono leggero, come se stessero facendo due chiacchiere davanti a un bicchiere. Vedendolo camminare così indifeso, privo di scudo, Harry ebbe timore. Avrebbe voluto gridare un avvertimento, ma il suo guardiano senza testa continuava a tenerlo contro la parete, bloccando ogni suo tentativo di liberarsi. «In verità, l'incapacità di capire che esistono cose assai peggiori della morte è sempre stata la tua più grande debolezza». Un altro zampillo di luce verde scaturì da dietro lo scudo argentato. Stavolta fu il centauro con un braccio solo, che, galoppando davanti a Silente, ricevette il colpo ed esplose, ma prima ancora che i pezzi avessero toccato il pavimento, Silente ritrasse la bacchetta e la mossa in avanti come una frusta. Una lunga fiamma sottile partì dalla punta e volò ad avvolgersi attorno a Voldemort e al suo scudo. Per un istante parve che Silente avesse vinto, ma di colpo la fune fiammeggiante diventò un serpente, che subito lasciò andare Voldemort e si voltò sibilando verso il suo creatore. Voldemort scomparve. Il serpente si drizzò, pronto a colpire. A mezz'aria sopra Silente esplose una vampata e Voldemort ricomparve sul piedistallo al centro della vasca, dove fino a poco prima si ergevano le cinque statue. «Attento!» gridò Harry, ma non aveva ancora finito di urlare che dalla bacchetta di Voldemort uscì un altro getto di luce verde contro Silente e il serpente scattò. Fox calò davanti a Silente, spalancò il becco e inghiottì lo zampillo verde, esplose in fiamme e cadde a terra in plume e raggrinzito. Nello stesso istante la bacchetta di Silente si mosse in un unico lungo gesto fluido. Il serpente che stava per affondare le zanne nella sua carne volò per aria e svanì in una voluta di fumo nero, e l'acqua della vasca si levò a coprire Voldemort come un bozzolo di vetro fuso. Per qualche attimo di Voldemort si videro solo i contorni scuri, increspati, una sagoma senza volto, luccicante e indistinta, che lottava per liberarsi dalla massa che lo soffocava. Di colpo svanì e l'acqua ricadde di schianto nella vasca, traboccò oltre gli orli e invase il pavimento lucido. «Padrone!» urlò Bellatrix. Certo che dovesse essere tutto finito. Che Voldemort avesse deciso di fuggire, Harry cercò di liberarsi dalla protezione della statua, ma Silente gli ordinò «Resta dove sei!» Per la prima volta sembrava spaventato, anche se Harry non riusciva a capire perché. L'atrio era vuoto, a parte loro due, Bellatrix, che si inghiozzava intrappolata sotto la statua della strega, e Fox, fenice neonata, che cinguettava piano sul pavimento. Poi la cicatrice si lacerò e Harry pensò di morire. Era un dolore inimmaginabile, insopportabile. Non era più nell'atrio, ma avvolto nelle spire di una creatura dagli occhi rossi, avvinto così stretto da non sapere più dove finiva il suo corpo e dove cominciava quello della creatura. Erano fusi insieme, legati dalla sofferenza, e non c'era via di scampo. La creatura parlò, usando la bocca di Harry, che nel suo dolore sentì muoversi la mascella. «Uccidimi adesso, Silente!» Accecato e morente, ogni parte di lui che implorava urlando ad essere liberata, Harry sentì la creatura usarlo di nuovo. «Se la morte non è nulla, Silente, uccidi il ragazzo!» «Che il dolore cessi!» pensò Harry. «Che ci uccida! Fai finire tutto, Silente! La morte è nulla in confronto a questo! E così rivedrò Sirius!» Mentre il cuore di Harry si gonfiava di commozione, le spire della creatura si allentarono, il dolore svanì e il ragazzo crollò faccia a terra, gli occhiali chissà dove, tremando come se fosse disteso sul ghiaccio, non sul legno. Molte voci echeggiarono nell'atrio, più voci del dovuto. Harry riaprì gli occhi e vide gli occhiali accanto al piede del suo protettore decapitato, che ormai giaceva sulla schiena, spezzato e immobile. Inforcati gli occhiali, alzò un po' il capo e vide il naso adunco di Silente, a pochi centimetri dal suo. «Stai bene, Harry?» «Sì», rispose lui, tremando così forte da non riuscire a tenere dritta la testa. «Sì, sto... Dov'è Voldemort? Dove... Chi sono tutti questi? Che cosa...» L'atrio era pieno di gente. Il pavimento rifletteva le alte fiamme smeraldine che si erano accese nei camini lungo tutta una parete, e sciami di streghe e di maghi ne uscivano senza posa. Mentre Silente lo aiutava a rialzarsi, Harry vide le piccole statue d'oro dell'elfo domestico e del goblin, precedere un Cornelius Fudge dall'aria sbigottita. «Era laggiù!» urlò un mago con i capelli raccolti a coda di cavallo e una veste scarlatta, indicando una pila di schegge dorate all'altro capo dell'ingresso, dove fino a pochi istanti prima era intrappolata Bellatrix. «L'ho visto, signor Fudge, giuro che era lei sa chi. Ha afferrato una donna e si è smaterializzato!» «Lo so, Williamson, lo so, l'ho visto anch'io!» balbettò Fudge, che indossava un pigiama sotto il mantello gessato e ansimava come se avesse corso per chilometri. «Per la barba di Merlino! Qui! Qui! Nel Ministero della Magia! Cieli Supremi! Non sembra possibile! Parola mia! Ma come può!» «Se vorrai scendere nell'ufficio misteri, Cornelius!» intervenne silente, che pareva rincuorato sullo stato di salute di Henry, facendosi avanti perché i nuovi arrivati notassero la sua presenza. Qualcuno alzò la bacchetta, altri si limitarono a fissarlo sballorditi. Le statue dell'elfo domestico e del goblin applaudirono, e Fudge fece un tale balzo che le sue pantofole si staccarano dal pavimento. «Vi troverai, paricchi mangiamorte e vasi, rinchiusi nella camera della morte, bloccati da una fattura antismaterializzante, in attesa che tu decida che cosa farne!» «Silente!» balbettò Fudge sballordito. «Tu! Qui! Io! Ma!» Si voltò agitato verso gli Auror, che aveva portato con sé, e fu palese che aveva una mezza idea di gridare «Prendetelo!» «Cornelius! Sono pronto a lottare contro i tuoi uomini e a vincere di nuovo!» tuonò silente. «Ma poco fa hai avuto davanti agli occhi la prova che ti sto dicendo la verità da un anno!» «Lord Voldemort è tornato! Tu hai dato per dodici mesi la caccia all'uomo sbagliato, ed è tempo che ti decida a usare il cervello!» «Io non... ecco...» farfugliò Fudge, guardandosi attorno come nella speranza che qualcuno gli suggerisse cosa fare. Alla fine, visto che nessuno apriva bocca, si decise a dire «Molto bene!» «Tolisch!» «Williamson! Scendete all'ufficio misteri e vedete!» «Silente, tu... dovrai raccontarmi per filo e per segno la fontana della fratellanza magica! Cos'è successo?» aggiunse in una specie di piagnucolio, fissando il pavimento cosparso dai resti delle statue di strega, mago e centauro. «Parleremo dopo che avrò rimandato Harry a Hogwarts!» disse Silente. «Harry! Harry Potter!» Fudge piroettò su se stesso e fissò Harry, ancora appoggiato al muro, accanto alla statua che lo aveva protetto durante il duello fra Silente e Voldemort. «Lui? Qui?» balbettò Fudge. «Ma che cosa è successo?» «Ti spiegherò tutto», ripetè Silente, «quando Harry sarà tornato a scuola». Si allontanò dalla vasca e si avvicinò alla testa dorata del mago che giaceva per terra, le puntò contro la bacchetta e mormorò «Portus!» La testa si accese di azzurro, vibrò per qualche secondo sul pavimento e tornò immobile. «Insomma!» protestò Fudge, mentre Silente la raccoglieva e tornava da Harry. «Non hai l'autorizzazione a usare una passaporta! Non puoi fare queste cose davanti al ministro della magia! Tu sai...» La voce gli si spezzò, mentre Silente lo scrutava al di sopra degli occhiali a mezzaluna. «Tu darai ordine di allontanare Dolore Sunbridge da Hogwarts», disse Silente, «e dirai ai tuoi Auror di smetterla, di dare la caccia al mio insegnante di cura delle creature magiche. Così potrà tornare al lavoro». «Stanotte ti concederò...» Tirò fuori di tasca un orologio con dodici lancette e lo studiò un momento. «Mezz'ora del mio tempo! Sarà più che sufficiente per informarti su quanto è successo qui. Dopodiché dovrò tornare alla mia scuola. Naturalmente, se ti servisse ancora aiuto, potrai entrare in contatto con me a Hogwarts. Mi raggiungerà qualunque lettera indirizzata al preside». Fudge aveva gli occhi più sgranati che mai, la bocca spalancata e la tonda faccia paonazza sotto gli arruffati capelli grigi. «Io? Tu?» Silente gli voltò le spalle. «Prendi questa passaporta, Harry». Gli tese la testa dorata e Harry vi posò sopra una mano, senza chiedersi che cosa lo aspettava né dove sarebbe andato. «Ci vediamo fra mezz'ora», gli disse Silente, pagato. «Uno, due, tre». Harry provò la familiare sensazione di un gancio che gli strattonava l'ombelico, il lucido pavimento di legno sotto i suoi piedi sparì. L'atrio, Fudge e Silente erano scomparsi, e lui volava in un vortice di colori e rumori. «La profezia perduta» «I piedi di Harry toccarono il suolo. Flettè le ginocchia e la testa dorata del mago cadde rumorosamente sul pavimento. Harry si guardò attorno e scoprì di essere nell'ufficio di Silente. Sembrava che durante l'assenza del preside ogni cosa si fosse riparata da sola. I delicati strumenti d'argento erano di nuovo al loro posto, sui tavolini snelli. Borbottavano e ronzavano tranquilli. I ritratti dei presidi, maghi e streghe, dormichiavano nelle cornici, la testa appoggiata allo schienare della poltrona o contro il bordo del quadro. Harry guardò fuori dalla finestra. All'orizzonte era comparsa una fresca linea verde pallido. L'alba si avvicinava. Non riusciva a sopportare quella quiete, turbata solo dai rari borbottii o dagli sbuffi di un ritratto addormentato. Se la stanza avesse potuto riflettere le sue emozioni, i quadri avrebbero urlato di dolore. Andò avanti e indietro nell'ufficio silenzioso, respirando affannosamente, sforzandosi di non pensare. Ma doveva pensare. Non c'era scampo. Sirius era morto per colpa sua, soltanto per colpa sua. Se non fosse stato così sciocco da abboccare all'esca lanciatagli da Voldemort, così convinto che i suoi sogni mostrassero la realtà, se solo avesse preso in considerazione la possibilità che, come aveva suggerito Ermione, Voldemort stesse sfruttando la sua mania di fare l'eroe. Era insopportabile, non riusciva a pensarci, non poteva. Avvertiva dentro di sé un vuoto tremendo, che si rifiutava di riconoscere o di esaminare. Un buco nero là dove era stato Sirius, dove Sirius era svanito. Non voleva restare solo con quella vastità silenziosa. La trovava intollerabile. Un quadro dietro di lui sbuffò in modo particolarmente rumoroso e una voce fredda disse «Ah, Harry Potter!». Fineas Nigellus sbadigliò e si stiracchiò, fissandolo con gli occhi socchiusi. «Che cosa ti porta qui a quest'ora mattutina?» chiese infine. «Questo ufficio dovrebbe essere chiuso per tutti, tranne che per il legittimo preside. O è stato silente a mandarti qui?» «Oh, non mi dire!» sbadigliò di nuovo. «Un altro messaggio del mio indegno proprio nipote?» Harry non riuscì a parlare. Fineas Nigellus non sapeva che Sirius era morto, ma lui non aveva la forza di dirglielo. Avrebbe significato rendere la cosa definitiva, assoluta, irreversibile. Anche altri ritratti si erano svegliati e il timore che lo bersagliassero di domande spinse Harry a dirigersi verso la porta e afferrare la maniglia. Non si aprì. Era chiuso dentro. «Spero», disse il mago corpulento con naso rosso appeso dietro la scrivania del preside, «che la tua presenza qui annunci un pronto ritorno di Silente». Harry si voltò. Il mago lo osservava con profondo interesse. Annui, armeggiando dietro la schiena, tentò di nuovo di abbassare la maniglia, che rimase immobile. «Bene», disse il mago, «senza di lui è stata una noia qui, una vera noia». Si sistemò sul seggio simile a un trono, sul quale era stato ritratto, e sorrise benevolo a Harry. «Silente ha una grande stima di te, come certamente saprai», disse in tono amichevole. «Una grande stima». Il senso di colpa che riempiva il petto di Harry, come un mostruoso parassita, si contorse e si agitò. Non lo sopportava. Non sopportava più di essere se stesso. Non si era mai sentito più in trappola dentro il proprio corpo. Mai aveva desiderato tanto di essere qualcun altro, chiunque altro. Fiamme sbelaldine esplosero nel camino vuoto. Harry si allontanò con un balzo dalla porta e fissò l'uomo che roteava là dentro. Mentre l'alta figura di Silente usciva dal fuoco, i maghi e le streghe sulle pareti si svegliarono di colpo, e parecchi lanciarono grida di benvenuto. «Vi ringrazio», disse Silente a bassa voce. Senza guardare Harry si tolse di tasca il piccolo, brutto, spennacchiato Fox, e lo posò con dolcezza sullo strato di soffici ceneri sotto il trespolo dorato, sul quale di solito si appollaiava da adulto. «Bene, Harry», disse infine, voltando le spalle alla neonata fenice, «sarai lieto di sapere che nessuno dei tuoi compagni soffrirà danni permanenti in seguito agli eventi di questa notte». «Bene», tentò di dire Harry, ma dalle labbra non gli uscì un suono. Gli sembrava che Silente volesse ricordargli tutti i guai che aveva provocato, e anche se finalmente il preside lo guardava dritto negli occhi con espressione gentile e non d'accusa, non riuscì a sostenere il suo sguardo. «Madame Promfri si occuperà di loro», proseguì Silente. «Ninfadora Tonks dovrà forse passare un po' di tempo al San Mungo, ma pare che si riprenderà completamente». Harry si limitò a rivolgere un cenno di assenso al tappeto, che stava diventando più chiaro via via che il cielo impallidiva. Era sicuro che tutti i ritratti nella stanza ascoltassero con grande attenzione ogni parola di Silente, chiedendosi dove fossero stati lui e Harry e perché qualcuno fosse rimasto ferito. «So quello che provi, Harry», disse pacato Silente. «No che non lo sa». La voce di Harry esplose nella stanza, mentre una collera rovente lo invadeva. Silente non sapeva nulla di quello che provava. «Vedi, Silente», disse Phineas Nigellus malizioso. «Mai cercare di capire gli studenti. Lo detestano. Preferiscono di gran lunga essere tragicamente incompresi, crogiolarsi nell'autocommiserazione, cuocere nel proprio...» «Basta così, Phineas!» Lo interruppe Silente. Harry gli voltò la schiena e guardò fuori dalla finestra. In lontananza vide lo stadio di Quidditch. Una volta Sirius vi era apparso sotto la forma di un arruffato cane nero per vederlo giocare, probabilmente per vedere se era bravo quanto James. Harry non gliel'aveva mai chiesto. «Non devi vergognarti di quello che provi», riprese Silente. «Anzi, poter provare un dolore così grande è la tua vera forza». Harry sentì la collera allambirgli le viscere, fiammeggiando nel vuoto terribile, riempiendolo del desiderio di ferire Silente, di punirlo per la sua calma e per le sue parole vuote. «La mia vera forza, eh?» disse con voce tremante, fissando senza vederlo lo stadio di Quidditch. «Lei non ha idea! Lei non sa!» «Che cos'è che non so?» chiese calmo Silente. «Era troppo!» Harry si voltò tremando di collera. «Non voglio parlare di quello che provo, capito?» «Harry, soffrire così dimostra che sei un uomo. Questo dolore fa parte dell'essere umano». «Allora non voglio essere umano!» ruggì Harry, afferrò un delicato strumento argenteo dall'esile tavolino accanto a lui e lo scaraventò dall'altra parte della stanza. Si fracassò in mille pezzi contro la parete. Parecchi ritratti lanciarono grida di collera e di spavento e quello di Armando Dippet esclamò. «Insomma! Non mi importa!» gridò loro Harry, afferrando un lunascopio e lanciandolo nel camino. «Ne ho abbastanza! Ho visto abbastanza! Voglio uscirne! Voglio che finisca! Non mi importa più!» Sollevò di peso il tavolino e lo scaraventò sul pavimento. Le gambe sottili si spaccarono e rotolarono ciascuna in una direzione diversa. «Sì, che ti importa!» disse Silente. Non era trasalito, né aveva fatto un solo gesto per impedirgli di demolire l'ufficio. La sua espressione era serena, quasi distaccata. «Ti importa al punto che ti sembra di dissanguarti dal dolore?» «Io no!» urlò Harry, così forte da avere l'impressione che gli si lacerasse la gola, e per un istante provò l'impulso di gettarsi su Silente e spezzare anche lui, di rompere quella vecchia faccia impassibile, di scrollarlo, ferirlo, fargli provare una minima parte dell'orrore che aveva dentro. «Sì, invece!» continuò Silente con calma ancora maggiore. «Hai perso tua madre, tuo padre e anche la persona più vicina a un genitore che tu abbia mai conosciuto. Certo che ti importa!» «Lei non sa quello che provo!» urlò Harry. «Lei se ne sta lì! Lei...» Ma urlare non era abbastanza. Fare tutto a pezzi non era abbastanza. Voleva fuggire. Voleva correre senza più fermarsi e non guardarsi mai indietro. Andare dove non potesse più vedere quei chiari occhi azzurri, quella vecchia faccia odiosamente serena. Corse d'impeto alla porta e scrollò con forza la maniglia. Ma la porta non si aprì. Si voltò verso Silente. «Mi faccia uscire!» disse. Tremava da capo a piedi. «No!» Per qualche secondo si fissarono in silenzio. «Mi faccia uscire!» «No!» «Se non... se continua a tenermi qui! Se non mi lascia!» «Continua pure a distruggere le mie cose!» replicò tranquillo Silente. «Ne ho fin troppe, direi!» Senza staccargli gli occhi di dosso andò a sedersi dietro la scrivania. «Mi faccia uscire!» ripeté Harry per la terza volta, con voce fredda e pacata, quasi quanto quella di Silente. «Non prima di averti detto quello che devo!» «E lei crede che voglia... che mi interessi? Non mi importa quello che deve dire!» sbottò Harry. «Non voglio sentire una parola di quello che deve dire!» «Sì, invece!» ribatté Silente tranquillo. «Perché ce l'hai molto di più con te stesso che con me. Se sei deciso ad aggredirmi, come suppongo sia tua intenzione, vorrei essermelo meritato pienamente. Di cosa sta parlando?» «È tutta colpa mia se Sirius è morto. O meglio, quasi tutta. Non sarò così arrogante da assumerne l'intera responsabilità. Sirius era un uomo coraggioso, intelligente ed energico. E di solito a uomini simili non piace starsene chiusi in casa se credono che le persone a loro care siano in pericolo. In ogni caso, non avresti mai dovuto pensare, mai, nemmeno per un secondo, di dover scendere nell'ufficio misteri stanotte. Se io fossi stato sincero con te come avrei dovuto, avresti saputo da un pezzo che Voldemort avrebbe cercato di attirarti laggiù e non saresti mai caduto nella trappola, e Sirius non sarebbe stato costretto ad accorrere in tuo aiuto. Questa colpa è mia, e mia soltanto.» Harry era immobile, stordito, la mano ancora sulla maniglia. Col fiato mozzo si voltò a fissare Silente, ascoltando le sue parole, ma incapace di capirle a fondo. «Siediti, per favore», disse Silente. Non era un ordine, ma una richiesta. Harry esitò, poi lentamente attraversò la stanza cosparsa di ingranaggi d'argento e schegge di legno, e si sedette davanti alla scrivania. «Mi par di capire», intervenne esitante Phineas Nigellus dal ritratto a sinistra di Harry, «che il mio proprio nipote, l'ultimo dei Black, è morto.» «Sì, Phineas», rispose Silente. «Non ci credo», sbottò Phineas. Harry voltò la testa in tempo per vederlo uscire a grandi passi dal quadro, e intuì che era andato a visitare gli altri dipinti in Grimmall Place. Forse sarebbe passato di ritratto in ritratto, chiamando Sirius per tutta la casa. «Ti devo una spiegazione, Harry», riprese Silente. «La spiegazione degli errori di un vecchio, perché ora capisco che il mio comportamento nei tuoi confronti ha tutti i segni delle debolezze dell'età. I giovani non possono sapere quello che i vecchi pensano e provano, ma i vecchi sono colpevoli, se dimenticano che cosa significa essere giovani, e ultimamente sembra che io l'abbia dimenticato. Il sole ormai si levava, il bordo delle montagne si colorò di un arancione abbagliante, e il cielo diventava sempre più chiaro, la luce cadde su Silente, illuminandogli le sopracciglia, la barba argentea, le rughe profonde. «Quindici anni fa», proseguì, «non appena vidi la cicatrice sulla tua fronte, intuì che cosa poteva significare, intuì che poteva essere il segno di un legame fra te e Voldemort». «Questo me l'ha già detto, professore», ribatté Brusco Harry, «non gli importava di essere scortese, non gli importava più di niente». «È vero», ammise Silente in tono di scusa, «ma vedi, è necessario cominciare dalla tua cicatrice, perché quando ti riunisti al mondo magico fu subito chiaro che la mia intuizione era giusta e che la cicatrice ti avvertiva dell'avvicinarsi di Voldemort e dello scatenarsi delle sue emozioni». «Lo so», mormorò Harry stancamente, «e la tua capacità di individuare la presenza di Voldemort anche quando si nasconde e di conoscerne le emozioni più violente è aumentata da quando Voldemort è tornato nel suo corpo e ha riacquistato in pieno i suoi poteri». Harry non si prese nemmeno la briga di annuire, sapeva già tutto. «Negli ultimi tempi», proseguì Silente, «ho cominciato a temere che Voldemort potesse rendersi conto di questo legame. Infatti, come era inevitabile, a un certo punto sei entrato così a fondo nei suoi pensieri che lui ha avvertito la tua presenza. Mi riferisco, è ovvio, alla notte dell'attacco contro il signor Weasley». «Sì, Piton me l'ha detto», borbottò Harry. «Il professor Piton», lo corresse pacato Silente. «Non ti sei chiesto perché non sono stato io a spiegartelo? Perché non sono stato io a insegnarti occlumanzia? Perché per mesi non ti ho quasi degnato di uno sguardo?» Harry alzò gli occhi. Si accorse che Silente era triste e stanco. «Sì», mormorò, «sì, me lo sono chiesto». «Vedi», riprese Silente, «ero convinto che ben presto Voldemort avrebbe tentato di penetrare nella tua mente per manipolare i tuoi pensieri, e non intendevo offrirgli altri incentivi. Di sicuro, se si fosse reso conto che il nostro rapporto era, o era stato, più stretto di quello fra preside e studente avrebbe cercato di servirsi di te per spiarmi. Temevo che ti usasse, Harry, che si impadronisse di te, e credo di aver avuto ragione, perché le rare volte che io e te ci siamo trovati in stretto contatto mi è parso di scorgere la sua ombra fremere dietro i tuoi occhi». Harry ricordò la sensazione che un serpente assopito si risvegliasse in lui ogni volta che incrociava lo sguardo di Silente. «E come ha dimostrato stanotte, lo scopo di Voldemort non era la mia distruzione, ma la tua. Quando ti ha posseduto per un attimo, poco fa, sperava che ti avrei sacrificato nella speranza di ucciderlo. Per questo, vedi, ho tentato di tenerti a distanza, per proteggerti. L'errore di un vecchio». Trasse un profondo sospiro. Harry sentiva le sue parole scorre gli addosso. Fino a pochi mesi prima avrebbe dato qualunque cosa per sapere tutto, ma ormai non aveva senso. Davanti all'avoragine che la perdita di Sirius aveva spalancato dentro di lui, più niente aveva importanza. «Sirius mi ha detto che la notte dell'attacco ad Arthur Weasley avevi sentito Voldemort risvegliarsi dentro di te, e ho capito subito che i miei peggiori timori erano giustificati. Voldemort si era reso conto di poterti usare. Così, nel tentativo di armarti contro i suoi assalti mentali, ho chiesto al professor Piton di darti lezioni di occlumanzia. Tacque! Harry vide i raggi del sole, che scorrevano lenti sulla superficie lucida della scrivania, illuminare un calamaio d'argento, una penna scarlatta. Senza bisogno di guardarli, sapeva che i ritratte attorno a loro erano svegli e ascoltavano attenti. A tratti sentiva il fruscio di una veste, un sommesso schiarirsi di gola. Phineas Nigellus non era ancora tornato. «Il professor Piton scoprì, riprese Silente, che da mesi stavi sognando la porta dell'ufficio misteri. Naturalmente Voldemort era ossessionato dal desiderio di ascoltare la profezia fin da quando aveva riacquistato il proprio corpo, e così indugiava sulla soglia, e tu pure, anche se tu non capivi che cosa significasse. E poi hai visto Rookwood, che prima del suo arresto lavorava nell'ufficio misteri, e lo hai sentito dire a Voldemort quello che noi già sapevamo. Le profezie custodite nel ministero della magia sono protette da incantesimi potentissimi. Soltanto la persona a cui si riferiscono può prenderle dagli scaffali senza impazzire. Nel caso specifico Voldemort in persona sarebbe dovuto uscire finalmente allo scoperto e introdursi nell'ufficio misteri, o avresti dovuto farlo tu per lui. Per questo era essenziale che tu studiassi a fondo occlumanzia. «Invece non l'ho fatto», mormorò a Harry. Lo ripeté a voce alta, nel tentativo di alleggerire il senso di colpa che lo opprimeva. Forse una confessione avrebbe in parte sollevato il peso spaventoso che gli gravava sul cuore. «Non l'ho fatto, non mi importava. Avrei potuto bloccare quei sogni. Hermione continuava a dirmelo. Se lo avessi fatto, Voldemort non avrebbe potuto mostrarmi dove andare e Sirius non sarebbe... Sirius non sarebbe...» Aveva l'impressione che gli esplodesse la testa. Doveva giustificarsi, spiegare. «Ho provato a controllare se aveva davvero catturato Sirius. Sono andato nell'ufficio della Hambridge. Ho usato il suo cammino per parlare con Kreacher e lui mi ha detto che Sirius non c'era, che se n'era andato.» «Kreacher ha mentito», replicò calmo silente. «Tu non sei il suo padrone. Perciò poteva mentirti senza nemmeno doversi punire. Kreacher voleva che tu andassi al Ministero della Magia.» «Mi ha... mi ha mandato laggiù apposta.» «Oh, sì. Temo che da mesi Kreacher servisse più di un padrone.» «Come?» chiese Henry con aria vacua. «Sono anni che non esce da Grimmall Place.» «Ha colto al volo l'occasione prima di Natale. Quando Sirius gli ha urlato, credo, di andare fuori.» Lo ha preso alla lettera, interpretandolo come un ordine di lasciare la casa. Ed è andato dall'unico membro della famiglia Black per cui nutrisse un minimo di rispetto. Narcisa, cugina di Sirius, nonché sorella di Bellatrix e moglie di Lucius Malfoy. E lei come lo sa? Henry sentiva il cuore battergli rapidissimo. Aveva la nausea. Si ricordava che la strana assenza di Kreacher durante le feste di Natale lo aveva preoccupato. Si ricordava quando era ricomparso in soffitta. «Kreacher mi ha confessato tutto, la notte scorsa.» Disse Silente. «Vedi, quando gli hai gridato quell'avvertimento criptico, il professor Piton ha intuito che dovevi aver visto Sirius, prigioniero nei meandri dell'ufficio misteri, e come te, ha subito tentato di mettersi in contatto con lui. Naturalmente, i membri dell'Ordine della Fenice possono contare su mezzi di comunicazione più affidabili del camino di Dolores Umbridge. E così il professor Piton ha scoperto che Sirius era vivo e al sicuro in Grimmall Place. Poi, non vedendoti tornare dalla foresta, ha temuto che tu credessi ancora che Sirius fosse prigioniero di Lord Voldemort. Così si è affrettato ad avvertire l'ordine.» Silente sospirò e riprese. «Quando si è messo in contatto col quartier generale, vi ha trovato Alastor Moody, Ninfadora Tonks, Kingsley Shacklebolt e Remus Lupin, e tutti sono stati pronti ad accorrere in tuo aiuto. Il professor Piton ha chiesto a Sirius di restare al quartier generale per riferirmi che cosa era successo, visto che aspettavano il mio arrivo da un momento all'altro. Nel frattempo lui, il professor Piton, ti avrebbe cercato nella foresta. Ma Sirius non aveva alcuna intenzione di restare con le mani in mano, perciò è andato con gli altri, affidando a Kreacher il compito di raccontarmi tutto. Così, quando sono arrivato a Grimmall Place, poco dopo la loro partenza, è stato l'elfo a dirmi, fra una risata e l'altra, dove era andato Sirius. Rideva? chiese Henry con voce soffocata. Oh sì! Vedi, Kreacher non poteva tradirci fino in fondo, non è custode segreto dell'ordine, non poteva dire a Malfoy dov'era la nostra base, né riferire i nostri piani, che aveva il divieto di rivelare. Era vincolato dagli incantesimi della sua specie, cioè non poteva disobbedire a un ordine diretto del suo padrone, Sirius. Però fornì a Narcisa informazioni di grande valore per Voldemort, che a Sirius devono essere sembrate troppo banali per proibirgli di riferirle. Per esempio, chiese Henry, per esempio il fatto che per Sirius tu eri la persona più importante del mondo, rispose Silente Piano, e che per te lui era un incrocio fra un padre e un fratello. Naturalmente Voldemort sapeva già che Sirius faceva parte dell'ordine e che tu conoscevi il suo nascondiglio, ma le informazioni di Kreacher gli fecero capire che per salvare Sirius Black tu saresti stato disposto a correre qualunque rischio. Allora, chiese Henry muovendo a fatica le labbra intorpidite, quando ho chiesto a Kreacher dove fosse Sirius, i Malfoy, senza dubbio seguendo le istruzioni di Voldemort, gli avevano ordinato di trovare un modo per tenere Sirius lontano dal camino, dopo che tu lo avevi visto in sogno mentre veniva torturato. Perciò, nel caso che tu avessi cercato di parlare con Sirius, Kreacher avrebbe dovuto fingere che non ci fosse. Così ieri Kreacher ha ferito fierobecco l'ippogrifo e quando tu sei comparso nel camino, Sirius era di sopra a medicarlo. A Henry sembrava di non avere più aria nei polmoni, respirava in fretta, a fatica. «E Kreacher le ha detto tutto questo ridendo?» chiese con voce Rocca. «Non voleva dirmelo», precisò Silente, «ma sono un legilimens abbastanza esperto da riconoscere una bugia, e l'ho persuaso a raccontarmi tutta la storia prima di andare all'ufficio misteri». «E pensare che Ermione», sussurrò Henry, stringendo i pugni gelati sulle ginocchia, continuava a ripeterci di essere gentili con lui. Aveva ragione, Henry. Quando decidemmo di stabilire a Grimmall Place il nostro quartier generale, avvertì Sirius di trattare Kreacher con gentilezza e rispetto, e gli dissi anche che quell'elfo domestico poteva diventare pericoloso. «Ma temo che non mi abbia preso molto sul serio, né che abbia mai visto Kreacher come una creatura dotata di sentimenti profondi quanto quelli di un essere umano. Non dia la colpa, non parli di Sirius come se...» Harry aveva il fiato mozzo, non riusciva quasi a parlare, ma la collera che per un po' si era placata avvampò di nuovo. Non avrebbe permesso a Silente di criticare Sirius. «Kreacher è un ripugnante, bugiardo, si meritava...» «Kreacher è come i maghi lo hanno fatto diventare, Henry», replicò Silente. «Sì, va compatito. La sua esistenza è stata miserabile, come quella del tuo amico Dobby. È stato costretto a eseguire gli ordini di Sirius perché era l'ultimo discendente della famiglia dei suoi padroni, ma non provava la minima lealtà nei suoi confronti. E quali che siano le colpe di Kreacher, va detto che Sirius non ha fatto nulla per rendergli le cose più facili». «Non parli in questo modo di Sirius!» urlò Harry. Scattò in piedi furioso, pronto a lanciarsi contro Silente, che non aveva capito affatto Sirius, il suo coraggio, le sue sofferenze. «E Piton?» ringhiò. «Di lui non parla, eh? Quando gli ho detto di Sirius non ha fatto altro che soghignare, come al solito!» «Sai benissimo che davanti a Dolores Umbridge non aveva scelta. Doveva fingere di non prenderti sul serio», ribatté Silente. «Ma come ti ho già detto, si è affrettato a informare l'ordine appena possibile. È stato lui a intuire dove eri andato quando non sei tornato dalla foresta. Ed è stato lui a fornire alla professoressa Umbridge un falso Veritaserum quando lei ha tentato di costringerti a dirle dove fosse Sirius». Ma Harry non lo ascoltava. Provava una gioia selvaggia nell'accusare Piton, come se questo alleviasse il suo senso di colpa, e voleva che Silente fosse d'accordo con lui. «Piton! Lui! Non faceva che farsi beffe di Sirius perché restava chiuso in casa! Diceva che era un codardo!» Sirius era un uomo adulto, troppo intelligente per lasciarsi ferire da sciocche punzecchiature, rispose Silente. «Piton ha smesso di darmi lezioni di occlumanzia!» ruggì Harry. «Mi ha buttato fuori dal suo ufficio!» «Lo so», disse Silente in tono grave. «Ho già ammesso di aver sbagliato a non darti lezioni io stesso, anche se ero convinto che nulla fosse più pericoloso che aprire ancora di più la tua mente a Voldemort in mia presenza! Stavo sempre peggio dopo quelle lezioni! La cicatrice mi faceva più male!» Ricordò i sospetti di Ron e proseguì d'impeto. «Come fa a sapere che non stesse cercando di indebolirmi per aiutare Voldemort, per rendergli più facile penetrare nella mia...» «Mi fido di Severus Piton», rispose Silente con semplicità. «Ma avevo scordato altro errore di un vecchio, che alcune ferite sono troppo profonde per guarire. Pensavo che il professor Piton sarebbe riuscito a superare i suoi sentimenti per tuo padre. Mi sbagliavo!» «Ma per lui va bene, eh?» urlò Harry, ignorando le facce scandalizzate e i mormori di disapprovazione dei ritratti. «Per Piton va bene odiare mio padre, ma per Sirius non andava bene odiare Kreacher!» «Sirius non odiava Kreacher!» disse Silente. «Lo riteneva un servo indegno di qualunque interesse o attenzione. E spesso l'indifferenza e il disprezzo fanno più danni dell'odio. La fontana che è andata distrutta questa notte mentiva. Per troppo tempo noi maghi abbiamo maltrattato e sfruttato i nostri compagni e ora ne paghiamo le conseguenze.» «Insomma, Sirius, si meritava quello che gli è successo, vero?» urlò Harry. «Non ho detto questo, né mi sentirai mai dire una cosa del genere!» replicò pacato Silente. Sirius non era crudele e in genere trattava con gentilezza gli elfi domestici, ma non Kreacher, perché gli ricordava troppo la casa che odiava. «La odiava, sì!» esclamò Harry con voce spezzata. Di scatto gli diede le spalle e si allontanò dalla scrivania. Il sole ormai illuminava la stanza. Sotto gli occhi dei ritratti Harry andava avanti e indietro nell'ufficio senza vederlo, senza sapere che cosa stesse facendo. «E lei lo ha costretto a starsene rinchiuso là dentro e lui non lo sopportava! Ecco perché ieri notte è voluto uscire!» «Tentavo di salvargli la vita!» mormorò Silente. «A nessuno piace stare rinchiuso!» sbottò Harry infuriato, voltandosi di scatto. «Com'è successo a me per tutta l'estate?» Silente chiuse gli occhi e si coprì il viso con le mani dalle lunghe dita. Ma quell'insolito segno di stanchezza, tristezza o qualunque cosa fosse non addolcì Harry. Anzi, lo fece infuriare ancora di più. Silente non aveva il diritto di mostrarsi debole quando lui voleva soltanto urrargli contro, maltrattarlo. Silente abbassò le mani e fissò Harry da sopra gli occhiali a mezzaluna. «È giunto il momento di dirti quello che avrei dovuto dirti cinque anni fa, Harry. Siediti, ti prego. Saprai tutto. Ti chiedo solo un po' di pazienza. Avrai modo di urlare, di fare quello che vuoi. Quando avrò finito, non te lo impedirò.» Per un momento Harry lo scrutò, furioso, poi tornò a sedersi davanti alla scrivania e aspettò. Silente guardò al di là della finestra i prati illuminati dal sole, prima di fissare di nuovo Harry. «Cinque anni fa», disse infine, «sei arrivato a Hogwarts sano e salvo, come avevo progettato e desiderato. Beh, non proprio avevi sofferto. Quando ti lasciai sui gradini della casa dei tuoi zii, sapevo quale sarebbe stata la tua vita. Sapevo di condannarti a dieci anni difficili e bui.» Fece una pausa. Harry tacque. «Potresti chiedere, e ha ragione, perché doveva essere così? Perché non ti avevo affidato a una famiglia di maghi? Molti ti avrebbero accolto più che volentieri. Sarebbero stati onorati e felici di allevarti come un figlio.» La risposta è che la mia prima preoccupazione era tenerti in vita. Correvi un pericolo maggiore di quanto chiunque, a parte me, potesse capire. Voldemort era stato appena sconfitto, ma i suoi seguaci, molti temibili quanto lui, erano ancora in circolazione, furibondi, disperati, violenti. E io dovevo prendere una decisione anche per gli anni futuri. Ero convinto che Voldemort fosse scomparso per sempre? No. Non sapevo se avrebbe impiegato dieci, venti o cinquant'anni, ma ero sicuro che sarebbe tornato, e conoscendolo come lo conosco, ero anche sicuro che non avrebbe avuto pace finché non ti avesse ucciso. Sapevo che ha della magia una conoscenza forse più vasta di qualunque mago vivente. Sapevo che anche i miei incantesimi protettivi più complessi e potenti non sarebbero bastati a salvarti se avesseri acquistato in pieno i suoi poteri. Però conoscevo anche il suo punto debole. E così decisi. Saresti stato protetto da un'antica magia che Voldemort conosce ma disprezza e ha perciò sempre sottovalutato a proprie spese. Mi riferisco naturalmente al fatto che tua madre è morta per salvarti. Così facendo ti ha fornito una protezione duratura che Voldemort non aveva previsto, una protezione che ancora ti scorre nelle vene. Perciò riposi la mia fiducia nel sangue di tua madre. Ti affidai a sua sorella, la sua unica parente ancora in vita. Ma lei non mi vuole bene, disse subito Harry. Non le importa una C. Però ti ha accolto, lo interruppe Silente, malvolentieri, furibonda, controvoglia, disprezzando quello che sei. Ma ti ha accolto. E così facendo ha suggellato l'incantesimo che avevo posto su di te. Grazie al sacrificio di tua madre il legame del sangue è lo scudo più forte che potessi fornirti. Ancora non... Finché potrai chiamare casa, il posto dove vive un consanguineo di tua madre, là non puoi essere toccato né colpito da Voldemort. È stato lui a versare il sangue che ancora vive in te e nella sorella di tua madre. Quel sangue è diventato la tua protezione. Devi tornarci una volta all'anno, ma finché puoi chiamare casa a quel posto, finché sei lì, Voldemort non può farti del male. Tua zia lo sa. Gliel'ho spiegato nella lettera che lasciai insieme a te davanti alla sua porta. Sa che accogliendoti ti ha con ogni probabilità donato quindici anni di vita. Aspetti, disse Harry. Aspetti un momento. Harry si raddrizzò sulla sedia e fissò Silente. Gli era spedita lei la strillettera. Le ha detto di ricordare. Era la sua voce. Ho ritenuto necessario, disse Silente inclinando appena il capo, ricordarle il patto che aveva sigillato accogliendoti. Sospettavo che dopo l'attacco dei dissennatori si fosse resa pienamente conto dei pericoli di averti come figlio adottivo. «E' così», mormorò Harry. «Beh, mio zio più di lei. Voleva buttarmi fuori, ma dopo l'arrivo della strillettera lei, mia zia, ha detto che dovevo restare». Abbassò un momento lo sguardo, per poi rialzarlo. «Ma cosa c'entra questo col...» Non riuscì a pronunciare il nome di Sirius. «Cinque anni fa», continuò Silente, come se non avesse mai interrotto la sua storia, «sei arrivato a Hogwarts. Forse non felice né nutrito come avrei desiderato, ma vivo e in buona salute. Non un principino viziato, ma un ragazzo normale, per quanto lo permettessero le circostanze. Fino ad allora il mio piano aveva funzionato». «E poi, beh, ricorderai che cos'è successo durante il tuo primo anno a Hogwarts, hai affrontato splendidamente la sfida che ti aspettava, e presto, molto prima di quanto avessi previsto, ti sei trovato faccia a faccia con Voldemort. E di nuovo sei sopravvissuto. Meglio ancora, gli hai impedito di riacquistare i suoi pieni poteri. Hai lottato come un uomo. Ero fiero di te, più di quanto tu possa immaginare. Ma nel mio meraviglioso piano c'era una pecca», disse Silente, «una pecca ovvia. E già allora ero consapevole che avrebbe potuto mandarlo a rotoli. Eppure, sapendo quanto fosse importante che il mio piano avesse successo, decisi di non permettere a quell'unica pecca di rovinarlo. Io solo potevo impedirlo. Perciò io solo dovevo essere forte. E affrontai la mia prima prova quando tu eri in infermeria, ancora debole dopo la battaglia contro Voldemort. Ma di cosa? Non ricordi di avermi chiesto là in infermeria perché Voldemort aveva tentato di ucciderti quando eri piccolissimo? Harry annuì. Avrei dovuto dirtelo allora? Harry fissò gli occhi azzurri di Silente e non rispose, ma di nuovo il suo cuore accelerò i battiti. Non hai ancora trovato la pecca? No, forse no. Come sai, decisi di non risponderti. Undici anni. Eri troppo giovane. Non avevo l'intenzione di dirtelo quando avevi appena undici anni. Sarebbe stato troppo per un ragazzo di quell'età. Avrei dovuto riconoscere immediatamente i segnali di pericolo allora. Mi sarei dovuto chiedere perché ero così poco turbato dal fatto che mi avevi già posto la domanda alla quale, lo sapevo bene, un giorno avrei dovuto dare una risposta terribile. Mi sarei dovuto accorgere che ero troppo felice di non doverlo fare quel giorno. Eri troppo, troppo giovane. E così arriviamo al tuo secondo anno a Hogwarts. Di nuovo hai incontrato sfide che nemmeno maghi adulti hanno mai affrontato e di nuovo ti sei comportato meglio che nei miei sogni più entusiastici. Tuttavia non hai chiesto di nuovo perché Voldemort ti aveva lasciato quel marchio. Abbiamo parlato della cicatrice, sì, siamo arrivati molto, molto vicini all'argomento. Perché non ti ho rivelato tutto? Mi dicevo che dodici anni non erano molto più di undici, troppo pochi per ricevere un simile fardello. Così ti ho lasciato andare, insanguinato, esausto ma euforico. E se ho provato una fitta di inquietudine, se mi ha colto il dubbio che avrei fatto meglio a parlare, l'ho messo in fretta a tacere. Eri ancora così giovane, non avevo il coraggio di sciuparti quella notte di trionfo. Adesso la vedi, Harry? Vedi la pecca nel mio piano geniale? Ero caduto nella trappola che avevo previsto, che mi ero sforzato di evitare, che dovevo evitare. Io non mi ero troppo affezionato a te, spiegò Silente con semplicità. Tenevo più alla tua felicità che a farti conoscere la verità, più alla tua serenità che al mio piano, più alla tua vita che alle vite che sarebbero state in pericolo se io avessi fallito. In altre parole, ho agito esattamente come Voldemort si aspetta che agiscano gli sciocchi in grado di amare. Che cosa posso dire in mia difesa? Sfido chiunque ti abbia osservato, come ho fatto io, con più impegno di quanto tu possa immaginare, a non desiderare di risparmiarti altre sofferenze. Che cosa importava che in un lontano futuro fossero massacrati sconosciuti senza nome né volto, se nel presente tu eri vivo e felice? Mai mi sarei sognato di avere vicino qualcuno come te. Poi, al terzo anno, ti ho osservato mentre lottavi per respingere i dissenatori. Mentre trovavi Sirius, scoprivi chi era, lo salvavi. Avrei dovuto dirtelo allora, quando hai strappato vittoriosamente il tuo padrino dalle grinfie del ministero? Ormai avevi tredici anni e io stavo esaurendo le scuse. Eri giovane, d'accordo, ma avevi dimostrato di essere eccezionale. Ero inquieto, Harry. Sapevo che presto sarebbe arrivato il momento. E poi, l'anno scorso, sei sbucato dal labirinto dopo aver visto morire Cedric Diggory ed essere sfuggito alla morte per un soffio. E ancora non ho parlato, pur sapendo quanto il ritorno di Voldemort lo rendesse urgente. E ora so che eri pronto da un pezzo a sapere quello che ti ho così a lungo nascosto. Stanotte ho avuto la prova che già da tempo avrei dovuto deporti sulle spalle questo peso. La mia unica scusa è che ho visto calare sulle tue spalle più fardelli di quanti ne abbia mai sopportati qualunque altro studente nella storia di questa scuola. E non sono riuscito a convincermi ad aggiungerne un altro, il più gravoso di tutti. Harry attese, ma silente tacque. Ancora non capisco. Quando eri piccolo, Voldemort aveva tentato di ucciderti a causa di una profezia fatta poco prima della tua nascita. Era al corrente della sua esistenza, ma ne ignorava l'esatto contenuto. Perciò aveva deciso di ucciderti quando eri ancora un neonato, perché era convinto di adempiere quella profezia. Ha scoperto a proprie spese che si era sbagliato quando la maledizione che avrebbe dovuto ucciderti era imbalzata su di lui. Così, da quando ha ripreso possesso del proprio corpo e in particolare dopo la tua incredibile fuga dell'anno scorso, ha deciso di ascoltare per intero la profezia. Era questa l'arma che cercava con tanta ostinazione, voleva che gli rivelasse come distruggerti. Il sole era ormai alto. L'ufficio di silente era immerso nella luce. La teca di vetro che conteneva la spada di Godric e Grifondoro scintillava di un bianco smorto. I frammenti e i cocci degli strumenti fracassati riducevano come gocce di pioggia sul pavimento, e alle spalle di Harry il piccolo Fox cinguettava sommesso nel suo nido di cenere. — La profezia si è rotta — disse Harry in tono spento. — Stavo portando Neville su per i gradini, là, nella stanza con l'arco. Gli ho strappato la veste e la sfera è caduta. Quella che si è infranta era solo la registrazione conservata nell'ufficio misteri, ma c'è una persona che ha sentito la profezia e la ricorda perfettamente. — Chi? — domandò Harry, ma in cuor suo già conosceva la risposta. — Io. L'ho ascoltata una fredda umida sera di sedici anni fa, in una stanza sopra la testa di porco. Ero lì per incontrare un aspirante alla cattedra di divinazione, anche se tutto sommato avrei preferito cancellare quella materia dai nostri programmi. Comunque la candidata era la proprio nipote di una veggente molto famosa e molto dotata, perciò mi parve educato incontrarla. È stata una delusione. Non ho trovato in lei la minima traccia del dono. Così le dissi, cortesemente mi augulo, che non mi sembrava adatta a occupare quel posto, e mi sai per andarmene. Silente si alzò e passò oltre Harry, diretto all'armadietto nero, vicino al trespolo di Fox. Si chinò, fece scorrere un chiavistello ed estrasse il basso bacile di pietra dal bordo ricoperto di rune, nel quale Harry aveva visto suo padre tormentare Piton. Tornò alla scrivania, vi posò il pensatoio e si avvicinò la bacchetta alla tempia, per estrarne fili di pensiero argentei e sottili come ragnatele, e deporli nel bacile. Si sedette di nuovo e per un momento guardò i propri pensieri turbinare e fluttuare dentro il pensatoio. Infine, con un sospiro, alzò la bacchetta e la infilò nella sostanza argentea. Una figura drappeggiata in scialli colorati, gli occhi enormi dietro le lenti, si erse dal bacile ruotando lentamente, i piedi immersi nel vortice argenteo. Ma quando Sibyl Trelonei parlò, non lo fece con l'abituale tono etereo e mistico. Aveva una voce aspra, rauca, che Harry aveva già sentito una volta. — Ecco giungere il solo col potere di sconfiggere il Signore Oscuro, nato da chi lo ha tre volte sfidato, nato sull'estinguersi del settimo mese. Il Signore Oscuro lo segnerà come suo e uguale, ma egli avrà un potere a lui sconosciuto, e l'uno dovrà morire per mano dell'altro, perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Il solo col potere di sconfiggere il Signore Oscuro nascerà all'estinguersi del settimo mese. Sempre roteando lentamente, la professoressa Trelonei sprofondò nella massa argentea e svanì. A lungo nell'ufficio regnò il silenzio. Né Silente né Harry né alcuno dei ritratti emise un suono. Anche Fox si era zittito. — Professore? disse Harry a voce molto bassa, perché Silente, lo sguardo ancora fisso sul pensatoio, sembrava immerso nei propri pensieri. — Questo significa... che cosa significa? — Significa, rispose Silente, che la sola persona in grado di sconfiggere una volta per tutte Lord Voldemort è nata quasi sedici anni fa, alla fine di luglio, da genitori che avevano già sfidato tre volte Voldemort. Harry aveva l'impressione che qualcosa si stesse chiudendo su di lui, aveva di nuovo il fiato corto. — Cioè... io? Silente sospirò. — Il fatto strano, Harry, sussurrò Silente, è che potevi non essere tu. La profezia di Sibyl poteva applicarsi a due giovani maghi. Entrambi erano nati quell'anno, alla fine di luglio, e i genitori di entrambi facevano parte dell'Ordine della Fenice, ed erano sfuggiti a Voldemort per tre volte. Uno, naturalmente, eri tu. L'altro era Neville Longbottom. — Ma allora... ma allora perché sulla profezia c'era il mio nome e non quello di Neville? — La registrazione ufficiale è stata rietichettata dopo l'attacco di Voldemort contro di te. Il custode della sala delle profezie era convinto che Voldemort avesse tentato di ucciderti perché sapeva che Sibyl si riferiva a te. Allora potrei non essere io. Temo, disse piano Silente, e sembrava che ogni parola gli costasse un enorme sforzo, che su questo non ci siano dubbi. Sei tu. — Ma, ha detto, anche Neville è nato alla fine di luglio, e i suoi genitori... ti mentichi la parte che segue, l'elemento finale che identifica chi è in grado di sconfiggere Voldemort. Voldemort stesso lo segnerà come suo e uguale. — E così ha fatto, Harry. Ha scelto te, non Neville. Ti ha inciso sulla fronte quella cicatrice, che si è dimostrata insieme una benedizione e una maledizione. — Ma potrebbe aver scelto il ragazzo sbagliato, esclamò Harry. Aver segnato la persona sbagliata. Ha scelto il ragazzo che, a suo parere, aveva più probabilità di costituire un pericolo, disse Silente. E nota bene, Harry, non il puro sangue, che secondo il suo credo è l'unico mago degno ad esistere, ma il mezzo sangue, come lui. Prima ancora di averti visto, si è riconosciuto in te. E nell'imprimerti quella cicatrice non ti ha ucciso, com'è la sua intenzione, ma ti ha dato un potere e un futuro che ti ha permesso di sfuggirgli non una volta, ma quattro. Un'impresa mai riuscita né ai tuoi genitori né a quelli di Neville. — Ma perché l'ha fatto allora? Harry si sentiva infreddolito e intorpidito. — Perché ha tentato di uccidermi quando ero un neonato? Perché non ha aspettato che Neville o io crescessimo, per poi uccidere quello che gli sembrava più pericoloso? — Sì, in effetti sarebbe stato logico, disse Silente, ma il fatto è che le sue informazioni sulla profezia erano incomplete. La testa di porco, che Sibyl aveva scelto perché costava poco, ha sempre attratto una clientela più, come dire, interessante dei tre manici di scopa. Come anche tu e i tuoi amici avete scoperto a vostre spese, è un posto dove non si è mai al sicuro da orecchie indiscrete. Naturalmente, quando avevo fissato l'incontro con Sibyl trelonei, non potevo immaginare che avrei sentito qualcosa di importante. Ma oh, abbiamo, avuto un colpo di fortuna. L'ascoltatore indesiderato è stato individuato e buttato fuori quando Sibyl aveva appena cominciato a declamare la profezia. Perciò ha sentito solo, solo l'inizio, la parte relativa alla nascita in luglio e ai genitori che avevano sconfitto tre volte Voldemort. Di conseguenza non ha potuto avvertire il suo padrone che attaccandoti avrebbe rischiato di trasferirti i suoi poteri e designarti quale suo è uguale. Perciò Voldemort non ha mai saputo che attaccarti poteva essere pericoloso, che sarebbe stato meglio aspettare. Non sapeva che avresti avuto un potere a lui sconosciuto. Ma non è vero, protestò Harry con voce strozzata. Non ho alcun potere che lui non abbia. Non potrei mai lottare come ha fatto lui stanotte. Non sono in grado di possedere altre persone né di ucciderle. Nell'ufficio misteri, lo interruppe Silente, c'è una stanza che viene tenuta sempre chiusa. Contiene una forza al tempo stesso più meravigliosa e più terribile della morte, dell'intelligenza umana e della natura. È forse la cosa più misteriosa fra le tante che vengono studiate laggiù. È la forza contenuta in quella stanza che tu possiedi in grande quantità e che Voldemort non possiede affatto. È stata quella a spingerti laggiù stanotte per salvare Sirius. E ti ha salvato dalla possessione di Voldemort, perché egli non può risiedere in un corpo tanto pieno della forza che lui detesta. Alla resa dei conti non ha avuto importanza che tu non riuscissi a chiudere la tua mente. È stato il tuo cuore a salvarti. Harry chiuse gli occhi. Se non fosse corso a salvare Sirius, Sirius non sarebbe morto. «La fine della profezia», chiese senza dare molta importanza alla risposta, più che altro per allontanare il momento in cui avrebbe dovuto pensare di nuovo a Sirius. Come diceva, era qualcosa come «Nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive», concluse Silente. «Ma questo», disse Harry, estraendo a fatica ogni parola dal profondo pozzo di disperazione che gli si era spalancato dentro. «Questo significa che uno di noi dovrà uccidere l'altro, alla fine?» «Sì», rispose Silente. Rimasero a lungo in silenzio. Da qualche parte fuori di lì, Harry sentì un suono di voci, forse studenti diretti alla sala grande, per una colazione di buon mattino. Sembrava impossibile che al mondo ci fossero ancora persone che avevano voglia di mangiare e ridere, persone che non sapevano della scomparsa di Sirius Black, che non soffrivano per la sua morte. Sirius sembrava già lontano milioni di chilometri, eppure una parte di Harry ancora credeva che se solo avesse scostato quel velo avrebbe scoperto Sirius che gli restituiva lo sguardo, pronto a salutarlo con la sua risata simile a un latrato. «Sento di doverti un'altra spiegazione, Harry», disse Silente esitando. «Ti sarai forse chiesto perché non ti ho nominato prefetto. Confesso di aver pensato che avevi fin troppe responsabilità sulle spalle». Quando Harry alzò lo sguardo, vide una lacrima scivolare sul viso di Silente e scomparire dentro la lunga barba d'argento. La seconda guerra comincia. Il ritorno di colui che non deve essere nominato. Venerdì notte una breve dichiarazione del ministro della magia Cornelius Fudge ha confermato che colui che non deve essere nominato è tornato ed è di nuovo in azione. «È con profondo rammarico che devo confermare la ricomparsa fra noi del mago che si fa chiamare Lord... beh, sapete a chi mi riferisco», ha detto Fudge ai cronisti stanco e sconvolto. «Quasi con pari rammarico dobbiamo informarvi che i dissennatori di Azkaban si sono rifiutati di proseguire il loro lavoro per conto del ministero e riteniamo siano ora passati agli ordini di Lord... coso?». Invitiamo alla vigilanza tutto il popolo magico. Il ministero sta già preparando guide alla difesa elementare, casalinga e personale, che nel corso del mese prossimo saranno distribuite gratis a tutte le famiglie di maghi. L'annuncio ha suscitato sgomento e allarme nella comunità magica, che appena mercoledì scorso aveva ricevuto dal ministro l'assicurazione che non ci fosse la minima verità nelle persistenti voci che voi sapete chi sia di nuovo fra noi. Ancora vaghi sono i particolari degli eventi che hanno condotto a questo spettacolare voltafaccia, ma si nutrono fondati sospetti che giovedì sera colui che non deve essere nominato e un gruppo di suoi seguaci noti come Mangiamorte si siano introdotti nello stesso ministero della magia. Albus Silente, reintegrato nella posizione di preside di Hogwarts, scuola di magia e stregoneria, di membro della Confederazione Internazionale dei Maghi e di stregone capo del Wiesengamot, si è finora rifiutato di rilasciare dichiarazioni. Durante lo scorso anno aveva più volte affermato che voi sapete chi non era morto, come tutti avevano sperato e creduto, ma aveva ripreso a reclutare seguaci per tentare nuovamente di impadronirsi del potere. Intanto il ragazzo che è sopravvissuto... Questo sei tu, Harry. Lo sapevo che ti avrebbero tirato in ballo, commentò Hermione, lanciandogli un'occhiata al di sopra del giornale. Erano in infermeria. Harry era seduto in fondo al letto di Ron ed entrambi ascoltavano Hermione leggere la prima pagina del Profeta della Domenica. Ginny, la cui caviglia era stata guarita in un baleno da Madame Pomfrey, era raggomitolata ai piedi del letto di Hermione. Neville, col naso tornato a forma e dimensioni normali, era seduto su una poltrona in mezzo ai due letti, e l'una, che era passata per una breve visita, leggeva l'ultimo numero del cavillo tenendolo capovolto, in apparenza senza ascoltare una parola di quello che Hermione stava dicendo. «Così adesso è di nuovo il ragazzo che è sopravvissuto, eh?» disse Ron. «Non più un esibizionista visionario, eh?» Prese una manciata di cioccorane dal mucchio sul comodino, ne passò qualcuna a Harry, Ginny e Neville e strappò coi denti l'incarto della sua. Aveva ancora grosse vesciche sulle braccia, laddove si erano avvolti i tentacoli del cervello. Secondo Madame Pomfrey, i pensieri potevano lasciare cicatrici più profonde di qualunque altra cosa, anche se da quando aveva cominciato ad applicare grandi quantità di unguento obbliviante del dottor Ably, c'erano stati notevoli miglioramenti. «È vero, Henry», disse Hermione scorrendo l'articolo, «ora non fanno che riempirti di complimenti». Una voce solitaria che gridava la verità, benché ritenuto instabile dai più, non una volta avvacillato, costretto a sopportare ridicolo e calunnie. «Hmm», commentò accigliata, «però sorvolano sul fatto che era proprio il profeta a coprirti di ridicolo e di calunnie». Sussultò e si portò una mano alle costole. La maledizione di Dolohov, benché meno efficace di quanto sarebbe stata se pronunciata a voce alta, le aveva comunque causato, per dirla con le parole di Madame Pomfrey, abbastanza danni da tenerla buona. Hermione doveva prendere ogni giorno dieci pozioni diverse, ma stava già molto meglio ed era pronta a lasciare l'infermeria. «L'ultimo attacco di voi sapete chi? Da pagina 2 a pagina 4. Quel che il ministro avrebbe dovuto dirci, pagina 5. Perché nessuno ha ascoltato Albus Silente, da pagina 6 a pagina 8. Intervista esclusiva con Harry Potter, pagina 9. Beh», commentò ripiegando il giornale e accantonandolo, «di sicuro ha fornito loro parecchio materiale e l'intervista con Harry non è un'esclusiva, e quella comparsa sul cavillo mesi fa». «Gliel'ha venduta papà», disse distrattamente Luna, voltando una pagina del cavillo. «Ne ha ricavato abbastanza da organizzare una spedizione in Svezia quest'estate, alla ricerca del ricciocorno schiattoso». Per un momento Hermione parve sostenere una lotta contro se stessa. «Sembra interessante», disse alla fine. Ginny intercettò lo sguardo di Harry e distolse rapidamente il suo, sorridendo. «Allora», riprese Hermione, si mise un po' più dritta e sussultò di nuovo. «Che cosa succede a scuola?» «Beh, Flitwick ha eliminato la palude di Fred e George», disse Ginny. «Ci ha messo più o meno tre secondi, però ne ha lasciata un po' sotto la finestra e ci ha messo intorno una fune». «Perché?», chiese stupita Hermione. «Oh, ha detto che era una magia niente male», rispose Ginny, scrollando le spalle. «Secondo me l'ha lasciata come monumento a Fred e George», osservò Ron, masticando cioccolata. «Queste me le hanno mandate loro», disse a Harry, indicando la montagnola di cioccorane. «Il loro negozio di scherzi deve andare bene, eh?» Hermione gli lanciò un'occhiata di disapprovazione e poi chiese «Allora col ritorno di Silente sono finiti i problemi?» «Sì», rispose Neville, «tutto è tornato alla normalità». «Filch sarà contento», commentò Ron, appoggiando una figurina con l'immagine di Silente alla brocca dell'acqua. «Per niente», disse Ginny, «è tristissimo», abbassò la voce. «Non fa che ripetere che la Umbridge era la cosa migliore mai capitata a Hogwarts». Voltarono tutti e sei la testa. La professoressa Umbridge, che occupava un letto di fronte a loro, teneva lo sguardo fisso al soffitto. Silente si era inoltrato da solo nella foresta per strapparla ai centauri. Come ci fosse riuscito, come avesse fatto a riemergere dagli alberi insieme a lei senza nemmeno un graffio, nessuno lo sapeva. E di sicuro la Umbridge non l'aveva raccontato. Da quando era tornata al castello non aveva pronunciato una sola parola, almeno per quanto ne sapevano loro. Nessuno capiva che cosa avesse. I suoi capelli color topo, di solito impeccabili, erano arruffati e ancora pieni di ramoscelli e foglie, ma a parte questo sembrava in condizioni normali. «A sentire Madame Pomfrey è sotto shock», bisbigliò Ermione. «Secondo me sta solo tenendo il broncio», disse Ginni. «Però t'assegni di vita se fai così», aggiunse Ron e schioccò piano la lingua in un clop-clop sommesso. La Umbridge si sedette di scatto e si guardò attorno frenetica. «Qualcosa non va, professoressa?», si informò Madame Pomfrey, affacciandosi dal suo ufficio. «No, no», rispose la Umbridge e sprofondò di nuovo nei cuscini. «Devo aver sognato», Ermione e Ginni soffocarono le risate nelle lenzuola. «A proposito di centauri», chiese ancora Ermione quando si fu ripresa, «chi è ora l'insegnante di divinazione? Firenze resterà?» «Per forza», stavolta fu Erri a risponderle. «Gi altri centauri non hanno intenzione di riaccoglierlo». «A quanto pare insegneranno sia lui sia la Trelonei», aggiunse Ginni. «Però a Silente piacerebbe potersi sbarazzare della Trelonei», disse Ron, attaccando la quattordicesima cioccorana. «Sia chiaro, per me divinazione è tutta inutile, e Firenze non è molto meglio di lei». «Come fai a dire una cosa del genere?», protestò Ermione. «In fondo abbiamo appena scoperto che esistono vere profezie». Il cuore di Erri batte più forte. Non aveva confidato a nessuno, né a Ron, né a Ermione, né a nessun altro, il contenuto della profezia. Neville aveva spiegato loro che la sfera si era rotta mentre Erri lo trascinava su per i gradini nella camera della morte, e lui non aveva aggiunto altro. Non ci teneva a vedere la loro espressione quando avesse rivelato che doveva diventare assassino o vittima, che non c'erano altre possibilità. «Peccato che si sia rotta», disse Ermione piano, scuotendo il capo. «Vero», concordò Ron, «ma così nemmeno voi sapete chi ha scoperto quello che diceva». «Dove vai?», aggiunse, insieme sorpreso e deluso, vedendo Erri alzarsi. «Da Hagrid, è appena tornato, e gli ho promesso di passare a salutarlo e dirgli come state». «Oh, va bene», disse Ron imbronciato, guardando la macchia di luminoso cielo azzurro al di là della finestra. «Vorrei tanto poter venire anch'io. Salutalo da parte nostra», gridò Ermione, mentre Erri si allontanava lungo la corsia, «e chiedegli come sta il suo piccolo amico». Uscendo, Erri agitò una mano per mostrare che aveva sentito e capito. Il castello sembrava molto silenzioso per essere domenica. A quanto pareva, erano tutti sul prato a godersi la fine degli esami e la prospettiva degli ultimi giorni di scuola liberi da ripassi e compiti. Percorse lentamente il corridoio deserto, guardando di tanto in tanto fuori dalle finestre. Vide alcuni studenti svolazzare sopra il campo di Quidditch e qualcun altro che nuotava nel lago insieme alla piovra gigante. Non riusciva a capire se voleva o no stare in compagnia. Ogni volta che era con qualcuno desiderava stare solo, e ogni volta che era solo desiderava stare con qualcuno. Tanto valeva andare a trovare Hagrid, visto che da quando era tornato non avevano ancora fatto una chiacchierata come si deve. Era appena giunto in fondo alla scala di marmo nella sala d'ingresso quando Malfoy, Crabbe e Goyle emersero dalla porta sulla destra che conduceva alla sala comune di Serpeverde. Erri si bloccò, e così pure Malfoy e gli altri due. Gli unici suoni erano quelli che arrivavano dall'esterno, al di là del portone aperto, grida, risate, spruzzi. Malfoy si guardò attorno, chiaramente per controllare che non ci fossero insegnanti in giro. Poi tornò a fissare Erri e gli disse a voce bassa, «Sei morto, Potter!» Erri inarcole sopracciglia. «Buffo!» commentò. «Credevo che da morto avrei smesso di camminare». Malfoy era più furioso che mai, Erri provò una sorta di soddisfazione distaccata, vedendo una smorfia rabbiosa contorcergli la pallida faccia a guzza. «La pagherai», disse Malfoy con voce poco più forte di un sussurro. «Te la farò pagare per quello che hai fatto a mio padre». «Tremo di paura», replicò Erri sarcastico. «Immagino che Lord Voldemort sia una bazzecola in confronto a voi tre». «Che cosa c'è?» aggiunse, perché sentire quel nome sembrava averli turbati. «Non sono grandi amici lui e tuo padre? Non mi dirai che ti fa paura, eh?» «Ti credi in gamba, Potter», ringhiò Malfoy facendosi avanti insieme a Crabbe e Goyle. «Ma aspetta! Ti sistemerò io! Non puoi mandare mio padre in prigione!» «Mi pareva di averlo appena fatto. I dissenatori hanno abbandonato Askaban. Mio padre e gli altri saranno fuori in un baleno!» «Sì, immagino di sì», sospirò Erri. «Ma ormai tutti sanno che razza di canaglie sono!» La mano di Malfoy volò verso la bacchetta, ma Erri fu più rapido. Aveva estratto la sua prima che le dita di Malfoy riuscissero a infilarsi in tasca. «Potter!» La voce rimbombò nell'ingresso. Piton era emerso dalla scala che portava nel suo ufficio, e vedendolo, Erri provò un odio più intenso di quanto ne avesse mai provato per Malfoy. Qualunque cosa potesse dire Silente non lo avrebbe mai perdonato. Mai! «Che cosa fai, Potter?» chiese Piton gelido come sempre, avanzando a grandi passi verso i quattro. «Sto tentando di decidere quale maledizione usare contro Malfoy, signore», rispose impassibile Erri. Piton lo fissò. «Metti via subito quella bacchetta», ordinò Brusco. «Dieci punti meno per Griffon!» Lanciò un'occhiata alle grandi clessidre e sorrise sprezzante. «Ah! Vedo che a Griffon d'oro non sono rimasti punti da togliere. In tal caso, Potter, dovremo aggiungerne qualcuno?» La professoressa McGonagall aveva appena finito di salire a fatica la scalinata che portava nel castello. In una mano stringeva una borsa di stoffa scozzese e nell'altra un bastone al quale si appoggiava pesantemente, ma per il resto sembrava in gran forma. «Professoressa McGonagall», esclamò Piton, affrettandosi ad andarle incontro. «L'hanno dimessa dal San Mungo, vedo». «Sì, professor Piton», annui lei, facendosi scivolare dalle spalle il mantello da viaggio. «In pratica sono come nuova. Voi due, Crabbe, Goyle». In risposta a un suo gesto imperioso, entrambi strisciarono in avanti con aria imbarazzata. «Tenete!» La professoressa McGonagall consegnò la borsa a Crabbe e il mantello a Goyle. «Portate queste cose nel mio ufficio». I due fecero dietro front e salirono a passi grevi la scala di marmo. «Bene, bene», disse la professoressa McGonagall, alzando lo sguardo verso le clessidre. «Penso che Potter e i suoi amici dovrebbero ricevere 50 punti ciascuno, per aver avvertito il mondo del ritorno di voi sapete chi. Che cosa ne dice, professor Piton?» «Come?», sbottò Piton, anche se Harry sapeva che aveva sentito benissimo. «Oh, beh, suppongo...». «Perciò fanno 50 punti l'uno per Potter, i due Weasley, Longbottom e la signorina Granger», contò la professoressa McGonagall. Mentre parlava, una pioggia di rubini cadde sul fondo della clessidra di Grifondoro. «E 50 anche per la signorina Lovegood», direi, aggiunse, e un certo numero di zaffiri cadde nella clessidra di Corvo Nero. Ora, se non sbaglio, lei voleva toglierne dieci al signor Potter, vero, professor Piton? Perciò alcuni rubini risalirono nel bulbo di sopra, lasciando comunque decisamente pieno quello di sotto. «Bene, Potter, Malfoy, con una giornata così bella dovreste essere fuori. proseguì vivacemente la professoressa McGonagall. Senza farselo ripetere, Harry infilò la bacchetta in tasca e puntò verso il portone, senza degnare di un'altra occhiata, Piton e Malfoy. Mentre attraversava il prato, diretto alla capanna di Hagrid, il sole rovente lo colpì come una fiammata. Molti studenti distesi sull'erba a prendere il sole, chiacchierare, leggere il profeta della domenica e mangiare dolci, alzarono lo sguardo al suo passaggio. Alcuni lo chiamarono o lo salutarono, ansiosi di mostrare che anche loro, come il profeta, avevano deciso di considerarlo un eroe. Harry non rivolse la parola a nessuno. Non aveva idea di quanto sapessero degli avvenimenti di tre giorni prima, ma era riuscito a evitare le domande e preferiva che continuasse così. Subito, quando bussò alla porta della capanna e nessuno rispose, pensò che Hagrid fosse fuori, ma poi Zanna sbucò al galoppo da dietro l'angolo e lo salutò con tanto entusiasmo da scaraventarlo quasi a terra. Hagrid era nell'orto a raccogliere fagioli lampicanti. «Tutto bene, Harry!» disse sorridendo quando lo vide avvicinarsi alla staccionata. «Vieni, vieni, che ci facciamo una tazza di succo di dente di leone! Come va?» gli chiese mentre si sedevano al tavolo di legno davanti a due bicchieri pieni di succo ghiacciato. «Tu stai bene, sì?» dalla sua espressione preoccupata. Era chiaro che non si riferiva alla salute fisica. «Sto bene», rispose in fretta Harry, ansioso di evitare l'argomento. «Allora, dove sei stato?» «Sulle montagne, dentro una caverna, come Sirius quando...» Si interruppe, si schiarì la gola imbarazzato, guardò Harry e beve una lunga sorsata di succo. «Comunque, adesso sono tornato», concluse a disagio. «Tu stai... stai meglio?» disse Harry, sempre deciso a non parlare di Sirius. «Eh?» Hagrid alzò una manona per tastarsi la faccia. «Oh, sì, beh, adesso Gropp si comporta un sacco meglio, davvero. Sembrava proprio contento di rivedermi, sai? È un bravo ragazzo, sì. Chissà, magari posso trovarsi un'amichetta.» In condizioni normali, Harry avrebbe tentato in tutti i modi di fargli cambiare idea. La prospettiva che un secondo gigante, magari ancora più violento e brutale di Gropp, si stabilisse nella foresta era terrificante, ma al momento non aveva l'energia necessaria per mettersi a discutere. Desiderava di nuovo restare solo e, per far prima, trangugiò il succo a lunghe sorsate, quasi svuotando il bicchiere. «Adesso lo sanno tutti che dicevi la verità, Harry», osservò inaspettatamente Hagrid a voce bassa. «Le cose andranno meglio, no?» Harry scrollò le spalle. «Senti...» Hagrid si curvò sul tavolo verso di lui. «Conoscevo Sirius da più tempo di te. È morto in battaglia. È così che voleva andarsene.» «Non voleva affatto andarsene!» ribatte Harry rabbioso. Hagrid chinò il testone arruffato. «No, credo di no!» disse piano. «Ma, Harry, lui non era uno di quelli che stanno a casa e lasciano combattere gli altri. Non poteva mica perdonarsi se non veniva ad aiutar...» Harry si alzò di scatto. «Devo andare a trovare Ron e Hermione in infermeria», disse meccanicamente. «Oh!» Hagrid era turbato. «Oh, va bene allora, Harry. Stai bene. E passa a trovarmi se hai un momento...» «Sì, d'accordo.» Harry andò rapido alla porta e l'apri, e prima che Hagrid avesse finito di salutarlo, era di nuovo fuori, nel sole. Ancora una volta i ragazzi lo chiamarono. Chiuse gli occhi per un momento, augurandosi che sparissero tutti. Sarebbe stato bello riaprirli e trovarsi solo, sul prato. Pochi giorni prima, prima che gli esami finissero, prima dell'ultima visione inviatagli da Voldemort, avrebbe dato qualunque cosa perché tutti sapessero che diceva la verità, che Voldemort era tornato, che lui non era un bugiardo né un pazzo. Ma adesso... Per un po' continuò a camminare intorno al lago. Infine si sedette sulla riva, nascosto ai passanti da un groviglio di cespugli, e fissò l'acqua luccicante, riflettendo. Forse voleva stare solo, perché dopo la conversazione con Silente si era sentito isolato da tutti. Una barriera invisibile lo separava dal resto del mondo. Era, era sempre stato, una creatura segnata. Ma fino ad allora non aveva mai capito che cosa volesse dire. Eppure, seduto sulla riva del lago, oppresso come era dal dolore, con la perdita di Sirius ancora così fresca e recente, non riusciva a provare paura. Il sole sprendeva, i prati erano pieni di studenti gioiosi, e pur sentendosi lontano da loro come se appartenesse a un'altra razza, gli era ancora difficile credere che la sua vita dovesse includere o concludersi con l'omicidio. A lungo rimase seduto con lo sguardo fisso sull'acqua, sforzandosi di non pensare al suo padrino, di non ricordare che una volta Sirius era crollato sulla riva di fronte, tentando di tenere a bada un centinaio di dissennatori. Il sole tramontò prima che si rendesse conto di avere freddo. Si alzò e tornò al castello, passandosi una manica sulle guance bagnate. Tre giorni prima della fine della scuola, Ron e Ermione lasciarono l'infermeria del tutto ristabiliti. Ermione continuava a voler parlare di Sirius, ma Ron l'azzittiva ogni volta che lei ne pronunciava il nome. Quanto a Harry non era ancora sicuro di voler affrontare l'argomento. I suoi desideri variavano con il suo umore, ma di una cosa almeno era sicuro. Per quanto avvilito fosse, di lì a pochi giorni, una volta tornato al numero 4 di Privet Drive, avrebbe sentito da morire la mancanza di Hogwarts. E anche se ormai sapeva perché doveva tornarci ogni estate, non per questo si sentiva meglio. Anzi, non aveva mai temuto tanto di farvi ritorno. La professoressa Umbridge lasciò Hogwarts il giorno prima della fine delle lezioni. Sgattaiolò fuori dall'infermeria all'ora di cena, nella chiara speranza di allontanarsi inosservata, ma purtroppo per lei incontrò Peeves, che afferrò al volo l'ultima possibilità di obbedire a Fred e la inseguì allegramente fino al cancello, picchiandola un po' con un bastone da passeggio, un po' con una calza piena di gesso. Molti studenti corsero nella sala d'ingresso per assistere alla sua fuga, e i direttori delle case tentarono con scarsa convinzione di fermarli. Per la precisione, dopo qualche fiacca protesta, la professoressa McGonagall tornò a sedersi al tavolo degli insegnanti, esprimendo a gran voce il disappunto per non poterla inseguire personalmente, dal momento che Peeves le aveva preso il bastone. Arrivò l'ultima sera. Quasi tutti avevano finito di fare i bagagli e stavano scendendo per il banchetto di fine anno, ma Harry non aveva nemmeno cominciato a preparare il baule. «Fallo domani», disse Ron in attesa accanto alla porta del dormitorio. «Muoviti, muoio di fame. Non ci metterò molto, va avanti». Ma quando la porta del dormitorio si chiuse, Harry non si diede minimamente da fare. L'ultima cosa che desiderava era partecipare al banchetto da Dio. Temeva che nel discorso di fine anno Silente facesse qualche riferimento a lui. Di sicuro avrebbe parlato del ritorno di Voldemort, come già l'anno prima. Estrasse dal baule alcune vesti spiegazzate per sostituirle con altre piegate, e così facendo notò in un angolo un pacchetto incartato alla meno peggio. «Che cosa poteva essere?» Lo sfilò da sotto le scarpe da ginnastica e se lo rigirò fra le mani. Capì quasi subito che cos'era. Sirius gliel'aveva dato prima che lasciasse Grimaule Place. «Voglio che lo usi se hai bisogno di me. Intesi?» Si sedette sul letto e lo aprì. Ne cadde uno specchietto quadrato. Sembrava antico, di sicuro era sporco. Harry lo sollevò davanti al viso e il suo riflesso. Gli restituì lo sguardo. Lo voltò. Sul retro. Sirius aveva scarabocchiato. «Questo è uno specchio a doppio senso. Io ho l'altro. Se avessi bisogno di parlarmi, ti basterà pronunciare il mio nome. Apparirai subito nel mio specchio e io nel tuo». James e io li usavamo quando ci mettevano in punizione separati. Il cuore di Harry batté più forte. Quattro anni prima aveva visto i genitori nello specchio delle Emarb. E ora avrebbe potuto parlare di nuovo con Sirius. Lo sapeva. Si guardò attorno, per accertarsi di essere solo, e risollevò lo specchio davanti al viso con mani tremanti. «Sirius!» chiamò con voce forte e chiara. Il suo respiro appannò il vetro. Sentiva l'eccitazione scorrere lì nelle vene. Avvicinò ancora di più lo specchio al volto, ma il vetro appannato gli restituì solo il riflesso dei suoi occhi. Ripulì il cristallo, escandendo ogni sillaba ripeté «Sirius Black». Niente. Il viso frustrato che compariva nello specchio era ancora e sempre il suo. «Sirius non aveva con sé lo specchio quando ha attraversato l'arco», sussurrò una vocina dentro la sua testa. «Per questo non funziona». Rimase immobile un istante. Poi scaraventò lo specchio nel baule dove si infranse. Per un intero, meraviglioso minuto era stato convinto che avrebbe rivisto Sirius, che gli avrebbe parlato di nuovo. La delusione gli bruciava in gola. Si alzò e prese a gettare alla rinfusa le sue cose nel baule, sopra lo specchio rotto. E poi lo fulminò un'idea. Un'idea migliore di uno specchio. Più grande, più importante. Come aveva fatto a non pensarci? Perché non l'aveva mai chiesto? Corse fuori dal dormitorio, giù per la scala a chiocciola. A stento si accorse di urtare contro i muri. Attraversò di volata la sala comune vuota e il buco del ritratto, ignorando la signora grassa, che gli gridò «Il banchetto sta per cominciare, sai! Devi sbrigarti!». Ma lui non aveva intenzione di andare al banchetto. Com'era possibile che quel posto brulicasse di fantasmi tutte le volte che non ti servivano. E ora, per quanto si affannasse a cercare, non vide nessuno, né vivo né morto. A quanto pareva, erano tutti nella sala grande. Davanti all'aula di incantesimi si fermò Ansante, pensando sconsolato che avrebbe dovuto aspettare come minimo la fine del banchetto. Aveva ormai rinunciato a ogni speranza, quando vide una forma trasparente fluttuare in fondo al corridoio. «Ehi! Ehi! Nick! Nick!». Il fantasma si riaffacciò dal muro e Harry vide lo stravagante cappello piumato e la testa pericolosamente dondolante di Sir Nicholas de Mimsy Porpington. «Buonasera!» lo salutò sorridendo il fantasma, mentre finiva di estrarre il resto del corpo dalla pietra. «Non sono l'unico assente, dunque, anche se...» e sospirò, in un senso piuttosto diverso, naturalmente. «Posso chiederle una cosa, Nick?» Una strana espressione comparve sul viso di Nick quasi senza testa, mentre si infilava un dito nella gorgera rigida e la strattonava, evidentemente per guadagnare tempo. Lasciò perdere solo quando il collo semistaccato parve sul punto di cedere del tutto. «Ehm... proprio adesso, Harry?» chiese sgomento. «Non potresti aspettare dopo il banchetto?» «No, Nick, per favore, ho bisogno di parlarle. Possiamo entrare qui dentro?» Apri la porta dell'aula più vicina e Nick, quasi senza testa, sospirò. «Oh, d'accordo!» si rassegnò. «Non posso far finta di non essermelo aspettato!» Harry tenne aperta la porta per lasciarlo passare, ma Nick preferì attraversare il muro. «Cos'è che si aspettava?» gli chiese Harry chiudendo la porta. «Che tu venissi a trovarmi?» rispose Nick, fluttuando verso la finestra e guardando i prati sempre più bui. «Capita, a volte, quando qualcuno subisce una perdita!» «Beh...» disse Harry, rifiutandosi di cambiare discorso. «È così. Sono... sono venuto a parlarle.» Nick rimase in silenzio. «Il fatto è, Harry trovava più difficile del previsto fare quel discorso. Insomma, lei è morto, però è ancora qui, giusto?» Nick sospirò e continuò a guardare fuori. «È così, no?» insiste Harry. «È morto, però sto parlando con lei. Può girare per Hogwarts e tutto, non è vero?» «Sì», rispose a voce bassa Nick quasi senza testa. «Vado in giro e parlo, sì.» «Quindi è tornato, giusto?» lo incalzò Harry. «Chi muore può tornare, sotto forma di fantasma. Non è costretto a sparire del tutto. Allora...» aggiunse impaziente quando Nick continuò a tacere. Finalmente, dopo una lunga esitazione, Nick quasi senza testa si decise a dire. «Non tutti possono tornare?» «Come sarebbe? Solo... soltanto i maghi.» «Oh!» Harry quasi rise di sollievo. «Allora è a posto. È di un mago che parlo. Quindi può tornare, no?» Nick voltò le spalle alla finestra e fissò Harry con aria mesta. «Non tornerà. Chi? Sirius Black.» «Ma lei l'ha fatto», disse Harry rabbioso. «È tornato. È morto, ma non è scomparso.» «Ai maghi è concesso di lasciare un'impronta di se stessi sulla terra, così che la loro ombra sbiadita continui a percorrere le stesse strade che calpestarono in vita. Ma solo pochissimi maghi scelgono di farlo.» «Perché?» chiese Harry. «Ma non importa. A Sirius non importa se è una cosa insolita. Tornerà. So che lo farà.» Ne era così convinto che si voltò verso la porta. Certo, per un attimo, che avrebbe visto un Sirius perlaceo e trasparente, ma raggiante, attraversarla per venirgli incontro. «Non tornerà», ripetè Nick. «Lui è... andato avanti.» «Come sarebbe andato avanti?» incalzò Harry. «Avanti dove? E senta, che cosa succede quando si muore? Dove si va? Perché non tornano tutti? Come mai questo posto non pullula di fantasmi? Perché?» «Non posso rispondere», disse Nick. «Lei è morto, no?» replicò Harry esasperato. «Chi può rispondere meglio di lei?» «Io avevo paura della morte», sussurrò Nick. «Ho scelto di restare. A volte mi chiedo se non avrei dovuto.» «Beh, questo non è né qua né là. In effetti io non sono né qua né là», sbottò in una risatina triste. «Io non so nulla dei segreti della morte, Harry, perché ho scelto questa meschina imitazione della vita. Credo che maghi istruiti svolgano approfondite ricerche sull'argomento nell'ufficio misteri.» «Non mi parli di quel posto», esclamò Harry. «Mi dispiace non esserti stato d'aiuto», disse gentilmente Nick. «Beh, adesso scusami, il banchetto sai com'è?» e fluttuò fuori dalla stanza, lasciando Harry solo, a fissare senza vederla la parete che Nick aveva appena attraversato. Perdere la speranza di poter rivedere Sirius e parlare ancora con lui fu come perderlo di nuovo. A passi lenti, oppresso dal dolore, riattraversò il castello deserto, chiedendosi se si sarebbe mai sentito di nuovo felice. Aveva svoltato l'angolo, imboccando il corridoio che portava al ritratto della signora grassa, quando vide qualcuno che attaccava un biglietto sulla bacheca, appesa alla parete. Una seconda occhiata gli bastò per riconoscere Luna. Non c'erano nascondigli, ormai lei doveva averlo sentito arrivare, e comunque Harry non aveva la forza di evitare nessuno. «Ciao», lo salutò in tono vago Luna, allontanandosi dalla bacheca e voltandosi a guardarlo. «Come mai non sei al banchetto?» le chiese Harry. «Ho perso quasi tutte le mie cose», gli rispose tranquilla Luna. «La gente le prende e le nasconde, sai, ma dato che è l'ultima sera, ho bisogno di riaverle, perciò ho messo un biglietto». Accennò alla bacheca, dove era affissa una lista di tutti i suoi libri e vestiti scomparsi, con la preghiera che le fossero restituiti. Harry si sentì invadere da una strana sensazione, un'emozione diversa dalla collera e dal dolore che lo attanagliavano dalla morte di Sirius. Gli ci volle qualche attimo per capire che era dispiaciuto per Luna. «Come mai ti nascondono le cose?» le chiese accigliato. «Oh, beh...» Luna scrollò le spalle. «Credo che mi trovino un po' strana. Certi mi chiamano Lunatica Lovegood, sai?» Harry la guardò e quella nuova sensazione di pietà si intensificò fino a diventare quasi dolorosa. «Non è un buon motivo», disse deciso. «Vuoi che ti aiuti a ritrovarle?» «Oh, no», Luna gli sorrise. «Ricompariranno, succede sempre alla fine. Era solo che volevo fare i bagagli stasera. Tu, piuttosto, come mai non sei al banchetto?» Harry scrollò le spalle. «Non me la sentivo». «No», disse Luna. I suoi occhi sporgenti, così stranamente nebulosi, lo scrutarono. «Immagino di no. L'uomo che i Mangiamorte hanno ucciso era il tuo padrino, vero?» «Me l'ha detto Ginny». Harry annuì con un gesto brusco, ma scoprì che per qualche motivo non gli dispiaceva parlarle di Sirius. Si era appena ricordato che anche Luna riusciva a vedere i testral. «Ahi», cominciò. «Voglio dire, chi...» «È morto qualcuno che conoscevi?» «Sì», rispose Luna con semplicità. «Mia madre. Era una strega straordinaria, ma aveva un debole per gli esperimenti, e un giorno uno dei suoi incantesimi è andato male. Avevo nove anni». «Mi dispiace», borbottò Harry. «Sì, è stato terribile», disse Luna in tono disinvolto. «A volte pensarci mi fa sentire ancora molto triste. Però ho sempre papà, e in fondo non è come se non dovessi rivederla mai più, no?» «No?» chiese Harry incerto. Luna scosse il capo in credula. «Ma dai, li hai sentiti anche tu, dietro il velo. Vuoi dire...» «Nella stanza con l'arco. Si nascondevano, tutto qui. Li hai sentiti?» Si guardarono negli occhi. Luna sorrideva appena. Harry non sapeva che cosa dire né pensare. Luna credeva a cose tanto assurde, però anche lui aveva sentito i sussurri dietro il velo. «Sicura che non ti serva una mano per cercare le tue cose?» le chiese di nuovo. «Oh no», rispose Luna, «no. Credo che andrò a mangiare il dolce e aspetterò che li compaiano. Succede sempre alla fine. Beh, buone vacanze, Harry». «Sì, sì, anche a te». Luna si allontanò e, mentre la seguiva con lo sguardo, Harry ebbe la sensazione che quel terribile senso di oppressione allo stomaco fosse un po' diminuito. Il giorno dopo, il viaggio sull'Hogwarts Express fu movimentato sotto diversi punti di vista. Per cominciare, Malfoy, Crabbe e Goyle, che evidentemente aspettavano da tutta la settimana l'occasione di colpire senza insegnanti fra i piedi, tesero un agguato a Harry mentre tornava dal bagno. E avrebbero forse avuto successo se non lo avessero attaccato davanti a uno scompartimento pieno di membri dell'ES che accorsero in suo aiuto. Quando Ernie McMillan, Anna Abbott, Susan Bones, Justin Finch-Fletchley, Anthony Goldstein e Terry Boot finirono di usare l'ampia gamma di fatture incantesimi che Harry aveva loro insegnato, Malfoy, Crabbe e Goyle somigliavano a tre lumaconi strizzati nella divisa di Hogwarts. Dopodiché, Harry, Ernie e Justin li infilarono nella rastrelliera dei bagagli e li lasciarono lì a spurgare. «Muoio dalla voglia di vedere la faccia di sua madre quando scenderà dal treno», commentò soddisfatto Ernie, osservando Malfoy contorcersi sopra di lui. Non gli aveva mai perdonato i punti sottratti a tassofrasso nel breve periodo di gloria della squadra d'inquisizione. «Invece la mamma di Goyle sarà contenta», osservò Ron, giunto a vedere che cosa succedeva. «È molto più carino del solito. A proposito, Harry, è arrivato il carrello e se vuoi qualcosa...» Harry ringraziò gli altri e tornò con Ron nel loro scompartimento, dove comprò un mucchio di calderotti e zuccotti di zucca. Ermione stava leggendo la gazzetta del profeta, Ginny completava un quiz sul cavillo e Neville accarezzava la sua mimbulus mimbletonia, che durante l'anno era cresciuta parecchio e ora emetteva strani suoni soddisfatti quando veniva toccata. Harry e Ron passarono la maggior parte del viaggio, giocando a scacchi magici, mentre via via Ermione leggeva ad alta voce qualche frammento del profeta, fitto di articoli su come respingere i dissennatori, tentativi del ministero per intracciare i mangiamorte e lettere di gente isterica che sosteneva di aver visto Lord Voldemort passare davanti a casa quella mattina. Non è ancora cominciata, sospirò Tetra chiudendo il giornale, ma non ci vorrà molto. Ehi, Harry, bisbigliò Ron accennando alla porta a vetri che dava sul corridoio. Harry si voltò. Cho stava passando insieme a Marietta Edgecombe, che era imbacuccata in un passamontagna. Per un attimo i loro occhi si incrociarono. Cho arrossì e continuò a camminare. Harry riportò lo sguardo sulla scacchiera in tempo per vedere il cavallo di Ron scacciare una delle sue pedine. «Come va fra voi due?» chiese Ron. «Non va», rispose sinceramente Harry. «Io ho sentito che adesso esce con qualcun altro», disse incerta Ermione. Harry fu sorpreso di scoprire che quella notizia non gli faceva né caldo né freddo. Il desiderio di conquistare ciò apparteneva a un passato ormai scomparso. Provava la stessa sensazione per molte cose che gli erano sembrate importanti prima della morte di Sirius. La settimana trascorsa dall'ultima volta che aveva visto il suo padrino sembrava infinitamente lunga. Si stendeva attraverso due universi, quello con Sirius e quello senza di lui. «Meglio per te, Harry», commentò Ron. «Insomma, è carina e tutto, ma a te serve una ragazza più allegra». «Probabilmente abbastanza allegra con qualcun altro», replicò Harry con un'alzata di spalle. «Con chi esce adesso?» chiese Ron a Ermione. Ma fu Ginny a rispondergli. «Con Michael Corner», disse. «Michael, ma...» Ron si voltò a guardarla sbalordito. «Ma non ci uscivi tu?» «Non più», rispose Ginny decisa. «Non gli è andata giù che Grifondoro abbia sconfitto Corvo Nero a Quidditch. È diventato così musone che l'ho mollato e lui si è precipitato a consolare ciò». Si grattò il naso con la penna, rigirò il cavillo e cominciò a controllare le risposte esatte. Ron era raggiante. «L'ho sempre detto che era un idiota», disse spingendo la sua regina verso una tremante torre di Harry. «Hai fatto un affare. Basta che tu scelga meglio la prossima volta». Così dicendo, lanciò a Harry una strana occhiata furtiva. «Beh, ho scelto Dean Thomas. Ti sembra meglio?» lo informò Ginny distratta. «Che cosa?» strillò Ron, rovesciando la scacchiera. Grattastinchi si lanciò all'inseguimento dei pezzi, mentre Edvige e Leo cinguettavano e tubavano irritati. Il treno rallentò avvicinandosi a King's Cross e Harry si disse che non aveva mai desiderato meno di tornare a Privet Drive. Si chiese fuggevolmente che cosa sarebbe successo se si fosse rifiutato di scendere, se fosse rimasto seduto lì fino al primo settembre, quando il treno lo avrebbe riportato a Hogwarts. Ma quando infine il treno si fermò sbuffando, prese la gabbia di Edvige e si preparò a trascinare giù il baule, come al solito. Comunque, quando il controllore segnalò a lui, Ron e Ermione, che potevano attraversare senza rischi la barriera magica fra la piattaforma 9 e la piattaforma 10, trovò una sorpresa dall'altro lato. Un gruppo di persone che non si sarebbe mai aspettato di vedere. C'era Malocchio Moody, la bombetta incrinata a nascondere l'occhio magico che gli dava un'aria decisamente sinistra, la stessa in effetti che avrebbe avuto senza bombetta. Le mani nodose strette sul pomo di un lungo bastone, il corpo avvolto in un ampio mantello da viaggio. Tonks era subito dietro di lui, i capelli rosa acceso, scintillanti nel sole che entrava dai lucernari sporchi della stazione, un paio di jeans costellati di toppe e una sgargiante maglietta viola con la scritta Weird Sisters. Accanto a lei c'era Lupin, pallido, i capelli ingrigiti, un lungo pastrano logoro sopra un maglione e un paio di pantaloni trasandati. E davanti a tutti c'erano il signore e la signora Weasley, agghindati nel loro migliore stile babbano, e Fred e George, entrambi con giubbotti nuovi fiammanti di uno squamoso materiale verde livido. «Ron! Ginny!» gridò la signora Weasley e corse ad abbracciarli. «Harry, caro, come stai?» «Bene», mentì Harry, lasciandosi stringere anche lui in un abbraccio. Al di sopra della spalla della signora vide Ron guardare l'abbigliamento dei gemelli con gli occhi sbarrati. «E questi che cosa sarebbero?» chiese indicando i giubbotti. «Pelle di drago di prima qualità, fratellino!» rispose Fred dando uno strattone alla cerniera. «Gli affari vanno a gonfie vele e così abbiamo deciso di farci un regalo!» «Ciao, Harry!» lo salutò Lupin quando la signora Weasley lo lasciò andare per dedicarsi a Ermione. «Ciao! Non mi aspettavo! Che cosa ci fate tutti qui?» «Beh!» rispose Lupin con un sorrisetto. «Volevamo fare quattro chiacchiere con i tuoi zii prima che ti riportassero a casa!» «Non so se è una buona idea!» disse subito Harry. «Oh, io credo di sì!» ringhiò Moody che si era avvicinato zoppicando. «Sono quelli, Potter?» accennò col pollice alle proprie spalle. A quanto pareva l'occhio magico stava guardando attraverso la nuca e la bombetta. Harry tese il collo a sinistra per vedere le persone indicate da malocchio e scorse proprio i tre Dursley con l'aria inorridita alla vista del suo comitato di accoglienza. «Ah, Harry!» esclamò il signor Weasley voltando le spalle ai genitori di Ermione che aveva appena salutato con entusiasmo e che ora abbracciavano la figlia a turno. «Allora? Andiamo?» «Sì, direi di sì, Arthur!» replicò Moody. Lui e il signor Weasley precedettero il gruppetto attraverso la stazione, verso i Dursley, che sembravano aver messo le radici. Hermione si liberò con dolcezza dall'abbraccio della madre per unirsi a loro. «Buon pomeriggio!» disse allegramente il signor Weasley a zio Vernon, fermandosi davanti a lui. «Forse si ricorderà di me! Mi chiamo Arthur Weasley!» Considerato che due anni prima il signor Weasley gli aveva praticamente demolito gran parte del salotto, Harry dubitava che zio Vernon se lo fosse scordato, e infatti lo zio assunse una più calda sfumatura color pulce e fissò il signor Weasley con occhi di fuoco, ma preferì non rispondere, in parte forse, perché i Dursley erano in netta minoranza numerica. Zia Petunia sembrava insieme spaventata e imbarazzata. Continuava a guardarsi attorno, come atterrita, all'idea che qualche conoscente potesse vederla in una simile compagnia. Quanto a Dudley, si sforzava di apparire piccolo e insignificante, con scarsissimo successo. «Volevamo fare quattro chiacchiere con voi a proposito di Harry», disse il signor Weasley sempre sorridendo. «Sì», ringhiò Moody, «su come lo trattate quando sta a casa vostra, per la precisione». I baffi di zio Vernon sembrarono rizzarsi per l'indignazione. Forse perché la bombetta gli diede l'errata impressione di avere a che fare con uno spirito affine, si rivolse a Moody. «Non mi risulta che sia a far vostro quello che succede in casa mia». «Con quello che non ti risulta, Dursley, si potrebbe riempire un'enciclopedia», ringhiò di rimando Moody. «Non è questo il punto», intervenne Tonks, i cui capelli rosa parevano turbare zia Petunia più di tutto il resto, tanto che chiuse gli occhi per non guardarla. «Il punto è, se veniamo a sapere che trattate male Harry e non illudetevi, lo verremo a sapere», aggiunse Lupin in tono affabile. «Sì», disse il signor Weasley, «se non gli lasciate usare il feletono». «Telefono», lo corresse Hermione. «Sì, se ci arrivasse voce che Potter viene maltrattato in un qualunque modo, dovrete risponderne a noi», concluse Moody. Zio Vernon si gonfiò minaccioso. Per un attimo la sua dignità offesa parve superare perfino la paura che gli incuteva quel branco di svitati. «Mi sta forse minacciando, signore?», chiese a voce così alta da far voltare i passanti. «Proprio così», rispose Malocchio, soddisfatto che Zio Vernon avesse afferrato il nocciolo della questione tanto alla svelta. «Le sembro il tipo d'uomo che si fa intimidire?», l'atrozio Vernon. «Beh!» Moody spinse indietro la bombetta per mostrare il sinistro, roteante occhio magico. Inorridito, Zio Vernon fece un balzo indietro e urtò dolorosamente contro un carrello. «Sì, direi proprio di sì, Darsley», concluse Moody. Gli voltò le spalle e squadrò Harry da capo a piedi. «Allora, Potter, se hai bisogno di noi, facci un fischio. Se non riceviamo tue notizie per tre giorni di fila, manderemo qualcuno a controllare». Zia Petunia soffocò un gemito. Era chiaro che stava pensando a quello che avrebbero detto i vicini se avessero visto tipi del genere risalire il vialetto. «Arivederci allora, Potter», grugnì Moody, stringendogli brevemente la spalla con una mano nodosa. «Abbi cura di te, Harry», disse piano Lupin. «Dacci notizie. Harry, ti faremo venire via di lì appena possibile», sussurrò la signora Weasley, abbracciandolo di nuovo. «A presto, Harry», disse Ron, teso, stringendogli la mano. «A prestissimo», disse con intensità Hermione. «Promesso». Harry annui. Non riusciva a trovare le parole per spiegare che cosa significasse per lui vederli tutti schierati lì al suo fianco. Invece sorrise, levò una mano in segno di saluto, si voltò e uscì dalla stazione verso la via illuminata dal sole, con Sio Vernon, Sia Petunia e Dudley che arrancavano nella sua scia. Harry Potter e l'Ordine della Fenice di J.K. Rowling è stato narrato da Francesco Pannofino. La traduzione del libro è a cura di Beatrice Masini in collaborazione con Valentina Daniele e Angela Ragusa. «Copyright testo J.K. Rowling, 2003». «Copyright edizione italiana, Adriano Salani, editore SPA, 2003». «Copyright registrazione audio, Pottermore 2017». «Edizione italiana, a cura di Stefano Bartezaghi». «Edizione audiolibro digitale, registrata in Italia da Audible e pubblicata da Pottermore from J.K. Rowling». «Pottermore» è un sito di intrattenimento digitale news ed e-commerce creato da J.K. Rowling. È ispirato ai suoi libri di Harry Potter e più in generale al mondo della magia. Pottermore è il luogo di intrattenimento perfetto per i fan di Harry Potter. Qui potrai scoprire di più sul tanto amato mondo della magia attraverso prodotti quali e-book, audiolibri digitali e molto altro». «Harry Potter characters, names and related indicia are trademarks and copyright of Warner Brothers Entertainment».